Io desideravo sapere perché faccio i giri nella creazione, faccio i giri nella redenzione, ma i giri nella santificazione in pratica non li faccio, non so farli bene, quindi se tu potessi darmi un aiutino in maniera da riuscire a fare anche nella santificazione. Gesù diceva, Luisa, e tutto ciò che faceva lo Spirito Santo ai santificandi, e quindi anche riparare i sacramenti, però secondo me è anche la stessa vita in giro nella santificazione. Già dice che vieni a respirare il mio respiro, a camminare nei miei passi, è già lo Spirito Santo che ho per il terzo filo, anche nella vita con uno, oltre a ciò che fa lo Spirito Santo sempre, opera nei sacramenti, opera nella santificazione delle armi, però anche nei gesti, scusate, quando tu vieni a pensare nel mio pensato, è già un'opera dello Spirito Santo che vuole vivere concretamente, realmente, come faceva il Luisa. E' un atto divino, anche direi, adesso vieni a ascoltare, vieni a ascoltare, è già un atto certificante, perché non sei più tu a farlo, ma Gesù dice, quindi è un'opera sua divina. Quello che Gesù sa in noi, allora... Sì, oltre di lui vuole che si riparano anche le opere buone, anche sempre, fatte con la santità umana, rifatte con quelle che lui ha fatto nel terzo filo, quindi ciò che poi ha fatto Luisa, poi è Luisa preposta a portare questi atti al trono dell'Eterno, quindi... Non sapevo di che li faccio. Ma anche in tutte le parole di Luisa, basta leggere i libri, anche quelle sono ispirazioni che ti dà lo Spirito Santo, tanto è vero che ogni volta che tu le leggi, scopri delle cose nuove, anche se le leggi mille volte, ma no, quella parola io non ci avevo pensato a questo, quindi queste anche sono ispirazioni del Spirito Santo. Ma poi è infinito, secondo me, puoi sempre pensare in cose diverse. Infatti io penso adesso a Luisa, che lei infinitamente contemporanea di Montata, ma è stata infinita per tutti. Ma poi quello che le leggero è solo un modo che lei ha scritto per darci le lettive, però poi sì, sono dolce, no? Lui vuole avere le copie, quindi... Entrare nell'atto unico è un atto santificante, perché Gesù del Dio è il mio che viene a fare, ovviamente. Ma con lui usare tutto in Gesù, con Gesù, Maria Santissima e Luisa, ma noi non sappiamo se con Luisa, io perlomeno faccio questa richiera, nel senso di dire, faccio miei anche gli atti di tutti i figli per diventare, passati, presenti e futuri. Io li abbraccio tutti, per cui offro al Padre, a nome di tutti quegli atti umani, gli atti cattivi che stanno facendo adesso in questo momento, come per esempio, in questo momento è una cosa importante, offrire il martirio di quei bambini che muoiono nell'acqua, proprio, perché tutto quello che stanno facendo a Gesù bambino, lo stanno veramente massacrando, questo Gesù bambino. Questa è... mi viene in mente di pensare alla... Alla strage degli innocenti. Ecco. Questi sono atti, secondo me, che fa Dio proprio, perché altrimenti ci dovrebbe proprio distruggere. Ah, è fatto. Quindi va a prendere proprio gli innocenti. E' interessante sentire, ovviamente, tutto... Anzi, grazie, veramente. Grazie. Grazie a Dio. No, grazie. Grazie allo Spirito Santo. È girato. Perché stiamo girando nello Spirito Santo. Tra l'altro questa domanda, che non è la domanda sua, è diciamo lo Spirito, no, che ci chiama a girare nei suoi atti. Allora, è una domanda legittima, nel senso che... È chiaro, ogni volta che noi entriamo nella Divina Volontà, ci dobbiamo entrare, entrando nell'umanità di Gesù. Allora, perché è Gesù che ci rivela il Padre, però noi entriamo nell'umanità di Gesù con lo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo noi non possiamo entrare nell'umanità di Gesù. Allora, il nostro atto di fusione nella Divina Volontà, c'è già il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Poi, giustamente, no, negli scritti, c'è tanto, 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 tante pagine che ci parlano del girare nella Divina Volontà negli atti della creazione, negli atti della redenzione. Un po' meno, giustamente, si parla in modo specifico, apparentemente, degli atti della santificazione. Anche se, nel volume 17, Luisa gira nella creazione, mette il suo diamo, la sua compagnia, la sua riparazione in tutti gli atti, però lo può fare sempre perché lo Spirito lo fa in lei. Quindi, questo è già il girare nella santificazione. Poi entra negli atti della redenzione, dice, il mio giro è completo. E Gesù dice, no, figlia mia, ti sei dimenticata, devi continuare con gli atti della santificazione. Cioè, entra nell'ordine della grazia. Allora, questo apre il campo aperto, il campo aperto di tutti gli atti della santificazione. Allora, giustamente, tutto quello che abbiamo sentito e detto finora, da una parte, nella Divina Volontà, ci sono come due piani, no? Allora, la Divina Volontà viene a fare tutto quello che facciamo in noi. Allora, la Divina Volontà lo fa in noi e lo Spirito Santo santifica tutto quello che facciamo. E quindi, la Divina Volontà dice, io mi abbasso a fare tutto quello che vuoi fare tu e lo faccio in te. Allo stesso tempo, però, alzati e vieni tu a fare tutto quello che faccio io. Allora, in questo, possiamo dire che gli atti della santificazione hanno due piani, due elementi. perché, giustamente, l'era del fiat volontastua è l'era della santificazione. Allora, nella misura in cui noi chiamiamo Gesù a fare tutto in noi, chi è che santifica? Chi è che divinizza il nostro atto? E' lo Spirito Santo. Allora, questo ci dice che ogni atto che noi facciamo nella Divina Volontà è girare nell'atto della santificazione dello Spirito. Perché è lo Spirito che attua in noi e in tutti questa santificazione. Allora, per questo è un campo aperto, quasi non se ne parla tanto, perché precisamente il leggere i volumi, l'applicare i volumi, il pregare nella Divina Volontà, il fonderci nella Divina Volontà, è lo Spirito che lo fa. Perché altrimenti, lui, Gesù ha detto io devo andare, se no il Paraclito non può venire. Il Paraclito non può venire. Sì, allora, stiamo ancora entrando, stiamo nel piano della Divina Volontà che viene a santificare tutti i nostri atti. E questa opera chi la fa? La fa lo Spirito. La fa lo Spirito. Adesso però, per dare legittimità alla tua domanda, perché giustamente noi abbiamo la necessità dell'ordine, della struttura anche nei nostri atti, lo Spirito dice io vengo a divinizzare tutto quello che fai, il tuo parlare, il tuo lati denti, eccetera, perché è Gesù che lo fa in te ed è lo Spirito che divinizza. Adesso però, tu vieni, vieni con me, elevati e vieni tu a partecipare a tutti i miei atti di santificazione. E allora, immaginiamoci questo giro, penso che ognuno lo può fare in tanti modi diversi. Io, per esempio, avendo visto una volta una novena allo Spirito Santo e altre cose, però ci si può immaginare come una serie di atti dello Spirito dalla storia, da ad intra, dall'eternità fino a tutto il tempo. Qualcosa ci possa dare una struttura. Così come noi andiamo negli atti della creazione seguendo la progressione della Genesi dai cieli alle sfere alla luna al sole alla terra al vento all'acqua al regno vegetale al regno animale l'uomo e così via. Poi entriamo negli atti dell'Antico Testamento le ore della notte prima della redenzione. Poi entriamo nella redenzione con l'immacolato concepimento, Maria nel Tempio, l'incarnazione, la vita nascosta, la vita pubblica, la morte, la risurrezione, l'ascensione di Gesù, la sua vita eucaristica, atti della redenzione. e gli atti della santificazione siccome sono per non li vediamo, non li tocchiamo, è più difficile per noi crearci questo giro, questa progressione. Però un suggerimento ci può essere. Per esempio iniziamo dal primo atto dello Spirito Santo. Il primo atto dello Spirito Santo insieme con il padre e con il figlio è l'atto ad intra. Allora io voglio iniziare il mio giro diciamo che ho concluso il mio giro nella redenzione l'assunzione di Maria Santissima l'assunzione di Maria Santissima la Chiesa ecco la Chiesa che deve camminare lo Spirito e dice Spirito Santo giriamo e dice figlia mia lo sai dove il mio primo atto eterno dice lo Spirito Santo il mio Spirito Santo dice il mio primo atto eterno sta nel mio procedere dal padre e dal figlio e quindi io voglio iniziare il numero uno mi voglio creare una mia piccola scaletta poi ognuno si crea la sua mia piccola scaletta no? di giro gli atti della santificazione è l'atto ad intra dove il padre genera il figlio il figlio ama il padre e l'amore dei due è la persona dello Spirito Santo e procede e quindi il mio primo atto nella santificazione non può che iniziare dall'atto ad intra allora dobbiamo fare questo sforzo noi entriamo nell'atto unico che contiene tutto però in questo momento stiamo facendo lo sforzo di dentro l'atto unico Gesù ha scritto 36 volumi proprio per sminuzzarci un pochino questo atto unico per darci una sequenza per la nostra mente che lavora nel tempo e nello spazio allora proprio come usassimo una catena del rosario anche se il centro della divina volontà sta in questo centro è l'umanità di Gesù allora però in questo momento quello che stiamo cercando di fare è seguire dei passettini che sono l'atto unico però siccome il mio cervello non ci arriva li devo sminuzzare questo è quello che fa Gesù con noi allora l'atto ad intra dove lo Spirito Santo procede io vedo entro in loro e vedo che cosa come abbiamo letto anche nelle nelle preghiere iniziali il vero regno dell'ordine della pace dove il modello della vera adorazione si trova dentro la Santissima Trinità e dove il padre adora se stesso nel figlio il figlio vede l'immagine di se stesso nel padre e questo scambio tra i due è la persona dello Spirito Santo è il procedere allora proprio perché loro si fondono la natura del vero amore è proprio quello di dare la vita per l'amato di fondersi nell'amato perché il nostro Dio è vero amore deve essere per forza un Dio uno e trino altrimenti sarebbe un Dio una persona perché si fondono nell'uno e poi per dare predominanza alla diversità alla varietà delle loro qualità si distinguono nei tre non che si separano si distinguono in tre e poi si tuffano nell'uno per poi distinguersi nei tre è un continuo morire per rivivere morire per vivere morire per vivere e questo è il modello del vero amore lo vediamo anche in Gesù lei è dovuto morire prima di nascere l'agonia di Gesù nel ventre sì nel ventre di Maria Santissima per poter nascere non c'è molta differenza tra la nascita di Gesù e la resurrezione di Gesù così come il venerdì santo ci dà la resurrezione allo stesso modo l'avvento ci dà la nascita questo l'avvento è il grande sconosciuto cominciamo a fare le feste di Natale ancora quando Gesù sta agonizzando nel ventre di Maria ci perdiamo ci perdiamo una grande cosa ci perdiamo la morte per poter rinascere ci perdiamo la fusione per poter per avere la distinzione tutto sta nella fusione morte per poi rinascere chiaro nella Santissima Trinità non c'è la sofferenza però per il peccato allora questa questa espressione del vero amore deve necessariamente passare per la morte che è la morte di sé per rivivere nell'altro e quindi Gesù muore per farci concepire in lui come lui ha posto il suo concepimento nel concepimento Gesù e Gesù ha potuto farlo perché perché lui ha preso il suo concepimento in lui non soltanto il suo concepimento ma tutte le pene gli accessi per poi nascere lo stesso pure nel venerdì santo per poter qui stiamo soltanto al primo passetto nel giro della santificazione l'atto ad intra ci potremmo fermare non so quanto tema l'atto ad intra però possiamo vedere che la Santissima Trinità in quest'atto ad intra vuole poi formare l'immagine di sé stessa sulla terra l'immagine di sé stessa sulla terra è la paternità divina quindi il padre con la sua paternità divina depositata in una creatura e questa si chiama maternità divina in Maria Santissima in una creatura chiamata maternità divina quindi il padre in terra la sua paternità sta nella maternità divina lui quasi ci ama con amore materno che è amore nascosto dietro a Maria il verbo il verbo che si fa carne e quindi in Gesù lo Spirito Santo che procede dai due è in Luisa come capostipite e nella procedenza della generazione dei figli della divina volontà quindi si vede che lo Spirito Santo in terra è la procedenza dei figli del divinvolere quindi per necessità il giro negli atti della santificazione sta negli atti fatti nella divina volontà in terra questo stesso è il giro nella santificazione per questo Gesù non lo sminuzza tanto però lo fa in un certo senso allora il primo atto per me io mi voglio fare questa scaletta atto giro nella santificazione atto ad intra Spirito Santo voglio stare con te ti adoro voglio procedere con te dal padre e dal figlio e in questo modo come su tu procedi dal padre e dal figlio la mia santificazione nella divina volontà grazie al capostipite Luisa che ha il primato di su tutti gli atti miei procede da Gesù e da Maria in cui ha depositato in Maria la paternità divina e l'incarnazione per formare la trinità in terra per me che atto magnifico il primo atto nella santificazione mamma prima che continui quindi possiamo prendere anche in realtà di tutto quello che è vero in modo di farli anche futuri perché mi pare che a un certo punto ci sia scritto mi pare io l'ho pure trascritto ma non ricordo se riferisco bene che Gesù dice nella mia volontà c'è il vuoto dell'atto della creatura che lo faccio nella mia volontà e riempire questo vuoto significa far scendere il regno completo divina io voglio fare una domanda a Marina scusa sì devo finire per il giro ah sì per il giro sì sì vabbè faccio la scelta in giro sì cioè volevo sapere quando si inizia appunto con l'atto all'intra io perlomeno faccio la scaletta così come viene la relazione la redenzione la santificazione che poi diventa santificante qualsiasi atto è un atto santificante quando io giro e ringrazio adoro benedico prendo questo atto lo ridò a Dio anche nel fiat creante perché quello è un atto di Dio un atto comunque santo e io lo faccio lui lo ringrazio lo do non tutti i gradori per grazie che nessuno dice benedico e si adoro quindi anche quello diventa poi un atto santificante un atto dello spirito sempre spirito esatto per questo allora per questo stiamo dicendo che Gesù non non dà a Luisa questa questa istruzione minuta su gire nella santificazione perché il vivere nella divina volontà è la santificazione però siccome ho preso la tua domanda sul serio stiamo cercando di fare un giro una proposta di giro che allora tutto quello che facciamo nella divina volontà è santificazione è il giro nella santificazione però per prendere la tua domanda sul serio possiamo volendo fare crearci una piccola scaletta no? devi ampliare noi abbiamo degli schemi perfetto ciò che fa lo spirito santo ai santificati nei sacramenti è ampliato sì sono due parole io ho nove punti siamo al numero uno non lo so se vogliamo finire facciamo i punti io allora devo andare facciamo i punti l'atto ad intra il secondo dove lo spirito possiamo dire che il secondo atto dove lo spirito santo opera insieme con la santissima trinità sulla terra nella santificazione è l'immacolato concepimento di Maria dove lo spirito santo versa che cosa mari di amore il padre mari di potenza il figlio mari di sapienza è la prima volta possiamo dire cioè nel principio sì assolutamente negli atti di Adamo innocente possiamo dire possiamo infatti ampliarlo come come vogliamo per arrivare agli atti dello spirito santo fare gli atti dello spirito santo insieme allo spirito santo l'immacolato concepimento di Maria mari di amore il terzo atto in cui stiamo insieme allo spirito dove in una novena del santo natale immaginavo il padre che mandava il figlio sulla terra il figlio è ciego mi teme che obbedisce prontamente alla volontà del padre lo spirito santo che consente consente l'incarnazione l'incarnazione spirito santo sono con te ad intra prima che tutto è prima nella mente come tu procedi dal padre al figlio e con il padre e il figlio siete uno fammi essere uno insieme con voi fammi essere uno con tutti dammi l'unità con tutti come voi siete uno padre ti prego affinché loro siano uno come noi siamo uno chi ci dà l'unità è lo spirito santo però ha voluto al sì di Maria ha voluto al sì di Maria per tutto per questo noi entriamo nell'immacolato con il cedimento di Maria era cessato era cessato dove lui mette nella creatura mari di amore mari di amore poi entriamo nell'incarnazione dove insieme al padre al verbo che si incarna è lo spirito che consente quindi le tre divine persone concorrono nella incarnazione del verbo nell'incarnazione del verbo allora diciamo che in tutta la redenzione ovviamente nel momento in cui entriamo seguiamo la redenzione seguiamo anche lo spirito noi sappiamo perché il padre e lo spirito sono sempre concorrono con Gesù però allo spirito e al padre piace dire sì è chiaro che se entriamo nel lato unico ci confondiamo però siccome siccome abbiamo bisogno di vedere il ruolo predominante allora nella creazione noi con Gesù ci mettiamo con Gesù ad adorare il padre la maestà divina come mette fuori la macchina della creazione è chiaro che il figlio e lo spirito sono insieme questo lo facciamo con loro nella redenzione lo padre manda lo spirito consente nella incarnazione però noi ci mettiamo insieme al padre e allo spirito e ci uniamo al verbo incarnato a seguire tutti i passi e tutti gli atti che lui fa nella redenzione e allora adesso dopo l'ascensione di Gesù dopo l'ascensione di Gesù inizia la santificazione nel senso che dopo che lui escende dice adesso chi è il protagonista chiaro che loro sono inseparabili è chiaro che quando si fa qualsiasi atto che facciamo nella divina volontà noi non possiamo escluire lo spirito possibile però per noi per parlarne per farne abbiamo bisogno di un certo ordine abbiamo bisogno quasi di sminuzzare di separare apparentemente come i bambini questo dono di diversi secoli fa di Maria Santissima non è altro che un aiuto per noi di fare atti sequenziali nello spazio e nel tempo altrimenti per girare nella divina volontà allora continuando il giro nello spirito santo per quanto infantile oppure semplicistico possa essere allora atto ad intra fondamentale immacolato concepimento perché incarnazione lo spirito quando lo spirito sta lì che fa tutto quello che fa allora Gesù ha fatto tutto per poter incarnare in me ciò che ha fatto Gesù lo posso fare tramite soltanto tramite lo spirito e di che cosa ho bisogno dello spirito in me allora qual è il quarto atto la pentecoste la pentecoste perché allora dice nostra madre santina come facciamo noi a diventare figli del divinvolere non abbiamo bisogno di questo spirito e io farò scendere lo spirito santo in te perché consumi in te tutto ciò che è volontà umana e con il suo fuoco ardente ti dia il carattere di vero apostolo ti tolga i pannolini del baby e ti dia il carattere la nuova scienza il nuovo coraggio per vivere nella divina volontà sono partiti ecco sono partiti senza voluta e noi chiediamo di ricevere lo spirito santo non solo come l'hanno ricevuto gli apostoli ma nella divina volontà come l'hanno ricevuto Maria Santissima come l'ha ricevuto la Maria Santissima allora ad intra spirito santo tu sei la procedenza dal padre e dal figlio così come tu procedi dal padre e dal figlio fammi procedere con Luisa capostipite da Gesù e da Maria come procedenza generazione dei figli della divina volontà e per rinascere in questa divina volontà l'inizio del compimento della promessa di una redenzione piena che è il regno della divina volontà inizia con l'immacolato concepimento e quindi con lei con Maria Santissima tu riversi sulla creatura mari di amore e allora mi metto insieme con te e poi nella incarnazione perché tu insieme a del padre concorri nella incarnazione del verbo mi metto insieme con te e poi quando Gesù segue tutti quanti gli atti della redenzione e dice adesso mi metto nell'atto della pentecoste spirito santo ti voglio ricevere ho finito il mio giro nella redenzione ho riniziato il mio giro nella santificazione sembra che mi sto sovrapponendo perché sto tornando indietro ad intra ma è necessario perché lo spirito santo lo voglio prendere ab eterno allora io l'atto dell'immacolato concepimento lo posso fare seguendo il mio giro nella redenzione perché il primo l'alba della redenzione però lo posso fare anche come secondo atto nel mio giro nella santificazione perché lo prendo come mari di amore dello spirito santo in me è chiaro dobbiamo separare un pochino le cose per poterle ricevere un passetto alla volta in noi l'incarnazione la pentecoste la pentecoste ovviamente pentecoste che vuol dire per noi vuol dire doni dello spirito santo non so qui ci vorrebbe non lo so per me continuare il giro della santificazione chissà allora entro spirito santo nel dono della conoscenza fammi entrare fammi entrare nella conoscenza per poter conoscere in me la relazione tra il creatore il vero compimento del dono della conoscenza la conoscenza è l'usare propriamente della creazione di tutto e quindi chi come Luisa ha ricevuto la pienezza del dono della conoscenza? nessuno nessuno san francesco vedeva questa diciamo relazione di figliolanza di sorella fratello con le cose create vedeva la giustezza del proposito di ogni cosa creata ma poteva san francesco entrare nell'atto della creazione del mantenimento delle cose è un po' come questo dello Spirito Santo non ti domandiamo più i sette doni ma domandiamo la tua presenza che è putta è il compimento dei sette doni però siccome stiamo facendo il giro non li vogliamo sminuzzare questi sette doni per il fondo è la tua domanda giustamente però è bello è bello pensare perché più se li sminuzzo i sette doni gli posso reagire Gesù dico Spirito Santo in me vieni tu dammi il dono della conoscenza sii tu incarni in me la conoscenza dammi tu la conoscenza piena del verbo incarnato che è Gesù delle verità il dono della sapienza che è quello di utilizzare nella mia vita la conoscenza il dono dell'intendimento dell'intendimento è quello di muovermi nelle circostanze della vita secondo l'ordine dello Spirito il dono della sapienza il dono del consiglio il dono della pietà della pietas della carità il dono del santo timore di Dio il cui primo frutto è la sapienza il dono del coraggio del valore ho bisogno perché altrimenti che faccio ho paura qualsiasi cosa mi impaurisce il castigo mi impaurisce il futuro mi impaurisce la mia debolezza mi impaurisce le mie cadute mi impauriscono le critiche mi impauriscono allora Gesù Spirito Santo Spirito Santo ho bisogno e vieni tu in me a dare la vita la pienezza di questi doni pentecoste pienezza dei doni dello Spirito Santo e allora la differenza sta che facendo questa cosa qui noi stiamo entrando negli atti dello Spirito Santo non stiamo diciamo chiedendo grazia o esprimendo più intenzioni abbiamo bisogno di sminuzzarlo proprio per prenderci questi atti e farli nostra vita allora lo sminuzzarli ci serve proprio come io non posso mangiare una pagnotta intera ma ho bisogno di farla boccone per boccone meglio così la devo masticare perché se ingoio non me da niente non la riesco neanche ad assimilare ho questo per rispondere alla tua domanda la redenzione già la so penso l'esecuzione la vita di Gesù che è nascosta la vita pubblica che poi lì posso saltare dei punti posso andare più veloce posso andare meno veloce la santificazione lo stesso modo lo possiamo fare quinto atto il ministero del sacerdozio perché dopo sono una volta che hanno ricevuto lo spirito santo gli apostoli e quindi anche tutti gli atti degli apostoli come atti di santificazione dello spirito santo ministero del sacerdozio ovviamente come lui stava dicendo ministero del sacerdozio cosa vuol dire anche sacramenti sta diventando lungo comincia a dovermelo scrivere sacramenti posso entrare in uno questo c'è un passo pare in volume 16 c'è una non abbiamo neanche bisogno di immaginarcelo basta entrare negli scritti Luisa dove Gesù stesso ci porta negli atti della santificazione in ogni sacramento ci porta dentro il battesimo dove ci chiama a riparare per quante volte il battezzato poi si rivolta contro il confermato il battezzante eccetera la comunione l'opera del spirito santo c'è dappertutto c'è dappertutto però c'è dappertutto però in questo momento ci stiamo focalizzando negli atti in cui lo spirito santo secondo l'ordine della santissima trinità fa il protagonista questo è l'esercizio che stiamo facendo lo spirito santo lo troviamo dovunque lo troviamo però per darci un'idea del giro nella santificazione ci stiamo facendo un'idea una scaletta dove lo spirito santo che concorre sempre con il padre e con il figlio fa l'attore principale e gli altri due quasi si nascondono dietro di lui perché così gli piace allora mi pare che durante la pentecoste il padre e il figlio come si nascondono dietro lo spirito dice no qua è lui mamma mia spirito è lui guarda che fuoco altro che è colombina che fuoco ecco è chiaro che negli atti dell'antico testamento c'è anche lui però formalmente il regno della grazia non era ancora venuto allora attia d'intra immacolato concepimento incarnazione pentecoste doni dello spirito santo ministero sacerdotale sacramenti uno per uno non è che poi gli scadano sacramenti dopo i sacramenti questo l'opera dello spirito santo dalla chiesa nascente dice nostra madre santissima io posso dire che la chiesa nascente la tenevo tra le mie braccia come una io come una barchetta facevo delle mie braccia e questa chiesa nascente allora quindi gli addi è lo spirito santo negli atti degli apostoli negli atti degli apostoli allora spirito santo ti adoro ti adoro e insieme con te sto insieme con te in tutti gli atti degli apostoli in Pietro in Paolo in tutti quando si litigano quando cominciano a capire le cose ma la circoncisione non la circoncisione ma io appartengo a quello appartengo a quell'altro è lo spirito che inizia allora è lo spirito che comincia a macinare a macinare per stabilire pian piano il settimo atto magisterio della santa chiesa magistero della santa chiesa della santa chiesa allora dopo la pentecoste quindi la pentecoste i doni dello spirito santo il ministero sacerdotale i sacramenti lo spirito santo si ferma no continua da duemila anni dal primo papa fino a papa francesco ti adoriamo ti seguiamo spirito santo tutte le volte che tu hai ricevuto un rifiuto nel mio cuore nel cuore dei tuoi ministri nel cuore della santa chiesa ti chiediamo perdono e ti invochiamo spirito santo non ti vogliamo chiudere le porte in faccia ti adoriamo ti ringraziamo ti riceviamo in tutta la tua opera che guida la santa chiesa la santa chiesa sembra una nave in tempesta eppure tu non l'hai mai abbandonata e non l'abbandonerai mai anche per opere di tutti i santi della santa chiesa ottavo perfetto allora già ci vengono le idee il dono gli atti dello spirito santo nel magisterio della santa chiesa quindi nell'infallibilità del santo padre per le cose di fede e di morale in tutti i dogmi in tutti i documenti ufficiali della chiesa in tutti gli insegnamenti ufficiali della chiesa in tutto quello che lo spirito santo fa nella vita della chiesa ecco quindi non soltanto il magisterio della santa chiesa quindi nella gerarchia e nella persona del santo padre e nella gerarchia della chiesa ma anche giustamente nell'opera dello spirito santo della santificazione tramite la santificazione delle virtù tramite tutti i santi come ci dice tutti 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 chi è lo spirito santo allora allora per mio ordine ci devo stare io ci devo stare una mezz'oretta nell'opera dello spirito santo nel magistero della santa chiesa in tutti i dogmi che sono per noi sono scontata il dogma dell'immacolata non c'è il mento di Maria il dogma i dogmi che si sono scannati per noi poracci è lo spirito santo che prevale con la sua verità è fondamentale bellissimo allora in tutti i santi e adesso adesso come atto ultimo che mai finisce infinito infinito è la porta aperta è la santa porta è la porta del regno della divina volontà è la nuova Gerusalemme che è il regno della divina volontà questa è la grande porta aperta degli atti si contati ab eterno ma ancora che si devono attualizzare che è il sole che è il regno della divina volontà sì e quindi la Gerusalemme che è il regno della divina volontà che scende sulla terra dove i caratteri i muri della Gerusalemme ci hanno stampato con caratteri di loro che cosa? le verità le verità e allora quindi concludiamo questo giro infinito non soltanto nel magistero della chiesa in tutti i dogmi gli insegnamenti nella apostasi in tutto quello che fa lo spirito santo per mantenere la chiesa immaginiamo i sogni di San Gion Bosco Giovanni Bosco e tutto quello che lui ha visto della chiesa in tempesta ma lo spirito santo continua a guidarla la guida la indirizza attraverso appunto i santi che ci vengono noi come modelli ma vuole portarla alla perfezione il trionfo della santa chiesa la santificazione della santa chiesa è il regno della divina volontà e questo è l'ultimo infinito ecco l'atto dello spirito santo di diffondere di diffondere queste conoscenze lo sta facendo in questo momento perché noi stiamo girando noi suoi atti allora lo spirito santo ci chiama e dice venite figli miei fatemi una scaletta tutto quello ma venite nei miei atti per girare negli atti della santificazione anche ecco e quindi per quanto ce ne possano essere infinite una giusto per rispondere a tue domande in un modo specifico in un modo specifico in un modo chiaro è quella di entrare negli atti dello spirito fermo restando che tutto quello che si fa nella divina volontà è girare nella divina volontà tutto quello che si fa nella divina volontà è l'attività santificante e divinizzante dello spirito santo però così come Gesù dice figlia mia io vengo a fare tutto in te con il padre e con lo spirito ma adesso vieni tu a vedere quello che faccio allo stesso modo lo spirito ci dice lo spirito e Gesù ci dicono andiamo vieni adoriamo il padre quando mette fuori la macchina della creazione e stiamo lì ad adorare il padre in tutto il giro della creazione allora il padre e il figlio dicono vieni seguiamo Gesù e Maria Santissima in tutti gli atti della redenzione adesso il padre e Gesù ci dicono vieni seguiamo lo spirito negli atti in cui lui fa il protagonista non che loro sossepa impossibile fanno tutto insieme però io devo separarsi se no non ci arrivo e ho bisogno di questa mia cosa siccome lo spirito fa dappertutto mi perdo nell'atto unico e faccio oppure oppure dico no un attimino lo spirito santo con te facciamo le cose per ordine dall'inizio al principio quando Dio creò la terra lo spirito alleggiava sulle altre lo spirito all'inizio 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 quando lui procede dal padre e dai figli quando lui versa mari di amore in immaculato concepimento quando lui concorre all'incarnazione con il padre e con il figlio quando lui si riversa potentemente sugli apostoli ma con la pienezza dei doni in Maria Santissima e pertanto la pienezza dei doni che è il dono della divina volontà fuori della divina volontà non possiamo ricevere la pienezza della conoscenza dell'intendimento del consiglio della sapienza della pietas del coraggio del santo timore di Dio no allora per ricevere questi doni devo entrare nello spirito santo nella divina volontà e quindi adorare chiamare lo spirito santo ad attualizzare in me questi doni però scusa Maria quando c'è un passo dei bravi Luisa che la Madonna dice tu sapi che quando mio figlio ti comunicava queste verità io stavo ad ascoltarle a viverle eccetera però sembra quasi il protagonista il figlio di questi volumi più che lo spirito santo tu che cosa pensi sempre lo spirito santo no come protagonista quando io ti comunicavo queste verità è interessante Maria stava là allora il ruolo dello spirito il ruolo dello spirito il ruolo dello spirito la persona dello spirito e lui senza lui senza questa persona noi non possiamo ricevere l'incarnazione di Gesù in nome così come non possiamo chiamare Abba padre se non è lo spirito allora Gesù se ne è dovuto andare Gesù si è dovuto ecclessare da Luisa per farla girare negli atti della divina notare se no Gesù stava così con l'umanità di Gesù sì era attaccato perfetto esatto chi è che fa questo è lo spirito è lo spirito allora Gesù nei volumi non lo deve nominare lo spirito perché lo spirito è l'innominato è lui che ote è lui però poi si è Cristo è lui però siccome noi lo vogliamo conoscere questo spirito c'è il spirito ancora pensi che te nascondi no noi te becchiamo ti becchiamo ad intra insieme con il padre e con il figlio ti becchiamo nell'immacolato concepimento perché sei tu senza dello spirito l'incarnazione di Gesù io non la ricevo non la ricevo non la posso ricevere per questo lui si dice fortunati quelli che vivevano il tuo tempo e anche queste verità le possiamo ricevere non possibile senza Gesù non possiamo ricevere niente possiamo ricevere la grazia senza lo spirito santo per opera dello spirito santo allora questo è allora perché noi abbiamo questa difficoltà di relazione con lo spirito santo propriamente perché il regno della divina volontà è il regno dello spirito santo senza di lui non arriviamo allora queste verità che sono possiamo dire che in queste verità è Gesù la rivelazione del padre però per ricevere questa rivelazione in me sono lo spirito se non c'è lo spirito in me che acqua in me per me la rivelazione che Gesù mi dà del padre è un bel film è un film non sono battezzata senza lo spirito dovrò tornare a realitare l'uomo ecco è proprio quell'atto che faccio è l'atto dello spirito è lo spirito realitare l'uomo in buono al principio al principio lo spirito aleggiava alitava sopra le acque sopra il disordine sopra il disordine allora è importantissimo sempre considerare che Gesù il padre un'altra volta ieri ho sentito una domanda ma chi è che ha risuscitato l'umanità di Gesù il padre o se ha risuscitato lui come fanno a stare a rata come fanno il ruolo allora il ruolo nel libro della Vergine Maria dice il libro è il nostro problema della divisa è la divina volontà che ci porta all'unità allora fermo restando che noi senza lo spirito santo io pensiamo che è il Gesù ma senza lo spirito santo che è lo spirito di Dio che è lo spirito di Gesù noi non ci capiamo un H zero nisba nada allora fermo restando che tutto questo è opera dello spirito santo in noi che in tutto in ogni cosa dello spirito è Gesù che mi rivela il padre ma per ricevere in me questa rivelazione ci vuole lo spirito per questo lo spirito è il grande sconosciuto nella chiesa perché soltanto nel vivere nella divina volontà ricevo la pienezza della vita dello spirito allora cercando di capire di incarnare questo ovviamente tutto quello che si fa nella divina volontà è lo spirito che lo fa però per rispondere alla sua domanda noi vogliamo per giustizia come atto di giustizia così come ci mettiamo con il figlio e con lo spirito ad adorare a riconoscere la maestà paterna e suprema negli atti della creazione così come con il padre e con lo spirito ci mettiamo ad adorare la maestà suprema e il figlio incarnato in tutti gli atti della redenzione così per sacrosanta giustizia ci mettiamo insieme con Luisa con il padre e con il figlio a seguire gli atti dello spirito sono separati ovviamente no però lo devo fare perché se no e allora quali sono abbiamo detto atto ad intra immacolato concepimento c'è l'incarnazione la pentecoste con la pienezza dei doni dello spirito santo il ministero sacerdotale con i sacramenti il magisterio della chiesa dal primo papa fino ad adesso tutti gli assangamenti dello santo la santificazione secondo le virtù in tutta la santità dei santi e finalmente non perché sia l'ultimo ma perché è il primo è il dono della divina volontà con la rivelazione di questa verità e che cos'è è la pienezza di tutto di tutto quello che abbiamo detto che è il primo perché già ce l'aveva davo come capostibile infatti infatti è bello perché ogni giro ogni giro non è mai lineare il giro è sempre circolare quando noi compiamo il giro compiamo il giro noi che andiamo dritti andiamo che facciamo la mia eternità che come dice Gesù è un circolo che cos'è l'eternità l'eternità è un circolo e il centro è la santissima eternità allo stesso modo quando noi diciamo il gloria quando noi diciamo il gloria e Luisa a un certo punto sentiva gli angeli santi gloria al padre gloria al figlio gloria al figlio a proposito gloria nel linguaggio degli scritti la divina volontà gloria non vuol dire altro che compimento della divina volontà ah ecco compimento allora gloria è una come una una parola un po' vaga in giro la gloria dell'atleta la gloria del vincitore la gloria che cos'è gloria 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 allora gloria in Dio è compimento di l'opera che ha fatto esatto allora se voglio avere un'idea chiara univoca semplice che vuol dire dare gloria a Dio è gloria equal compimento della divina volontà compimento allora possiamo dire che questo tè dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui è stato creato grazie grazie alla santissima divina volontà che ha fatto questo tè per mano le foglie che sono state tostate sono state messe arrivato qui ha compiuto lo scopo per cui è stato creato perché mi ha svegliato però è un uomo però è un uomo che deve dare gloria a Dio è certo appunto se no sto tè non può lui lo compie però allora per questo le cose create possono dare gloria a Dio e soltanto se noi gli diamo ragione e voce se noi come dice la foglia di tè è stata creata all'origine ma la foglia di tè da quando è stata fatta ci aveva in mente una cosa io sta fogliolina devo essere colta non so dove in Perù in Cina e poi la devono mettere nei sacchi e poi deve fare migliaia di chilometri e poi deve essere tostata e poi deve andare all'anabisco e poi deve essere commercializzata e poi la mettono nella bustina allora questa bustina pensava io arriverò io devo compiere i miei scopi io devo dare gloria a Dio devo dare gloria a Dio ma da gloria insomma se una arriva rifà con gli altri la riconosce io devo dare gloria a Dio chi me lo farà fare allora questa questa foglia di tè può dare gloria a Dio non soltanto se chi la utilizza l'uomo la prende la prende per dare compimento alla volontà di Dio e prenderla non soltanto riconoscere San Francesco già riconosceva la sorella foglia di tè San Francesco già sapeva che il compito della foglia di tè era quello di essere utilizzata con tanti principi buoni eccetera quello che io sono chiamata a fare nella divina volontà che dà compimento alla foglia di tè non è soltanto sapere che la foglia di tè l'ha fatta il mio padre celestiale non soltanto è utilizzare la foglia di tè per uno scopo buono e non per dare fuoco alla tua casa eccetera eccetera o non so che altro fare farci una bomba insieme al nitrato ma fare un'altra cosa entrare nell'atto di Dio che ha creato che crea e mantiene la foglia di tè e prendere questo atto come mio per dargli compimento per fargli vita e quindi c'è questo atto che si chiama foglia di tè amo tè e io me lo prendo e ricevo l'atto di volontà di Dio chiamato foglia di tè e la foglia di tè dice finalmente posso partorire la vita che avevo perché ogni cosa creata Dio gli ha messo un ufficio particolare che doveva finalmente la foglia di tè con il suo ufficio di svegliare Marina però posso chiamare e ringraziare adorare Dio per tutti gli atti affinché fino a tanto che quella foglia di tè viene a compiere il suo percorso quindi posso prendere chi la seminata chi la 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 tutte le cose create corrono verso volume 18 tutte le cose create corrono verso la creatura e danno gloria a Dio danno gloria a Dio ovvero compiono lo scopo per cui sono state create se vengono prese dalla creatura come atto di divina volontà dove c'era da un'innocente dove c'era da un'innocente dove c'era da un'innocente anche quando dormiva e lui di cotidrano allora di cotidrano ogni volta si fanno un discorso qualsiasi cosa tu cominci da che cotidrano e cominci a ringraziare a chi la seminata a chi la piantare tutto il lavoro che c'è così vale con l'acqua per esempio l'acqua è una cosa che noi usiamo tutti i giorni è una cosa importantissima e proprio prendere dalla corsa dell'acqua una delle funzioni che ha l'acqua per l'uomo per la natura allora adesso lo spirito lo spirito e Gesù ci dicono figlia mia sono loro è lo spirito che ci dà questa conoscenza se no noi all'occhio diciamo ma chi l'ha fatto ma il senso dello spirito non posso neanche dire che Dio è mio padre immagino se Dio ha fatto qualcosa per me allora fermo restando che sappiamo che questa è la conoscenza però il verbo incarnato lo spirito vieni figlia mia vieni riconosciamo la potenza divina nella foglia di te e diamo gloria al nostro padre allora in tutte le opere della redenzione adesso da ora in poi facciamo il giro della creazione ci sta il cielo le stelle la luna il sole la terra la foglia di te e tutto quanto tutto quanto e poi ovviamente entriamo nella redenzione e adoriamo e riconosciamo facciamo tanti atti che possiamo fare di ringraziamento di adorazione di riparazione perché Lucia non faceva sempre la stessa cosa si possono fare trilioni di cose diverse si personificano diventano anche fuori dagli schemi ecco e quindi l'atto di Gesù di predicare l'atto di Gesù di moltiplicare quello che abbiamo sentito alla messa ecco sono atti della redenzione e il padre lo spirito si nascondono e vogliono stare ad adorare e si adorano se stessi in questa opera in cui il protagonista è il figlio e negli atti della santificazione si mettono ovviamente nascosti dietro lo spirito e seguiamo lo spirito allora siccome l'era della santificazione è questa e quasi noi ci mancano questa scaletta questa cosa però ne possiamo fare infinite una delle possibili è questa attia d'intra immacolato concepimento incarnazione pentecoste doni dello spirito magisterio del sacerdozio sacramenti magistero della santa chiesa con tutti i papi fino all'ultimo opera santificante secondo la santificazione secondo le virtù in tutti i santi e al fine opera della santificazione secondo la pienezza della santità di Gesù Cristo che è il fiatto volontà suo quindi Gerusalemme celeste attraverso tutte quante queste conoscenze però più entriamo nell'atto e più entriamo e lo sminuzziamo così come io posso dire immacolato concepimento oppure posso dire alla nascita di Gesù però nella nascita di Gesù che cosa posso fare? dico oh sai che ci sta qua ci stanno nove granelli io per ogni nove granello ci metto un eccesso di amore nell'incarnazione del verbo e nell'ultimo ci metto la nascita l'amore trinitario l'amore costretto l'amore divorante l'amore operante l'amore solo l'amore imprigionato l'amore non corrisposto l'amore mendicante l'amore agonizzante è nato allora posso posso sminuzzarlo in quel modo posso sminuzzarlo in un altro questo è la libertà dei figli di Dio la libertà dei figli di Dio per questo per questo ecco i libretti dei giri sì sì sono un aiuto però ci devono servire soltanto come un trampolino presente il trampolino la pedana e poi uno apri uno piglia una tangente uno cade sul materassino uno cade per terra uno va via dalla finestra uno dalla palestra non lo vedono più Maria Grazia già sta al settemocento anche le preghiere delle ore della passione sono così belle e a volte io dico ma non le so ripetere mi discordo voglio imparare le memorie no nel momento in cui riesco a dirle adorando il crocifisso riesco a dirle parole mie ricevo gioia pace anche se non ripeto le stesse parole di Luisa non so si può ma può rispondere il fatto tu hai messo negli atti anche il sacerdozio però lui dice come ha avuto i sacerdoti della chiesa ma anche i sacerdoti della divoltà perfetto ci vuoi dire qualcosa su questo? si allora ognuno e due può essere sacerdote ma tu quanto è bella questa cosa e ci sia che 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 ci sia scaldarmi mamma mia no altro che registrazione voraccio stiamo facendo voraccio no no ma è bellissimo quello che sta dicendo perché l'ultimo atto che sia il nono che sia il decimo è quello del regno della divina volontà noi possiamo dividerlo in 36 uno per ogni volume possiamo dividerlo però possiamo giustamente possiamo ampliarlo quest'atto qui poi lo possiamo ampliare in 40.000 passi giustamente secondo la sensibilità secondo quello che lo spirito vuole fare dentro di noi però giustamente quindi questo questo giro non finisce mai si amplia all'infinito questo è soltanto una scaletta per poter dire per poter dire così come la scaletta di questo in realtà se questa è la divina volontà tutte le molecole di ossigeno che stanno in questa stanza sono i atti della divina volontà come faccio a prenderli tutti allora è come se abbiamo bisogno di questa scaletta allora o mi perdo non vedo niente però lui sarebbe stata ecclissata però Gesù aveva bisogno di ecclissare la sua presenza perché lei si potesse slanciare in questi atti e andasse uno per uno uno per uno uno per uno con un ordine utilizzando che cosa le potenze dell'anima la memoria l'intelletto la volontà soprattutto la conoscenza soprattutto la conoscenza allora lui diceva il sacerdozio è una divina volontà certo allora diciamo allora così come nell'antico testamento c'è stato il sacerdozio i sacerdoti dell'antico testamento che cosa è che funziona con i sacerdoti loro presi dalla tribuna di come si chiama di Kisedek no i Levi erano i Leviti allora i Leviti tutti gli altri i discendenti dei figli di Giacobbe tutti nella terra promessa hanno avuto un pezzo di terra Manasset tutti quanti gli unici che hanno avuto un pezzo di terra sono i discendenti di Levi perché? perché loro volevano occuparsi questo è già una conoscenza per dire il sacerdote si deve occupare solo di cose spirituali i Leviti e quindi i discendenti dei Leviti non avevano il pezzo di terra perché? gli veniva dato quello di cui avevano bisogno per vivere addirittura loro potevano mangiare delle offerte perché? però il loro unico compito non era quello di pensare a oddio adesso la mia terra viene invasa no loro devono pensare soltanto al Tempio e quindi i Leviti allora entro nella Divina Volontà nello spirito se vuoi che opera nel sacerdotio dell'Antico Testamento anche se i sacerdoti dell'Antico Testamento non operavano neanche nel Regno della Grazia immaginiamoci nel Regno della Divina Volontà però è sempre la Divina Volontà che opera e loro che cosa facevano? offrivano sacrificio dai uccelli bestie e sangue di là e sangue di qua e mucche e agnelli era un massacro era una macelleria ogni giorno poracci facevano i macellai perché? perché il punto è questo che Dio diceva voi non può l'uomo per quanto può per quanto si sforzi non può offrire un sacrificio adeguato per soddisfare a che cosa? alla grande offesa del Deicidio il sacrificio non è possibile solo un Dio non compensa allora tutto questo massacro di cose animali era per dire innanzitutto è inutile che vi sforzate tanto però potete offrire del vostro livello come si dice del vostro vivere della vostra fonte di sostentamento per privarvi di qualcosa e per far vedere offrire qualcosa quando poi Gesù ha strappato il velo del tempo e lui per la prima e unica volta è passato come l'unico vero gli altri sacrifici lui come il vero sacerdote non hanno più senso e quindi è lui che ha sostituito è lui il vero sacrificio e ha istituito il sacerdozio del nuovo testamento dice lui il sacerdozio della Santa Chiesa i sacerdoti della Santa Chiesa sono i dispensatori della grazia sono gli amministratori della grazia ecco così come i sacerdoti dell'antico testamento erano coloro che dovevano in certo senso amministrare gestire un po' questa procedura dei sacrifici custodire il tempio e amministrare il poco che si conosceva della divina volontà che erano i dieci comandamenti quindi si potrebbe dire che il sacerdozio della Santa Chiesa Cattolica il sacerdote consagrando con le sue mani in grossia quello diventa corpo, sangue e armine di vita invece si può dire nel terzo fiat che è lo spirito salto che consagra l'aliva la fa diventare la nostra vita è proprio lo spirito salto infatti adesso arriviamo al terzo sacerdote arriviamo allora Gesù dice così come ovviamente ho avuto il sacerdozio nell'antico testamento che doveva compiere il compito che doveva fare così come questo sacerdozio in un certo senso è stato ampliato è diventato inadeguato non è che Gamaliele o Illele non potevano diventare apostoli certo che potevano diventare apostoli però non necessariamente da loro un sacerdote dell'antico testamento non lo so Zaccaria oppure quello poteva magari è stato più difficile perché era più difficile per loro accettare il Messia tant'è vero che Gesù si è dovuto rivolgere ai pescatori però non è che era preclusa per loro assolutamente così come ho avuto il sacerdozio dell'antico testamento ho avuto il sacerdozio della mia chiesa avrò il sacerdozio non i sacerdoti il sacerdozio allora questa è una cosa molto importante nel senso che il sacerdozio sacerdozio vuol dire che offrire offrire l'offerta è colui che offre la vittima è colui che educe le cose sacre è colui che offre la vita allora così come il sacerdote offre sull'altare la vittima Gesù nella divina volontà e Gesù stesso volume 12 come era bello vedere Gesù e andare da un'anima all'altra a pronunciare lui stesso le parole della consacrazione e l'anima diventava ostia vivente allora che cosa vuol dire che il sacerdozio è il divino volere ovviamente dobbiamo pregare pregare che ci siano sacerdoti della chiesa che siano apostole ma ciò non vuol dire che sia una categoria unissimo da loro il sacerdozio del regno della divina volontà è qualsiasi persona esatto è qualsiasi persona nella quale la divina volontà consacra se stessa e offre la vittima Gesù Cristo per ripetere l'ufficio dell'umanità di Gesù Cristo sulla terra dove non si fa più attraverso o soltanto attraverso la povera ostia santa perché ma Gesù vuole consacrare se stesso in ostia vive in ostia vive infatti l'incarnazione del verbo è il concepimento della divina volontà nell'umanità di Gesù e quindi il regno della divina volontà la consacrazione è il concepimento della divina volontà in Maria in Giovanna in Luisa e nella procedenza dei figli del divin volere questo è per quanto sia scandaloso e allora già ci stiamo ampliando con il giro della santificazione stiamo entrando e pregando adorando lo Spirito Santo nel sacerdozio del regno nel sacerdozio del regno che possa essere un sacerdozio santo non soltanto sacerdozio ministeriale ma sacerdozio regale perché il sacerdozio del regno della divina volontà è il sacerdozio di Melchisedec non è il sacerdozio di Melchisedec non si sa da dove veniva chi l'ha ordinato chi l'ha autorizzato va a Beterno chi l'ha ordinato quel vescovo l'ha ordinato non si sa chi è il vescovo che ha ordinato Melchisedec si sa allora il sacerdozio regale della divina volontà è il sacerdozio io sei un sacerdote da sempre secondo l'ordine di Melchisedec perché è il sacerdozio di Gesù Cristo a Beterno a Beterno è il sacerdozio del regno della divina volontà nel senso che a noi nessun vescovo ci ha imposto le mani ci ha detto di ordine sacerdote questo non vuol dire ovviamente il sacerdozio ministeriale l'amministrazione dei sacramenti è esclusiva assolutamente del sacerdozio ministeriale e dobbiamo pregare in ginocchio che ci siano tanti sacerdoti ministeriali perché loro hanno esposizione verso tante anime perché loro hanno potere verso tante anime responsabilità verso tante anime che utilizzino il loro sacerdozio ministeriale per farlo diventare in se stessi e in altri sacerdozio reale questo è l'effetto moltiplicatore della divina volontà perché il popolo di Dio prenderebbe di più dai sacerdoti se uno di noi si fino a un certo punto ma se viene pronunciata e chissuta allora per espandere il nostro atto nella santificazione stiamo attenti a non scendere nel cosa si dovrebbe fare cioè restiamo nel giro nello spirito santo preghiamo che il sacerdozio ministeriale si trasformi potentemente e venga arricchito come sacerdozio regale non dobbiamo dire e pensare nient'altro e questo è già abbiamo preso un altro passo un'altra direzione al giro lo spirito santo e quindi spirito santo siamo e siamo ci riuniamo e ti adoriamo nella divina volontà come procedi dal padre e dal figlio e ti preghiamo che così come tu procedi dal padre e dal figlio e formi con loro il regno dell'ordine perfetto della pace perfetta possiamo noi essere uno tra di noi dacci l'unità e procedere da Gesù e Maria con Luisa come capostipite nella procedenza nella seconda generazione dei figli della luce che è il regno della divina volontà e poi dico spirito santo così come tu concepisci Maria Santissima come alba della redenzione vieni vieni a versare su di noi questi mari di carità e di amore ti adoriamo spirito santo nell'atto dell'incarnazione in cui tu concorri insieme con il padre e con il verbo quando il verbo in obbedienza perfetta dice eccomi manda me sono contento di farmi sgozzare infinite volte per ognuno dei nostri figli e lo spirito santo con tutto quello che le sofferenze conoscendo le sofferenze che il figlio andava a soffrire fa così acconsente acconsente con gioia acconsente con gioia eterna che è anche il dolore eterno della vittima e poi e poi quando è che lo spirito santo può iniziare veramente ad agire come protagonista quando Gesù avendo compiuto la redenzione quindi essendosi fatto squartare avendo aperto per noi il regno della grazia ci manda il paraclito quindi la pentecoste la pentecoste e dico spirito santo tu lo sai io voglio riceverti spirito santo non solo come ti ha ricevuto san pietro sant'andrea san giovanni san bartolomeo ma ti voglio ricevere come ti ha ricevuto nostra madre santissima allora io vado per esempio nel giorno della pentecoste di nostra madre santissima lei dice io ti prometto che farò scendere su di te lo spirito santo perché tutto quello che vuole lei lo spirito lo fa io farò scendere io farò scendere con questa autorità io farò scendere su di te lo spirito santo come scende in me perché ti consumi tutto ciò che non è volontà di Dio con il suo alito ardente ti infiammi e ti faccia vivere solo nella divina vita madre santissima fuoco e fiamme versa nel cuor mio affinché mi consumi tutto e bruci tutto ciò che non è volontà di Dio la giaculatoria del regno e del giorno della mattina possiamo mettere il nostro giro ognuno poi se lo architetta come vuole eccetera e poi giustamente che succede dopo la pentecoste nuova scienza vanno qua gli atti degli aposti chi è lo spirito spirito ti seguo nel ministero sacerdotale in tutti gli aposti in tutto quello che hai fatto in tutti i viaggi di San Paolo di San Pietro non soltanto ma tutti quelli che non so tutto quello che è stato fatto i primi viaggi missionari le difficoltà le prime persecuzioni della chiesa le catacombe poracci noi stiamo qua in una catacomba però quelle di prima erano ancora c'era più umidità no? erano più e poi qui noi siamo abbiamo i quadri lì c'avevano i loculi dei martiri lì c'avevano i teschi i teschi eccetera è un po' diversa la situazione vediamo che il Colosseo sembra un piccolo rudere innocuo un bel monumento invece no ai tempi dei nostri amici ci stavano lì a mangiare il boa che si ingoiava a un martire sano no? no per non c'è un'idea chi è che gli ha dato la forza? lo spirito allora spirito santo dammi a me questo valore questa forza insieme alla conoscenza all'intendimento al consiglio alla sapienza alla pietas al coraggio al santo timor di Dio viene a me vieni a darmi questi questi doni fatti vita di questi doni in me e ovviamente anche nei sacramenti della santa chiesa tutti i sacramenti non soltanto i sacramenti il magisterio della santa chiesa dal papa tutti i dogma tutti gli insegnamenti che sono stati ridati tutto il cammino della santa chiesa dall'inizio fino adesso che a noi ci pare più scontano ma pensa tutti i concili che hanno dovuto fare fino all'ultimo il concilio Vaticano II che rivoluzioni che cose che lo spirito santo e a noi ci pare lì tranquillo ma questo non altro che tutte le resigie possiamo seguire in realtà possiamo seguire tutti quegli altri lo spirito santo mentre anche la nostra parte perfetto questo giro nello spirito santo nello spirito santo tutta la storia della santa chiesa attraverso lo spirito conculcato lo spirito ostacolato ma lo spirito che trionfa con l'autorità del magisterio della santa chiesa non soltanto ma attraverso l'esempio di tutti quanti i santi fino al compimento della santificazione con lo spirito santo che ci dà questi scritti perché Luisa scriveva è lo spirito che suggeriva è lo spirito è lo spirito che fa perché questa è l'opera dello spirito quindi ogni e quindi la gerusalemme celeste dove tutti questi scritti sono i caratteri d'oro impressi sulle mura della gerusalemme celeste e a proposito la gerusalemme celeste siamo ciascuno di noi e quindi le verità devono essere impresse a caratteri d'oro e di luce quindi eterni quindi non materiali spiritualizzati in ciascuno di noi avevo pensato che fosse la nuova chiesa di allora certo sì ma anche tu sei chiesa certo non lo so per me se lo spirito santo non ha messo nessuna condizione ci devi aspettare no comincia adesso se io ci credo a me pare che i libri si stanno muovendo anche prima della causa ma va beh non insisto su questo noi siamo dei percussori come San Giovanni Battista di percussori dei percussori allora è importante sapere questo per non ostacolare lo spirito ci dobbiamo convincere di una cosa che non c'è nessuna cosa che deve succedere nessuna condizione che l'unica condizione necessaria e sufficiente è la mia volontà dentro la volontà di Dio se devo se penso che devo aspettare al balcone no questo è fondamentale questo è fondamentale perché il regno della divina volontà è il regno interiore è il regno dello spirito infatti Gesù dice il regno della divina volontà sta dentro di voi sta in mezzo a voi allora e lui insegna a pregare venga il tuo regno allora come per dire no divina volontà tu nell'antico testamento hai regnato con i comandamenti nel nuovo testamento hai regnato nell'ordine della grazia adesso vieni a regnare con la perfezione del tuo regime questo regime si chiama come in cielo e in terra allora l'unica condizione necessaria e sufficiente affinché questo regno si compia è che la mia volontà riceva l'atto operante della volontà di Dio non ci vuole la causa di beatificazione non ci vuole l'imprimato non ci vuole tutte cose queste cose servono e il signore farà tutto però perché il regno si attui si attualizzi in me ed è l'unica cosa che posso che è importante perché se si attualizza in me si può attualizzare in tutti se non si attualizza in me io non ho nessun diritto nessun dovere di fare o dire niente l'unica condizione necessaria e sufficiente è che la mia volontà si fonda nella divina perché se no aspetto il treno e il treno può passare tra vent'anni ancora non è passaggio non hanno ancora beatificato Lisa e te che hai fatto e te che hai fatto perché fosse beatice devo fare gli atti devo ricevere il regno infatti il regno della divina volontà che ha sempre regnato nell'antico testamento c'erano queste tavole scritte tutto era anche esteriore visibile pian piano si va elevando ma si va anche interiorizzando il regno della grazia si ha bisogno del segno dei sacramenti nel regno della divina volontà è un regno interiore non c'è bisogno di nessun segno esterno di nessun abito di nessuno simbolo e per fare questi giri io posso moltiplicarli per il bene cioè racchiudere nel giro che faccio tutte le creature come se tutte le facessero con me non posso è necessario cioè non posso fare a meno di se la divina volontà opera la divina volontà opera in modo universale quindi se io voglio dire volontà divina viene a fare questa cosa in me però non la fare in loro non è possibile quindi racchiudo nel mio atto e gli atti di tutte le creature ecco sì per necessità per definizione di volontà divina perché la volontà divina opera soltanto in modo universale onnipotente onnivecente eterno infinito immenso questa era soltanto una proposta una piccola ipotesi per dire così come abbiamo un'idea di comandare nella creazione così come abbiamo un'idea di comandare nella redenzione dobbiamo avere un'idea un'ordine per andare alla sentibilazione quando Gesù dice io adesso vengo in te quando noi chiamiamo Gesù viene in me a fare questo adesso tu vieni in me e girare certo e questo certo infatti assolutamente questo è una cosa interessante qualsiasi cosa noi facciamo nella divina volontà anche quando in un certo senso anche quando Gesù con il padre con lo spirito stanno sempre insieme quando diciamo Gesù corollare inseparabile dal padre dello spirito sempre 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 anche quando lui si abbassa a fare le nostre cose in noi possiamo ancora dire che quello è pure un girare nella divina volontà nei suoi atti che ci dispone però così come la divina volontà si abbassa in noi poi Gesù dice vieni vieni alzati in noi a fare tutto quello che noi facciamo che è andare nella creazione andare nella redenzione andare nella santificazione ma qualsiasi cosa che facciamo per esempio la santa messa la santa messa è il perfetto giro nella redenzione in tutte per esempio il gloria no? ci ricordiamo la preghiera del gloria che dura circa trenta secondi la preghiera del gloria insieme al padre al figlio e allo spirito è un perfetto giro nell'eternità nel tempio e nel tempo quando lui si assente gli angeli santi che dicono gloria al padre gloria al figlio gloria al spirito santo e poi silenzio e la guardano e le dicono guarda e dice come se aspettassero qualcosa da lei il padre il figlio lo spirito santo e Gesù dice figlia mia è compito dell'anima che vive nella divina volontà di completare la seconda parte del gloria perché con la potenza di poter girare come una rotellina nella divina volontà è lei che può dare gloria vuol dire compimento di volontà come era nel principio nel principio era il verbo il verbo era con Dio e il verbo era Dio al principio quando Dio creò il cielo era la terra lo spirito alleggiava sulle acque ecco padre figlio e spirito santo e quindi com'era nel principio che stiamo facendo stiamo entrando nell'atto ad intra generazione del verbo procedenza dello spirito l'atto ad intra della santissima trinità noi stiamo parlando del principio eterno del principio eterno il principio eterno infatti è bellissimo quello che stai dicendo perché il principio eterno com'era nel principio e questo abbiamo messo circa 7 secondi per dirlo e già stiamo facendo un giro completo nell'eternità cioè com'era nel principio ed ora nel momento in cui dico ora ora implica tempo 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 vuol dire quali sono le prime le creature necessarie per la nostra vita sono lo spazio e il tempo ad extra allora ad intra esce ad extra nel tempo nell'ora qual è il primo atto ancora prima voglio dire nella logica del tempo divino ancora prima della creazione dell'uomo qual è il primo atto ad extra hai bruciato la seconda volta ma lo spirito fantastico fantastico com'era nel principio ed ora com'era nel principio padre che genera il figlio il figlio che ama il padre lo spirito santo che procede noi siamo lì stiamo adorando prima che il tempo sia come dice il libro della sapienza prima ancora che tutto sia tu sei con me e parla di Maria Santissima no? ma parla anche della divina volontà operante nella creatura perché soltanto nella divina volontà come Gesù Luisa dice nel volume 11 dice il sacerdote mi ha detto che non è possibile entrare negli atti ad intra ma Gesù mi vuoi spiegare questa cosa no figlia mia nella divina volontà la prima entra di diritto di necessità per giustizia negli atti ad intra della Santissima Trinità come era nel principio ed ora qual è l'ora? volume 22 23 non mi ricordo figlia mia tu devi sapere che è il primo atto ad extra della mia divina volontà il primo atto ad intra è la Santissima Trinità è l'unico atto ad intra no? il primo atto ad extra ad extra vuol dire successione poi di atti no? qual è? l'incarnazione del verbo perché in lui per lui in vista di lui che tutti sono stati creati incluso Adamo e quindi è perché immagine e somiglianza di Gesù Cristo che Adamo è stato perché il verbo si fa carne ha senso creare perché è lui che deve divinizzare e riconciliare tutto in sé è in virtù di lui che Adamo può vivere nella divina volontà quindi l'ora è Gesù Cristo lui è l'alfa l'omega e tutto quello che c'è nel mezzo e quindi come era nel principio ed ora quindi in Gesù e quando parliamo di Gesù parliamo di tutto quindi ovviamente lui è venuto nella creazione e quindi è entrato nella creazione quindi gloria al Padre al Figlio e al Spirito Santo nella creazione negli atti di Gesù e in tutto quello che Gesù viene è la rivelazione del Padre ora è sempre nei secoli dei secoli quindi ritorniamo all'eternità e come ci ritorniamo dove come dire l'eternità entra nel tempo com'è che il tempo rientra nell'eternità tramite la divinizzazione della creazione e come si compie questa divinizzazione della creazione con lo Spirito Santo e quindi gloria al Padre gloria al Figlio gloria al Spirito Santo compimento della vostra volontà così come si compie nel vostro atto ad intra padre che genere il figlio figlio che adori il Padre Spirito Santo che procedi così come si compie gloria 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 nell'ora nell'eternità che entra il tempo che è Gesù Cristo che entra nella creazione che compie la redenzione ed ora e sempre nei secoli dei secoli e si protrae per sempre nei secoli dei secoli rientriamo in questa atto ad intra e ci portiamo tutti appresso come ci portiamo? santificati divinizzati chi ce lo fa? lo Spirito Santo e quindi nel gloria al Padre c'è un perfetto giro dall'eternità al tempo rientrando nell'eternità dall'atto ad intra ad extra e tutto quello che l'extra è è creazione e redenzione è santificazione che è quella l'opera per cui la creazione rientra nel grado di Dio divinizzata nei secoli dei secoli abbiamo detto in gloria Padre da 20 secondi abbiamo fatto un giro nella divina volontà completo nella misura in cui lo vogliamo lo sappiamo e intendiamo farlo la creazione degli angeli espirituali la formazione degli angeli quando è avvenuto in quale sequenza allora entriamo in un campo però diciamo che l'angelo il compito dell'angelo è quello di adorare la divina volontà di adorare la divina volontà sia che questa divina volontà opere in Dio che questa divina volontà opere nella creatura anzi il compito dell'angelo è quello di adorare la divina volontà operante nell'umanità di Gesù Cristo nel verbo incarnato quindi l'incarnazione del verbo viene prima nel senso che è per lui in vista di lui che tutto viene creato anche gli angeli sono esseri creati in vista di lui che sono creati gli angeli per adorarlo non soltanto come verbo ma come verbo uomo per questo gli angeli alcuni angeli sono caduti perché lui hanno detto io luce purissima devo adorare uno che prende carne un Dio che non si fa angelo ma che si fa uomo non servia allora proprio per questo allora allora Lucifero tutta luce chiaro che sapeva della creazione l'incarnazione del verbo e dice io che devo adorare il verbo incarnato nella donna in cui concepirà il verbo io che devo adorare la divina volontà nell'uomo che è fatto di materia no per questo Gesù è stato fatto per poco tempo meno degli angeli nel senso come dice il salmo che Gesù si è incarnato in un'umanità che era caduta quando noi viviamo fuori della divina volontà noi siamo da meno degli angeli perché la nostra la nostra umana volontà però quando viviamo nella divina volontà gli angeli fanno sgomitate per adorare la divina volontà in noi fanno sgomitate se stiamo fuori della divina volontà l'angeli dice come posso aiutare questo a combinare con un'altra di quelle mamma mia quella carnaccia però continuano continuano in defessi in defessi quando noi entriamo nella divina volontà e facciamo gli atti nella divina volontà gli angeli tremebondi quando facciamo le ore della passione la divina volontà tremebondi prendono questi atti e fanno la navetta dalla terra al cielo perché vedono quella stessa divina volontà che loro adorano in cielo la vedono operando con la stessa potenza con la stessa maestà con gli stessi effetti infiniti dove nel nulla nel nulla insignificante di grazia di Maria Grazia Maria è la regina degli angeli e per questo quella donna la odiano per questo Gabriele si è inginocchiato nei confronti di Maria non perché Maria è bella santa piccolina bellissima e quindi che cosa viene prima? prima viene l'incarnazione del vero per lui con lui in vista di lui tutto creature spirituali creature angeliche creature materiali sono state create mi è venuto altro primo centrale e necessario bellissimo è l'incarnazione del verbo atto primo l'atto primo l'abbiamo detto è il primo è il primo atto d'extra perché senza dell'incarnazione del verbo non c'è niente non c'è la creazione è proprio in vista di lui che tutto è stato creato quindi è l'atto primo atto centrale l'incarnazione del verbo perché il verbo si è fatto carne è arregnato ha vissuto in mezzo a noi nel senso che quando l'eternità prende carne e si fa verbo incarnato entra nel mezzo dell'umanità nel mezzo dei secoli nel mezzo dei tempi nel mezzo del mappamondo betlemme nel mezzo della storia nel mezzo della tua vita quindi Gesù entra nel mezzo lui è il centro è il centro è il principio è l'atto primo l'incarnazione ma è anche l'atto centrale è l'atto centrale lui dicono inscritti lui è il rimedio è il legame di tutti i secoli è come se la calamita che riconduce tutto e riunifica tutto per portarlo al padre quindi atto primo atto centrale atto necessario necessario giusto per ricordare perché senza dell'incarnazione del verbo non soltanto c'era chiuso il cielo ma noi non esistiamo questo è il punto l'incarnazione del verbo non è una condizione per la redenzione non soltanto quello è stato un lavoro aggiuntivo che Gesù ha dovuto fare senza dell'incarnazione del verbo non soltanto noi non siamo salvati ma noi non siamo infatti ogni volta che recidiamo il credo durante la santa messa diciamo per noi e per la nostra salvezza allora scordiamoci il peccato per un momento facciamo conto che il peccato non sia mai stato commesso per la nostra salvezza lo togliamo resta per noi per la nostra esistenza è vero se lui non si incarna immagino la somiglianza di chi vengo creata per chi vengo creata chi mi divinizza che interesse ha Dio a crearmi è per lui in vista di lui immagino la somiglianza di lui è lui che può divinizare i miei atti è lui che mi riconduce al padre è lui che mi riporta all'origine e quindi atto necessario per l'esistenza umana sì ma allora quelli che dicono no no e no quelli proprio per essere un grande dolore per il signore infatti il mistero della perdizione è il mistero infinitamente più grande della Santissima Trinità questo mistero noi sarebbe per noi l'albero del bene e del male noi non lo vogliamo investigare non ci vogliamo mettere è come per dire no? è come per dire Adamo gli ha detto sì lascia stare lì non ti preoccupare allo stesso modo come in Maria Valtorta no? quando gli apostoli ancora ringalluzziti noi in 40 giorni quando Gesù appariva loro e ancora ci avevano no? quella specie di supervietta che diceva ma Giuda ma lui che ha fatto Gesù ha dovuto intervenire il tuo silenzio sul dolore eterno di ti infatti infatti allora perfetto allora il mistero di un'anima che pecca contro lo Spirito Santo del resto che dice questo è falso questo lo rigetto sebbene io sappia che è vero questo è il peccato contro lo Spirito Santo negare la verità sapendo che è vera dire che questo è nero sapendo che è bianco esatto allora questo allora questo è una cosa che è talmente astrusa non mi appartiene che io non la voglio indagare la Santissima Trinità è un libro aperto è una goccia di te in confronto al mistero di un'anima che si vuole perdere perché entriamo in una spera che non appartiene a Dio Gesù ha studiato Sandro comunque anche se anche se anche se Adamo nasce il peccato quello lui sarebbe sempre un glorioso per questo abbiamo detto perfetto volume 25 31 marzo per questo abbiamo detto atto primo atto centrale atto necessario perché anche se il peccato originale non fosse stato commesso lui dice io sarei venuto comunque sulla terra per farci vivere una divina volere perché lui deve attualizzare tu hai detto lui è venuto per farci vivere una divina volontà perché perché c'è stato lo strappo con il peccato di Adamo però se Adamo non fosse il peccato l'avevo vissuto una divina volontà ma Adamo poteva vivere nella divina volontà perché il verbo si incarna Adamo poteva fare i suoi atti nella divina volontà soltanto perché erano fatti e attualizzati in Gesù Cristo in Gesù Cristo quindi non importa che Adamo perfetto perché Adamo si è stato creato a immagine e somiglianza dell'astrofisica di Gesù Cristo per un uomo e per un Dio e quindi quando creava Adamo lui quando fa la creazione di Adamo lui rimane estatico lui rimane estatico c'è anche quella creazione però lui vedeva anche il suo riflesso il suo riflesso esattamente proprio per questo nella divina volontà possiamo entrare appunto nell'atto della Santissima Trinità della creazione di Adamo e prima ancora che Adamo sia creato possiamo ringraziarlo e dire quel ti amo al posto di Adamo che sia come Adamo quando Dio padre parlava da Adamo concorreva anche Gesù Cristo come faceva allora chi è che passeggiava secondo voi Adamo non faceva Gesù Cristo chi è che si faceva le passeggiatine era lui che salite era lui ma certo Melchisedec che l'anno chi era Gesù Cristo Melchisedec chi era era Gesù Cristo allora Gesù Cristo è se lui non è noi non siamo è Gesù Cristo è vero uomo è vero Dio quindi anche se Adamo non era sempre per caso lui si sarebbe sempre incarnato è certo che si assolutamente si assolutamente si e dice però ovviamente non avrebbe potuto fare la redenzione tutti mi avrebbero potuto vedere Dio si è deciso una gloria assolutamente Gesù glorioso non il servo sofferente perché lui con i tre anni come dire in trent'anni ha divinizzato rifatto tutta per darci un'idea della misura in trent'anni ha divinizzato rifatto tutti gli atti umani ecco e poi tre anni li ha utilizzati per diciamo la redenzione diciamo che se Adamo non essi peccato non avrebbe vissuto non avrebbe avuto i figli storpi e tutti perfetti però lui ci aveva sempre una creatura che doveva rimanere vergine si faceva luce per concepire il figlio di Dio avrebbe sempre scelto una più degli altri se il peccato originale non fosse stato commesso il concetto di non-verginità non esisterebbe ovviamente con la luce come Maria diventava un luce la volontà è un fatto umano non è un fatto membranale è un fatto fisico però perché doveva scegliere una donna anziché un'altra a quel punto capito perché doveva scegliere Maria e non un'altra donna che comunque aveva vissuto sempre una di volta lui ha scelto la donna che poi questa donna è Maria ma se non ha giocato il peccato può scegliere un'altra o no lui dice chi di chi posso chiamare madre chi vive nella divina volontà non può scegliere anche un'altra no per lui il suo incarnarsi fisico che differenza c'è allora se noi riceviamo la vita divina di Gesù non ci deve preoccupare se Gesù si incarna in lei si incarna in me perché anche la donna ab eterno gli da la sua umanità quelle sembianze così come così così ciò così quello che è la divina volontà è per natura la madonna e ab eterno l'anima che vive nella volontà è per grazia è per grazia allora come dire che lui si incarna in lui in lei o in lei io lo chiamo figlio perché è figlio mio perché lui si incarna in me lui si incarna in chi fa la sua volontà come dice ma chi è che chi è mia madre chi è mia madre questa è è la insegnanza eterna si incarna in chi vive esatto per questo dice sembrava l'offesa la sua madre ha trattato così no insegnanza subliga perché Maria non si offende perché Maria dice ai figlio mio quanto vorrei che tu ti incarnassi in tutti i nostri figli che tutti ti facciano da madre figlia mia vieni tu a dividere la divina volontà se tu vieni a vivere la divina volontà io ti do la mia maternità divina verso Gesù e che lei è gelosa di essere la madre di Gesù lei vuole avere trilioni di madri perché sa che cosa vuol dire essere madre di Dio in ciascuno di noi in ciascuno di noi l'amore materno non è un'invenzione umana l'amore materno è un destellato lo stavo leggendo proprio ieri in un passo sublime del volume 35 non mi ricordo la data quello che dicevamo prima l'amore materno è un destellato dell'amore divino l'amore paterno per definizione è dominante quindi per definizione l'amore materno è quella parte che si nasconde la parte nascosta la parte che si sacrifica la parte che si orgogna la parte che allora per definizione per farci conoscere quest'amore materno comunque lui si sarebbe incarnato nella donna perché noi potessimo vedere l'amore materno di Dio che è l'amore che dà del suo sangue viscerale è il suo sangue è l'amore nascosto è l'amore di sacrificio allora Dio per questo così come lui crea il cielo le stelle il sole per darci un'idea senza la creazione non abbiamo nessuna idea di Dio è un Dio pagano è un Dio pagano è un Dio finito così come se noi ci mettiamo nell'atto unico facciamo om non riusciamo a girare negli atti la volontà te ne vai fuori di testa te ne vai fuori di testa allora Maria Santissima con o senza peccato originale è una creazione perfetta di Dio che ci dà la vita e ci fa vedere l'amore materno di Dio che lo devo ricevere come mio allora c'è l'atto di divina volontà chiamato non ti scordare di me chiamato opera chiamato luce chiamato foglia di te e c'è l'atto di divina volontà sublime il più bello di tutti gli atti creati chiamato Maria Santissima è meno male che la crea è meno male perché mi fa vedere mi fa perché mi dà l'amore mi dà l'idea mi dà la vita della maternità dell'amore materno che lei la fotocopertisce tutto ah sì nel senso che lei poi è il compendio di tutto il creatore come Luisa si spiega si descrive la nascita di Gesù Maria che si spiritualizza diventa la luce e da lei e da questa luce c'è un'altra luce che è Gesù ecco come avremmo noi concepito se fossimo rimasti nella dignità dell'innocenza che è originale cioè avremmo concepito due luce che daremo vita ad altre luci però questo concepimento puro santo bello il compimento di questa promessa lo troviamo dove? lo troviamo nell'immacolato concepimento di Maria lo troviamo nell'incarnazione del verbo e allora sebbene Maria e Gesù non abbiano figli nell'ordine naturale non vuol dire che noi non troviamo l'atto del concepimento nella divina volontà lo troviamo nella divina volontà così perché il concepimento di luce è il concepimento della divina volontà nella creatura allora soffriamo pure le conseguenze del peccato originale ma non ci intaccano nel senso che la divina volontà è la purificatrice e trasforma tutto in luce tutto si può fare nella divina volontà anche concepire ovviamente nell'ordine naturale un atto umano nella divina volontà diventa un atto di luce sono tanti i piccoli anche l'atto umano nella divina volontà si trasforma in un atto di luce è politica è politica è politica è politica è politica è politica infatti anche i momenti di cui Luisa rimaneva solo da Gesù e che lei andava a cercare Gesù l'atto sublime della pena della privazione sublime così come la privazione del padre per Gesù che l'ha sofferta dal momento il suo concepimento dice l'atto più penoso più duro in tutta la mia vita la pena più grande è che nonostante io sono e fossi vero uomo e vero Dio nelle pene mi sentivo isolato anzi rifiutato allora immagino un vero uomo e vero Dio che si sente isolato dalla sua natura divina sebbene impossibile è il tessus questa è una pena talmente è una pena divina questa pena divina si può soffrire solo nella divina volontà questa pena divina la sofferta della nostra maesantissima perché Luisa gli dice ah ma ma la maesantissima non ha sofferto no figlia mia quante volte l'ho lasciata nello stato di buografia e l'ha sofferta Luisa perché così come la redenzione si doveva fondare sulla pena più atroce non sui chiodini e non sulle spinette ma sulla pena della privazione della divinità per riparare il vericidio così il regno della divina volontà si deve fondare e basare che la pena di Luisa è quella di stare nel letto è la pena della privazione della privazione e lo dice stesso altrimenti non l'avresti conosciuto esatto tu mi devi bellissimo tu mi devi ringraziare di questa pena perché è il segno che io da te sono venuto e che tu mi hai conosciuto e che in questa conoscenza io l'ho sottratta in questi vuoti che tu sentivi non sentivi in te la vita che costituisce la tua vita e subivi morte continua questo è il segno che tu mi possiedi che da te sono venuto e tu mi hai conosciuto quanti vivono senza di me privi di me e non se ne danno un pensiero ma ne danno un pensiero allora la pena della privazione è la riparazione eterna e universale di una volontà umana che vuole vivere priva della divina è soltanto una volontà umana che non può fare a meno della divina e che si sente privata della divina può riparare a questo decilio di vita divina che la umana volontà commette questa è la pena della privazione che ci ha guadagnato il regno della divina volontà quindi soltanto la conosci e posso veramente sapere cos'è quella sofferenza perché tutti la conosci ma questo sarà scusate questo sarà anche penso per i dannati certo come diceva lui giustamente poi c'è una progressione ne parlavamo anche un altro giorno forse negli Stati Uniti più alcuni giorni fa e lui sa nel corso dei volumi dice non c'è questa pena della priazione e dice è pena dei purgatori ma no più grande del purgatorio e dice pena di purgatorio no e dice no perché le anime sanno che devono purificarsi quindi è pena più grande del purgatorio e poi dice no non è pena più grande del purgatorio è pena di inferno poi dice no non è pena di inferno è pena più grande dell'inferno e questo lo dice in una progressione dei volumi dal 12 al 18 dove lei inizia e Gesù non la contraddice che è pena più grande della pena di inferno perché i dannati vogliono stare senza di lui lo odiano sanno che lui è Dio allora la pena della rivoluzione è pena divina è pena che soltanto un Dio la può infliggere non è la chietà umana non è la santità la santità umana e non è la santità umana è soltanto la conoscenza di un Dio è la percezione che il Dio è lontano da noi quando in realtà è lui che si ritira apparentemente per creare questo vuoto si nasconde si nasconde ma senza di questa privazione lui non avrebbe potuto slanciarsi negli atti della divina volontà perché l'unico modo per lei per poter ritrovare Gesù era quello di andarlo a trovare negli atti della preazione della prevenzione della santificazione e come dire quando si metteva in moto nel mare della lina volontà c'era una piccola barchetta quando inizia a muore la barchetta prendi un po' di venticello e l'unico venticello che le dà un po' di sollievo nella pena di bruciare la lina volontà è il fatto di muoversi se io mi muovo se mi sto ferma muoio se invece mi muovo mi comincia a dare di remi ecco comincia a avere questo piccolo soglierino e quindi il girare negli atti della divina volontà è l'unica cosa che ci può far vivere nella divina volontà questo vale anche per noi che noi sentiamo o no sensibilmente così come per Luisa ritrovare Gesù e ritrovare la vita lo poteva fare soltanto girando negli atti della divina volontà così per noi girare negli atti della divina volontà non è soltanto utile è necessario per vivere la divina volontà altrimenti non troviamo questa vita grazie al Signore con te tu sei benedetta tra le donne e benedetto il fruttore di tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amene Padre nostro che il segno sia santificato il tuo nome benedetto il regno sia fatta la tua volontà come il cielo così sera darà giocci il nostro pane quotidiano e gli metti a noi i nostri cristi come noi li archiamo ai nostri debitori e non ci indurre in te passiamo ma le reggiamo amene amene gloria al Padre al Signore Gesù Santo come la guerra in Cisca e ora e sempre nei secoli del secolo amene sovrana regina vivendo nella divina volontà ti chiedo per me e per tutti la tua santa del Dio sempre essa come se l'estero giallo sui peccatori che vi converta sopra gli affitti e i consoli sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene sulle anni ammurranti e smorsi d'oro fuoco e le voce dalla tua benedizione materna sia pregno di eterna salvezza a tutti gli anni nella divina volontà ma che esercizi la tua genna benedizione che ci serve da ogni male le pronunci in noi di sua fiat regina del divino volere prenditi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina una settimana viaggio incluso dovevo andare ad un ritiro ad una conferenza che si trovava nell'area di Boston c'era stata lo scorso ottobre ah sì alla fine di ottobre e quindi c'era un societote americano c'erano circa un centinaio di persone dell'area di Boston quindi nella zona nord orientale degli Stati Uniti anche altre persone dal Texas dall'Ohio dalla California insomma varie persone un po' da tutti gli Stati Uniti poi si è collegato anche padre Bucci del via Skype ah con voi sì ma padre Bucci è giù da dove lui quindi in Italia sì sì lui è a Trinitapoli sì 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 cioè non so adesso come si chiama la parrocchia però sì perché l'avevano spostato e perché era andato e Andrea adesso è ritornato lì allora sì 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 diciamo sicuramente da un paio d'anni sicuro e poi ha avuto anche l'operazione insomma ha avuto delle cose di salute però l'ho visto benissimo insomma attraverso Skype sembrava stava sembrava stava bene insomma le persone negli Stati Uniti lo amano tantissimo perché a parte il fatto che lui ha un filo diretto avendo conosciuto direttamente Luisa le persone si commuovono sai cioè è la persona che è normale comprensibile poi e poi lui ha viaggiato tanto negli Stati Uniti ci è venuto tante volte ha viaggiato per tanti stati così allora le persone lo conoscono sono sempre contenti di sentirlo tu l'hai mai sentito l'hai mai conosciuto padre Bucci no lui no ma sai chi è chi è diciamo il nipote di zia Rosaria zia Rosaria la Rosaria la signora che si prendeva cura di Luisa no ah ho capito sì 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 padre Bucci quando lui aveva dieci anni diciamo così per un periodo di sette anni da quando ne aveva tre a quando ne aveva tredici insomma così andava quasi ogni giorno a casa di Luisa e allora ovviamente sai sa tante aneddoti tante cose e poi adesso diciamo anche lui legge scritti eccetera per cui è andato anche e ha viaggiato tanto negli Stati Uniti perché il vescovo Cassati quello precedente l'ha mandato lì per spiegare a chi diceva che non era magari una cosa della chiesa dice no vedete che della chiesa così portava una lettera ufficiale ha viaggiato in tanti gruppi e quindi molte persone le conoscono poi capito sapendo che lui conosceva Luisa ha conosciuto tante diciamo testimoniato anche tanti fenomeni tutte queste cose qui è chiaro che la gente diciamo così si si commuove è certo e lui ha scritto due biografie ha scritto le biografie di Luisa conosce gli aneddoti eccetera eccetera e adesso mentre all'inizio era molto diciamo più prudente nel senso che diceva la vita di Luisa soltanto gli aneddoti adesso invece è più libero diciamo si sente più tranquilla e quindi anche via Skype eccetera parla molto dice Luisa è il capostipide del terzo Fiat creazione cioè proprio alla grande cioè proprio la butta lì senza proprio senza pietà e quindi le persone sono contente di sentire questo e quindi e quindi ovviamente prima poteva viaggiare adesso ha avuto l'operazione di cuore non so sta bene lo vedo bene insomma anche di Magritte eccetera però forse sai ha 80 anni eccetera non è più facile per lui andare è un'ammazzata andare negli Stati Uniti per una settimana per riprendere anche quando si collega via Skype con gli Stati Uniti diciamo le persone sono molto toccate perché lui di fatto l'ha toccata Luisa l'ha vista l'ha sentita cioè non è da poco è l'ultima persona rimasta di fatto e quindi è un miracolo vivente lui stesso diciamo e quindi e quindi insomma fa molto effetto soprattutto per le persone che abitano in un altro continente sai Marina alcuna volta hai te che giri speriamo che arrivi al Perù pure a parlare di questo della divina volontà ma lo sai io quando sono andata in Perù sono andata nel 2009 in Perù con un gruppo diciamo di americano così loro non sono non conoscono diciamo tanto anche se sono andati a una conferenza però la loro missione non è della divina volontà eccetera siamo andati lì a portare diciamo aiuti perché poi ci siamo andati nella zona di terremotata di come si chiama Cus di Guaraz credo che era sì tante a Lima una parrocchia di Lima insomma lì vanno tutti gli anni e c'era anche un sacerdote che parlava italiano perché aveva studiato un po' e io ovviamente sai ti porti qualche cosa quindi gli avevo dato qualche immaginetto gli avevo mi pare addirittura spedito qualcosa via email eccetera ma sicuramente ci sono dei gruppi in Perù ci sono in Colombia ci sono in Brazil ci sono in dappertutto ci sono in Italia sicuramente sì perché io so che in Colombia io ho addirittura un fratello fratello di un mio amico colombiano che vive negli Stati Uniti lui Victor Manuel Calderon si chiama così loro fanno continuamente le ore della passione per 24 ore poi in Bici ci sono dei sacerdoti colombiani insomma tu addirittura sei in contatto è il padre Pedro che lavora molto lì brava padre Pedro eccetera e quindi sicuramente ci devono essere anche in Perù e mio fratello adesso vive in Ecuador sì sì lui vive in Ecuador perché è sposato con una ragazza diciamo dell'Ecuador sono sposati lì e vivono lì a un'ora da Quito un'ora di Quito e il pueblo si chiama Maciaci Maciaci sta su una montagna no stanno bene insomma così adesso stiamo pregando che possano diciamo avere un bambino se il Signore vuole e insomma ci stanno certo speriamo quindi questo il padre del figlio dello Spirito Santo sorga la mia mente nella volontà suprema per coprire tutte le intelligenze delle creature con la tua volontà affinché tutte sorgano in essa e Dio a nome di tutti ti do l'adorazione l'amore la sottomissione di tutte le intelligenze creato Spirito Santo amore immacolato del padre e del figlio tu che per un preciso morire hai il verbo della madre incarnato viene il nostro cuore riempici del tuo divino amore tu sei amore sostanziale poiché sei essenza reale che ci conduce ad amare tua in te i tempi e i modi di Dio mostrali anche a noi e conducici a divenire come voi un unico amore ed un unico volere vi rendono persone une e trinitarie e la vostra essenza ci risvelano prorompi Spirito Santo amore prorompi dagli alti spazi e vieni a prendere sede nel nostro cuore manifesta a noi ogni ora la verità e rendici aperti a quanto via via ci disvelerai Spirito Santo amore uno ed onnipotente Signore donaci lo spirito del Padre e confermaci nell'amore del Figlio tu che sei unità indissolubile di trinitaria ed eccelsa meraviglia regale vieni qui sulla terra e riuniscici in uno stesso spirito amore immolato amore donato divieni in noi amore donante per ognuno dei figli tuoi non ti domandiamo più i sette doni ma agoniamo in noi la tua presenza fonte sigillata di puro amore vieni ed apri le tighe del nostro cuore perché tu possa da esso eternamente scaturire Spirito Santo amore donaci la tua stessa luce la tua stessa pace ed il tuo stesso vigore amore la regina del cielo è il regno della divina volontà la maestra degli apostoli Maria Santissima c'era lasciato sotto la croce ma proprio l'ho lasciato in mezzo agli apostoli sede e centro della chiesa nascente Maria Santissima barca di rifugio la discesa dello Spirito Santo l'anima alla madre celeste siamo tutti noi insieme eccomi a te di nuovo sovrana del cielo mi sento verso te talmente tirata che numero di minuti aspettando quando la tua altezza suprema mi chiami per darmi le belle sorprese delle tue lezioni materne il tuo amore di madre mi ravisce e il mio cuore gioisce nel sapere che tu mi ami e sento tutta la fiducia che la mamma mia mi darà tanto amore e tanta grazia da formare il dolce incatto alla mia volontà umana in modo che il volere divino stenderà i suoi mari di luce nell'anima mia e li metterà il suggello del suo fiat in tutti gli atti miei Deo mamma santa non mi lasciare più sola e fate scenda in me lo spirito santo affinché mi bruci ciò che alla divina volontà non appartiene lezione dell'origine del cielo non stiamo capace di nessuno figlia mia benedetta le tue parole fanno ecco nel mio cuore e sentendomi ferire mi riverso in te con i miei mani di grazie oh come corrono verso la figlia mia per darti la vita della divina volontà se tu mi sarai fedele io non ti lascerò più starò sempre con te per darti in ogni tuo atto parola e palpito il cibo della divina volontà ora ascolta Luisa ora ascolta mia il nostro suo bene Gesù è partito al cielo e sta in ansia sui celesti padre a terorare per i suoi figli e fratelli lasciati sulla terra e la parte celeste guarda tutti non ne sfugge nessuno retanto il suo amore che lascia la sua mamma ancora sulla terra per conforto aiuto ed ammestramente la compagnia dei suoi e i miei figli ora devi sapere che come il mio figlio partì al cielo io continuai a stare insieme con gli apostoli nel cenacolo aspettando lo spirito santo tutti estreti a media dell'intorno pregavano insieme o pregavamo insieme non facevamo nulla senza del mio consiglio e quando io prendevo la parola per istruirle e dire qualche anetodo del mio figlio che loro non conoscevano come per esempio le particolarità della sua nascita le sue lagrime infantile i suoi tratti amorosi gli incidenti successi nell'Egitto le tante meraviglie della vita nascosta in Nazareth o come erano attenti ad ascoltarmi e restavano rapidi nel sentire le tante sorprese e tanti insegnamenti che mi dava che dovevano servire per loro perché mio figlio poco o nulla parlò di sé stesso con gli apostoli riservando a me il compito di far loro conoscere quanto li aveva amati e le particolarità che solo la sua mamma conosceva sì che figlia mia io ero immesso ai miei apostoli più che il sole del giorno e qui l'ancora il timone la barca dove trovarono il rifugio per restarsene sicure e difese da ogni pericolo perciò posso dire che partorì la chiesa nascente sulle miei ginocchia materne e le mie braccia furono la barca nella quale la guidai a porto sicuro e la guido tuttora bene onde giunse il tempo che scese lo spirito santo promesso dal figlio mio nel cenacolo che trasformazione figlia mia come furono investiti acquistarono nuova scienza fortezza invincibile amore ardente una nuova vita scorreva in essi la quale li rendeva impavidi e coraggiosi in modo che si divisero in tutto il mondo per far conoscere la redenzione e mettervi la vita per il loro maestro ed io restai con l'amato Giovanni e fui costretta ad uscire da Gerusalemme perché incominciò la tempesta della persecuzione figlia mia carissima tu devi sapere che io continuo ancora il mio magistero nella chiesa non vi è cosa che da me non discende posso dire mi sviscero per amore dei figli miei e mi nutrisco col mio latte materno ora in questi tempi voglio mostrare un amore più speciale col far conoscere come tutta la mia vita fu formata nel regno della divina volontà perciò ti chiamo sulle mie ginocchia fra le mie braccia materne affinché facendoti da barca tu resti sicura di vivere nel mare della divina volontà grazie più grande non potrei farti e ti prego contenta la mamma tua vieni a vivere in questo regno si santo e quando vedi che la tua volontà vorrebbe avere qualche atto di vita vieni a rifugianti nella sicura barca delle mie braccia dicendomi glielo diciamo insieme mamma mia la mia volontà mi vuole tradire e Dio la consegno a te affinché metta al suo posto la mia volontà oh come sarò felice se potrò dire la fede a mia è tutta mia perché vive di volontà divina ed io farò scendere lo spirito santo nell'anima tua affinché tu bruci ciò che è umano e col suo soffio refrigerante imperi sopra di te e ti confermi nella divina volontà rispondiamo insieme alla mamma santissima maestra divina oggi la tua piccola figlia si sente il cuore gonfio da svolgarmi in pianto e bagnare con le mie lacrime le tue mani materne un vero di vestizia mi invade e temo che non farò profitto dei tanti tuoi insegnamenti e delle tante tue più che materne pregure mamma mia aiutati fortifica la mia debolezza metti in fuga i miei timori ed io abbandonandomi nelle tue braccia sarò certa di vivere tutta di volontà di divina volontà c'era da aggiungere qualcosa o mi dedichi da fermarci da fermarci su ciò che ci ha insegnato la mamma santissima si no io da aggiungere la mamma santissima no ovviamente ma so fermarci si no pensavo mi veniva da da riflettere quando la madre dice Gesù era partito promettendoci lo spirito santo e c'è una costante no che sembra che per avere lo spirito santo Gesù deve andare via no allora come nel vangelo cercavo di capire no questa cosa o meglio di riflettere quando Gesù dice io devo andare perché vi devo mandare il paraclito allora Gesù dice come la necessità io devo andare Gesù chi è? Gesù è la rivelazione del padre però è lo spirito santo che ci fa incarnare Gesù Gesù è la rivelazione del padre ma come noi possiamo ricevere l'opera di Gesù lo spirito santo è la santificazione quindi per poter ricevere in noi Gesù dobbiamo ricevere lo spirito santo allora mi veniva in mente quello che fa Gesù con Luisa allora così come nel regno della redenzione Gesù viene si fa conoscere si fa toccare mangia insieme agli apostoli parla con loro vive con loro per tre anni però poi affinché acquisiscano il vero carattere di apostoli Gesù deve andare via e la madre stessa santissima dice che trasformazione figlia mia da lattanti della spiritualità vengono trasformati e raggiungono e ricevono questa nuova scienza fortezza invincibile amore ardente che trasformazione figlia mia questo avviene nel regno della redenzione mi viene quasi da fare un parallelo con gli scritti di Luisa nel regno della santificazione allora per la santificazione prima noi conosciamo Gesù Gesù si fa conoscere il primo contatto con Gesù a vedere questo uomo Dio crocifisso e quindi in croce e Luisa ha conosciuto Gesù tant'è vero che ci ha parlato non poteva più vivere senza di lui e ha ricevuto quasi le virtù di Gesù in modo vivente la signora obbedienza l'umiltà Gesù si è rispecchiato in lei e lei in Gesù quindi tutta la prima parte degli scritti di Luisa sono lo specchio divino e addirittura Gesù dice voglio adesso che tu entri nella mia umanità e fonditi nella mia umanità addirittura Gesù e Luisa si identifica addirittura Luisa una volta si trova che ha le sembianze di Gesù e dice no no per carità questo non può essere io uguale a Gesù e Gesù dice no così deve essere poi quando Gesù vuole completare espandere l'opera del regno della divina volontà in Luisa Gesù si deve eclissare quasi deve partire da Luisa non che Gesù va via come pure Gesù dice agli apostoli io sto sempre in mezzo a voi non vi abbandono mai quando uno due siete riuniti in mio nome io sto con voi addirittura lui resta nella Santissima Eucaristia ma c'è questa parvenza quasi che al fine di ricevere lo spirito e i suoi frutti Gesù deve partire oppure con Luisa affinché Luisa possa andare in giro negli atti della divina volontà e girare nella divina volontà Gesù si deve eclissare infatti quando Luisa comincia a fare l'opera della santificazione vuol dire a formare il regno della divina volontà in lei e quindi cominciare a girare in tutti gli atti della creazione in tutti gli atti della redenzione in tutti gli atti della santificazione Luisa lo può fare solo perché Gesù si eclissa in lei se Gesù dice se io mi faccio vedere sempre da te tu saresti attaccato mani e piedi alla mia umanità e non ti slanceresti a fare gli atti della mia divina volontà e allora così come Gesù parte dagli apostoli affinché lo Spirito Santo possa completare l'opera e li renda apostoli impavidi della redenzione così pure Gesù una volta che si è fatto conoscere da Luisa si deve nascondere da lei affinché Luisa per il desiderio di trovarlo sia slanciata negli atti della divina volontà e compia l'opera dello Spirito Santo ovvero il girare costantemente negli atti della divina volontà non so se questo ha senso mi sembra il parallelo tra l'opera di Gesù e dello Spirito Santo nell'opera della redenzione che si compie e diciamo si manifesta in modo pieno nell'opera della santificazione e quindi con Luisa quindi Luisa prima si fonde in Gesù e non può vivere senza di lui poi Gesù dice questo l'abbiamo letto anche nelle preghiere la divina volontà ha per centro l'umanità di Gesù e chi vive in essa vive in questo centro allora immaginiamoci la divina volontà come un sole grandissimo un fuocato infinito luminosissimo il centro di questo sole è l'umanità di Gesù allora Luisa entra nella divina volontà e si attacca al centro sta con Gesù vuole stare sempre con lui adesso Gesù dice no io voglio che tu vai in giro per tutta la sfera del sole e possiedi e internalizzi e conosci tutte le molecole di luce che sono in questa sfera del sole e quindi voglio che ti slanci all'interno di essa per questo Gesù si ecclissa da Luisa come dire il centro del sole quindi Luisa vede soltanto luce e per poter ritrovare Gesù deve andare in giro in tutti gli atti della divina volontà e quindi questo per Luisa vuol dire anche pena della privazione e quindi l'eclissi di Gesù in Luisa per farla girare nel regno della divina volontà è la pena della privazione che in Luisa ha lo scopo di farla girare costantemente negli atti della divina volontà perché solo girando nella divina volontà lei può trovare la brezza che la rinfresca dalla pena atroce della privazione quindi Gesù ascende in cielo perché gli apostoli ricevano lo spirito santo Gesù si eclissa da Luisa perché Luisa continua a fare i giri nella divina volontà e la pena della privazione che è l'eclissi dell'umanità di Gesù serve appunto per fecondare il regno della divina volontà non so se diciamo a senso questo parallelo e quindi alla fine l'opera dello spirito santo negli apostoli che è il fatto di renderli veri apostoli del regno nuova scienza fortezza invincibile amore ardente in Luisa che la slancia nel fare i giri nella divina volontà è il frutto della pena della privazione che è il regno della divina volontà è come il completamento è come prendere in noi tutta la sfera della divina volontà di cui Gesù è il centro quindi se stiamo nella divina volontà Gesù è sempre con noi però la divina volontà è molto più grande di Gesù Gesù sta nel centro Gesù è come il centro di questa sfera ma Gesù vuole che noi prendiamo tutta la divina volontà e quindi prendiamo tutta l'unità della divina volontà quindi come diceva un sacerdote l'altro giorno nell'Omelia che mi ha colpito molto il frutto fondamentale dello spirito santo è l'unità abbiamo i tanti frutti dello spirito santo i doni dello spirito santo la conoscenza l'intendimento la sapienza il consiglio la pietà la fortezza il santo timor di Dio ma lo spirito santo ha per frutto principale come Gesù dice non vi preoccupate lo spirito parlerà in voi vi ricorderà tutto quello che vi ho detto quindi lo spirito santo ha quella quella funzione di farci abbracciare tutto di stare uniti tra noi e di farci abbracciare tutto quello che Gesù vuole dare quindi ingirare nella divina volontà che vuol dire inglobare abbracciare tutto Dio tutte le opere di Dio è il frutto dell'opera della santificazione è l'opera dello spirito santo proprio per questo negli scritti di Luisa dice ma come non si parla tanto dello spirito santo sia soltanto un accenno quando si dice no Luisa devi andare fonderti anche nell'ordine della grazia girare nell'opera dello spirito oppure quando nel volume 16 Luisa fa tutto il giro nei sacramenti e non si parla esplicitamente dello spirito santo perché gli scritti della tutti gli scritti della divina volontà il girare negli atti della divina volontà sono proprio l'opera dello spirito santo quindi sono proprio quello è tutto spirito santo da tutti i volumi e quindi sono l'unità allora il frutto principale dello spirito santo è proprio quello di condurci nell'unità della luce e della divina volontà unità uguale come dice Luisa e Gesù negli scritti unità uguale tutto che cosa sai figlia mia che cosa vuol dire unità unità vuol dire tutto accentramento di tutte le opere di Dio creazione redenzione e santificazione quindi girare nella divina volontà quindi lasciare che lo spirito santo ci conduca in tutti gli atti della divina volontà vuol dire riconciliarli ricondurli dentro di noi in unità e quindi compiere il fiat volontà stua non so se questo ha senso grazie è in mente subito infatti la rompe la pensare io ho sempre rompere unità hai fatto caso io ci ho pensato è parallelo mi dici tu l'unità l'atto di Dio se la vuoi rompere esatto sì esatto quindi il diavolo è colui che divide lo spirito che è colui che completa tutte le opere di Dio è colui che unisce allora Gesù ci rivela il padre e la connessione tra la divinità e l'umanità al fine di poterci di poter ricevere in noi tutto ciò che è Gesù abbiamo bisogno dello spirito del suo spirito e quindi è necessario che Gesù si ecclissi in noi affinché lo spirito ci riconduca a tutta quell'unità a tutte le opere di Gesù e a tutta la divina volontà il frutto dello spirito sono i giri il frutto dello spirito è l'unità è il girare nella divina volontà 29 settembre 1931 volume 29 sto facendo il mio giro nella divina volontà per seguire i tanti suoi atti fatti per amore nostro e giunta nell'Eden mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo che momenti solenni che foga d'amore sì che quell'atto si può chiamare un atto purissimo completo sostanzioso non mai interrotto d'amore divino quindi l'uomo fu formato ebbe principio nacque nell'amore del suo creatore era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava riprendo il pensiero quindi l'uomo fu formato ebbe principio nacque nell'amore del suo creatore era giusto che doveva crescere come impastato e alitato era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava quindi lo spirito santo è questo soffio dello suo creatore diciamo ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù visitando la piccola anima mia mi ha detto la creazione lo aveva creato lo aveva creato e che tanto l'amava e siccome non fu il solo nostro amore che sboccò nel creare l'uomo ma tutte le nostre qualità divine quindi sboccò la potenza la bontà la sapienza la bellezza e così di sepito perciò il nostro amore non si contentò ad amarlo ma sboccando tutte le nostre qualità divine restava la mensa sempre preparata e a disposizione dell'uomo in modo che ogni qualvolta il volesse potesse venire a sedersi a questa mensa celeste per alimentarsi della nostra bontà potenza bellezza amore e sapienza e così crescere innanzi a noi con le nostre stesse qualità divine col modello della nostra somiglianza ed ogni qualvolta veniva la nostra presenza per prendere i nostri sorsi delle nostre qualità divine noi dovevamo cullarlo sulle nostre ginocchia per fargli prendere riposo e fargli digerire ciò che aveva preso affinché potesse di nuovo alimentarsi dei nostri sbocchi divini per formare la sua crescenza completa di bontà di potenza di santità di bellezza come il nostro amore lo desiderava e il nostro volere lo voleva noi quando facciamo un'opera è tanto il nostro amore che tutto diamo e prepariamo affinché nulla manchi alla nostra opera creatrice facciamo opere compiute non mai a metà e se qualche cosa pare che manchi è la parte della creatura che non prende tutto tutto ciò che noi abbiamo messo fuori per suo bene e per gloria nostra ci fermiamo qui un attimo quindi questa è la parte che parla della crescenza della creatura innanzi alla maestà divina dove dice che la creatura può sempre andare e usare prendere di più delle qualità divine e quindi crescere nella vita della divina volontà a me fa sempre condivido questo poi magari se qualcuno ha qualcosa da dire è bello sentire tutti non lo so mi riesce mi semplificano il ragionamento pensare a cosa sia la volontà divina allora la volontà divina si può definire come la vita della Santissima Trinità ma diciamo la possiamo immaginare che cos'è se ce l'abbiamo qui davanti come si presenta allora mi viene da scomporla in diversi elementi innanzitutto prendiamola come il contenitore la capacità quel contenitore infinito che contiene tutti gli atti di Dio ok le qualità di Dio gli atti di Dio la vita divina le opere di Dio tutto allora vediamola innanzitutto come il contenitore quindi so quindi già questo mi aiuta che dice che vuoi dire nella divina volontà mi aiuta vivere nella divina volontà mi aiuta quasi di immaginazione per dire io devo entrare in un contenitore devo entrare in una stanza devo entrare in un ambiente è come quando io apro la porta entro in una stanza e quindi se io mi immagino che la stanza dove voi state è la volontà divina fai conto che questi muri sono soltanto sono infiniti i confini sono infiniti sono dei muri che si espandono all'infinito perché la volontà divina è infinita però voi state in questo contenitore ogni molecola di ossigeno perché ci sta l'aria da dentro in quella stanza ogni molecola di ossigeno e ce ne stanno trilioni e trilioni e trilioni e trilioni è un atto della divina volontà e quindi la divina volontà innanzitutto è la stanza che contiene tutti gli atti di pietro tutti eterni in eterno poi come inizia a dire questo passo qui dice all'interno della mia divina volontà ovviamente la divina volontà ha le qualità le caratteristiche le proprietà di Dio quindi la divina volontà ha le stesse qualità di Dio stesso quindi potenza sapienza onnipotenza infinità onniveggenza eternità tutte le qualità divine allora mi viene da immaginare che in questa in questa stanza voglio dire ci sono tante qualità come se fossero tante tante luci diverse tanti gioielli diversi il lapislazzolo piuttosto che l'ametista piuttosto che il topazio che sono tante qualità diverse tanti colori diversi che formano le qualità divine qua c'è la potenza qua c'è la mia che si possono combinare in tanti modi diversi che la potenza e la potenza insieme alla creatività Dio si mette a creare delle cose incredibili la giustizia insieme alla misericordia formano quell'equilibrio particolare piuttosto che la eternità insieme all'infinità fanno espandere questa stanza all'infinito allora quindi quelle sono le qualità quando le qualità quindi potenza sapienza infinità misericordia amore eccetera si muovono insieme formano il modo di operare divino il carattere divino il suo modo di operare quindi come dire le qualità divine messe insieme che si combinano insieme si muovono in un certo modo formano il modo di operare di Dio che è il suo carattere quando lui dice figlia mia il nostro modo di operare è questo quando noi facciamo opere universali le facciamo sempre ad un ad uno con una creatura quindi il modo in cui Dio opera dice la mia potenza si mette in moto la mia universalità si mette in moto le mie opere con la mia potenza le faccio universali le faccio ad un ad uno con la creatura e quindi lui si abbà e quindi tutte queste qualità divine che stanno in questo contenitore divino si muovono e si combinano insieme e formano il modo di operare di Dio che è il suo carattere il suo temperamento il suo modo di operare quando il suo carattere il suo modo di operare si mette a produrre che cosa produce? produce atti produce atti e quindi la volontà di Dio abbiamo detto fino ad ora è il contenitore all'interno di questo contenitore ci sono le qualità divine la potenza la sapienza che sono come delle luci delle proprietà delle qualità che stanno all'interno quando queste proprietà queste gemme si mettono si combinano insieme formano il modo di operare di Dio il modo di operare della sua persona per cui la sua potenza opera insieme alla sua onnipotenza la sua misericordia insieme alla sua giustizia è il modo in cui Dio opera il modo in cui Dio fa le sue opere è un Dio creatoittivo un Dio fecondo un Dio che quando opera fa le opere in un certo modo e quando fa decide e non le cambia non è che Dio nella redenzione ha operato diverso rispetto alla creazione e nella santificazione si è messo ha operato in un modo diverso no lui fa le opere in un certo modo e così agisce le fa sempre all'inizio le fa con una creatura e poi le fa conoscere a tutti quanti le opera sempre con la stessa combinazione delle sue qualità divine così come opera all'interno della Santissima Trinità con perfetta uguaglianza tra padre, figlio e spirito santo allo stesso modo lui opera quando opera a destra quindi quando queste qualità divine si mettono e si muovono insieme formano il modo di operare di Dio quando il modo di operare di Dio opera quindi il distillato il prodotto del suo modo di operare sono gli atti le famose molecole di ossigeno che stanno in quella stanza non sono tanti atti questo atto è l'incarnazione del verbo questo atto è il concepimento di Maria questo atto è l'istituzione dell'eucaristia questo atto è la creazione del sole ce l'avete tutti dentro basta che li respirate quante molecole di ossigeno lo state respirando e stanno tutti là sono trilioni trilioni e trilioni e trilioni perché questa stanza dove vi trovate non ha confini questi muri sembrano muri ma in realtà si espandono anche il computer non ha confini ecco quindi tutte queste trilioni di molecole di ossigeno che stanno in quella stanza che sono tutti gli atti della divina volontà li prendete tutti non è che uno viene prima dell'altro no lì c'è l'istituzione dell'eucaristia lì c'è l'ordine la grazia l'ispirazione dello spirito santo lì c'è Gesù che agonizza nell'orto lì c'è Gesù che sta in braccio la sua mamma lì c'è Gesù le preghiere che Gesù volgeva al padre lì ci sono le lacrime di Gesù lì c'è la creazione dei fiori di tutto tutto sta là dentro tutto si muove tutto si muove tutti questi atti insieme formano che cosa? come noi la nostra vita umana è un atto continuo anche se noi dormiamo comunque continuiamo a respirare e quindi anche se noi dormiamo non pensiamo comunque stiamo palpitiamo respiriamo il sangue circola quindi la successione continua dei nostri atti forma la nostra vita allo stesso modo e a maggior ragione la volontà di Dio tutti gli atti che formano la volontà di Dio costituiscono la vinta di Dio la vinta divina allora la divina volontà è tutte queste cose è il contenitore è le qualità divine che si muovono insieme e formano l'operare divino che producono gli atti divini che tutti insieme formano la vita divina e quindi è tutto insieme tutte queste cose il contenitore le qualità il motore il prodotto di questo motore quindi gli atti gli atti messi insieme formano la vita e quindi pensare quando Adam sta nella divina volontà lui sta in questo contenitore infinito e sguazza in mezzo alle qualità divine e dice vieni Gesù vieni a prendere di più vieni a prendere di più e allora quindi lui può crescere sempre perché ricevendo sempre più queste qualità divine riceve sempre di più l'impronta la somiglianza di che cosa dell'operare divino e quindi può fare tanti atti nella divina volontà tanti atti formano che cosa la vita nella divina volontà e quindi questa è la crescenza la crescenza di Adamo e di ciascuno di noi una volta che entriamo in quella benedetta stanza dove state voi il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla creatura dono grande che supera in valore in santità in bellezza in felicità tutti gli altri doni in modo infinito e inarrivabile quando facciamo questo dono si grande non facciamo altro che aprire le porte per farla posseditrice dei nostri possedimenti divini luogo dove non vi hanno vita le passioni i pericoli né nessun medico le può nuocere o farle del male questo dono conferma la creatura nel bene nell'amore nella stessa vita del suo creatore e il creatore resta confermato nella creatura quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro con questo dono la creatura si sentirà cambiata la sorte da povera ricca da malata perfettamente guarita da infelice si sentirà che tutte le cose si cambiano per lei in felicità è questo che vogliamo dare alle creature la nostra volontà come dono perché guardandola e possedendola come cosa propria riuscirà facile a farle formare il suo regno questo dono fu dato all'uomo nell'Eden e in grato ce lo respinse ma noi non mutammo volontà lo teniamo a riserva e ciò che uno ci respinse con grazie più sorprendenti lo teniamo preparato per darlo agli altri però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature conoscere il gran bene del dono per sospirarlo ma tempo verrà che la nostra volontà sarà posseduta come dono dalla creatura marina tu quando hai iniziato a parlare del contenitore sì che io ancora non sapevo cosa volevi dire io ho pensato in primo momento di contenitore che contenitore siamo noi ascoltando quella cosa precedente che abbiamo letto perché dove spiega qui che Dio è entrato in noi ma visto che noi eravamo così piccoli che non potevamo contenerlo si è riversato anche fuori da noi allora io l'ho visto questa cosa come noi contenitore nel contenitore che noi conteniamo Dio ma siamo contenuti da Dio sì e fino a quando siamo nella sua volontà ogni nostro atto diventa infinito perché siamo in Lui quando ci separiamo da Lui in quel caso i nostri atti sono finiti perché sono al di fuori di Lui come se una separazione e il dono grande di Dio è che noi possiamo nutrirci sempre di Lui per crescere in Lui ma saremmo sempre contenuti da Lui sì è bellissimo questo che stai dicendo Margherita infatti c'è un passo del 33 dove dice nella divina volontà è Dio tempio dell'anima e l'anima tempio di Dio quindi noi contenitori nel contenitore la cosa bella però è che lo scopo quando Gesù dice a Lui si aggira nella divina volontà espandi non restringi espandi la tua volontà nella mia quindi quando dice quando la questa è la divina volontà quando la piccola umana volontà entra nella divina è piccolissima però nel momento in cui inizia a girare si espande espande la propria capacità quando noi giriamo negli atti della divina volontà noi ce li mangiamo li conteniamo noi diventiamo i contenitori anche delle opere di Dio e di Dio stesso quindi che cosa succede come successe con Maria Santissima Maria Santissima quando venne assunta in cielo il cielo non la poteva contenere perché in Maria Santissima vedevano Dio e tutte le opere di Dio quindi il girare costante nella divina volontà il vivere completo nella divina volontà fa in modo che l'anima pur essendo un nulla un piccolo si espanda e si identifichi con il contenitore quindi tu alla fine pur essendo un nulla ti vai a espandere e a coincidere con il tutto e quindi siamo contenuti da Dio nella sua divina volontà ma lo conteniamo quindi ci identifichiamo l'uno con l'altro tu entri piccola piccola con il tuo nulla ma proprio perché sei nulla ti puoi espandere e vai a coincidere con il tutto fai in modo che tu per esempio immagina che Gesù ti desse una pelle al tuo corpo stiamo parlando di corpo orsoare faccio un esempio strano stai in questa stanza la stanza è la divina volontà questa divina volontà contiene ovviamente il Dio con tutti i suoi atti gli atti sono le molecole d'aria che stanno in quella stanza fai in conto che tu diventi talmente elastica che tu puoi in un solo respiro i tuoi polmoni si espandono e diventano grandi quanto i muri della stanza quindi tu riesci a mangiare a contenere dentro di te tutta l'aria che sta dentro quella stanza quindi tu ti identifichi con quella stanza tutto ciò che è contenuto in quella stanza lo contieni tu e quindi in questo senso il contenitore e tu stessa vi identificate e quindi tu sei contenitore all'interno del contenitore così come hai detto all'inizio non so se questo è chiaro si e poi c'è un'altra cosa che mi ha toccato tantissimo dal Vangelo come è stato rivelato alla Valtorta proprio nella prima pagina quando Gesù parlava di Maria diceva che lei nella sua piccolezza nella sua umiltà era così tanto annientata che riuscita a contenere l'incontenibile ecco bellissimo bellissimo esatto e questo è il vivere nella divina volontà contenere il suo questo è il miracolo dei miracoli quando Gesù dice il vivere nella divina volontà che l'infinito si abbassi e si abbassi l'infinito l'onnipotente può fare quello che vuole si abbassa diciamo a carezzare il nulla ma che il nulla riesca a contenere l'infinito questo è un miracolo che noi stessi siamo rapiti da questo stesso miracolo quando vediamo un nulla che contiene noi l'infinito questo è l'estasi di Dio nel vedere se stesso e la sua volontà contenuta nel nulla che lui stesso ha creato questo è il rapimento di Dio nei confronti di Maria Santissima questo è il rapimento di Dio nei confronti dell'anima che vive nella divina volontà miracolo infinito il nulla che contiene l'incontenibile c'è un miracolo nella fusione si avverte questa cosa nella fusione la fusione sente questa immensità e si è ecco noi con la fusione entriamo come un nulla nella grandezza della divina volontà però con il girare negli atti noi ci espandiamo e iniziamo a contenerli perché se io questo è il bello se io dico soltanto questo è il salto tra il volume 12 e gli altri volumi in cui lui si comincia a girare se io resto attaccata all'umanità di Gesù e dico Gesù vieni tu a spazzare in me vieni tu a fare diciamo a fare i miei piccoli non nulla in me Gesù viene e li fa ma Gesù dice io vengo figlia mia per me è facile adesso però voglio che tu venga in tutti i miei atti e quindi che tu li contenga che tu li possegga l'anima che vive nella divina volontà volume 16 deve racchiudere tutti gli atti fatti da essa altrimenti come può dire che vive nella divina volontà se non racchiude tutti gli atti come li possiamo racchiudere questi atti visitandoli mettendo il nostro ti amo possedendoli andandoli a visitare girando nella divina volontà la prima cosa che facciamo è il ti amo come in quel passo che viene citato nel libro che abbiamo visto prima Gesù ma mi sembra di dire sta cantilena così iniziano i giri di Luisa ti amo nel sole ti amo nella luna ti amo nel mare come il ti amo una cantilena il ti amo è tutto il ti amo è amore è venerazione è eroismo è fiducia è sacrificio figlia mia nel ti amo io fui concepito e nel ti amo spirai l'ultimo respiro il ti amo è tutto e il ti amo dice Gesù ti dà il diritto di possesso se tu dici Gesù divina volontà ti amo nel sole la divina volontà si vede posseduta da questo ti amo e dice tu mi possiedi allora io se posseggo la divina volontà nel sole posso dire che un sole si forma in me e quindi il sole si viene racchiuso in me e quindi già vengo ad espandermi e a racchiudere un'opera di Dio il sole quindi questo lo faccio mettendo il mio piccolo ti amo e tanto dobbiamo andare in giro gli atti che da divina volontà tanto dobbiamo fare che li dobbiamo racchiudere tutti quindi il nostro nulla arriva a contenere l'incontenibile non in virtù della nostra bravura della nostra elasticità di quanto ci riusciamo a gonfiare ma soltanto in virtù del miracolo dei miracoli della divina volontà che vuole essere racchiusa e contenuta nel nulla della creatura perché questo è quello che fa morire Dio di gioia di gloria e di amore il ti amo è tutto lo leggo l'ho visto la pagina 11 dal volume 17 bellissimo dopo un momento di riflessione ma che fa e che serve questa cantilena allora intervenne Gesù tutto premuroso e dice che cosa dici figlia mia il ti amo è tutto il ti amo è amore è venerazione è stima è eroismo è sacrificio è fiducia verso colui al quale è diretto il ti amo è tutto anche se noi non sappiamo dire nient'altro dice Gesù ti amo nella tua volontà il ti amo è tutto possiamo leggere se vuole bene leggiamo il primo bell'onomastico di San Luigi Luisa Picaretta fu una riteneva il suo protettore San Luigi Gonzalo Luisa scrive il 21 giugno volume 19 nel suo diario avendo fatto la santa comunione secondo il mio solito l'ho fatta nella santissima volontà di Dio non come l'abbiamo fatto fino adesso tutti noi in modo umano santa il più possibile però sempre santità umana e su Luisa vivendo di volontà divina entrata nella divina volontà coscientemente volontariamente ha ricevuto Gesù Eccaristia nella divina volontà in modo che fosse che tutto fosse divino anche in quel lato di ricevere Gesù Eccaristia per poter dare tutta quella gloria ricambio e ricambio ricambio da voi divino che ha diritto di ricevere l'ho fatta nella santissima volontà di Dio offrendola per il 21 giugno al mio caro San Luigi nel suo domastico non solo la comunione ma tutti i beni che ci sono nella santissima volontà di Dio per sua gloria accidentale che vuol dire accidentale cosa vuol dire gloria cosa vuol dire gloria accidentale allora già queste prime queste prime frasi di questa di questo passo del volume 19 che è un volume è già molto avanzato ci danno una una luce delle verità molto importanti innanzitutto possiamo già trarre l'insegnamento che tutti i sacramenti li possiamo e li dobbiamo ricevere nella divina volontà allora io parlo diciamo per tutti ma è come se volessi parlare in particolare a Delvira perché dico siamo tutti principianti no? siamo tutti esposti per la prima volta alla divina volontà però possiamo iniziare subito a vivere nella divina volontà non dobbiamo leggere tantissimo non dobbiamo fare un corso specializzato possiamo subito iniziare se stiamo nella grazia di Dio che è Gesù io non so esattamente cos'è questo dono che tu mi vuoi dare però io credo che è una cosa bellissima grandissima so che tu mi vuoi dare la vita della tua divina volontà così come Luisa diceva a tutte le persone nelle lettere che scriveva chiamate Gesù in tutte le cose che fate l'abbiamo pregato prima allora da oggi in poi tutte le volte che riceviamo la comunione diciamo Gesù ti voglio ricevere nella tua divina volontà e siccome nella divina volontà si trova l'atto di Gesù che ha ricevuto se stesso è come se noi dicessimo anzi diciamo Gesù ti voglio ricevere nella santa comunione come tu hai ricevuto te stesso è importante notare come nella santa messa il sacerdote in persona Cristi dà prima la santissima comunione a se stesso e poi la dà gli altri questa è una cosa importantissima perché che cosa ci dice che se Gesù non avesse ricevuto se stesso prima noi non lo potevamo ricevere Gesù doveva mettere al sicuro le riparazioni doveva ricevere se stesso e quindi il suo corpo sangue anima e divinità in una umanità santissima la sua umanità nella sua propria umanità doveva circondare se stesso di onore divino di gloria divina di tutto ciò che lui dà a se stesso e dà al padre e quindi doveva per forza ricevere se stesso affinché poi potessimo noi ricevere lui perché nel momento in cui noi riceviamo lui lui già si è assicurato le riparazioni e se no come avrebbe potuto sopportare tutto il nostro ricevere in frettezza a volte anche in peccato allora noi ricevendo la comunione nella divina volontà diciamo Gesù io entro in questo divino volere e prendo il tuo atto di ricevere te stesso con questo stesso atto voglio riceverti così come l'ostia santa si poggia sulla mia lingua tu trovi un altro Gesù che ti riceve immagina la gioia di Gesù dice trovo me stesso riceve in questa creatura in questo piccolo nulla in questa mia figlia trovo me stesso riceve che mi dà tutta la gloria tutto l'amore divino un ringraziamento divino che tutti dovrebbero darmi e quindi gli dai riparazioni eterne infinite per tutti in nome di Dio questo è quello che Luisa stava facendo in particolare lei lo stava facendo in onore al suo santo che le ha dato il nome San Luigi non perché San Luigi l'avesse ricevuta mai indegnamente no ma l'aveva ricevuta fuori della divina volontà quindi non aveva potuto quindi prendere parte all'atto divino di Gesù di ricevere se stesso allora Gesù per Luisa per dare al suo santo questa gloria questo contento l'ha fatto questo atto in suo onore nella divina volontà che cos'è la gloria accidentale gloria in ogni caso vuol dire compimento della volontà di Dio quando pensiamo alla parola gloria a volte è un cliché diciamo ma che è questa gloria ci dà in mente una cosa diciamo un festeggiamento uno che compie un'impresa grande che sia un atleta che sia un condottiero un re in realtà gloria ha a che fare con compimento perfetto della volontà di Dio allora un atto o una creatura dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui questo atto questa creatura è stata creata allora ci sono due tipi di gloria in realtà la gloria sostanziale essenziale e la gloria accidentale la gloria sostanziale si trova all'interno della divina volontà come fonte come dire tutti gli atti che si fanno dentro la divina volontà hanno la fonte del compimento della volontà di Dio perché la volontà di Dio è la fonte di ciò che produce di ciò che fa di tutti gli atti e di tutte le creature se io mi trovo fuori della divina volontà comunque posso ricevere il contento e la gloria però lo ricevo come riflesso è come la differenza di una cascata una cascata di avere in sé la fonte di questa cascata bellissima di acqua fresca oppure di stare fuori e ricevere tutti gli schizzi la freschezza la fragranza e il godimento questa allora chi vive chi fa l'atto nella divina volontà ha in sé la fonte di quell'atto e lo può dare a tutti lo può dare a tutti e i quali ricevono per riflesso accidentalmente la gloria accidentale quindi lo ricevono per mezzo della creatura che fa quell'atto nella divina volontà non so se mi sono spiegato ora mentre facevo questo Luisa facevo questo comunione in questo modo vedevo che tutti i beni che ci sono nel volere supremo come tanti raggi di luce raggi di bellezza e variofinti colori inondavano il caro santo San Luigi dandole una gloria infinita il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia Luigi è un fiore è un santo sbocciato dalla terra della mia umanità e brillantato ai riverberi dei raggi del sole della mia volontà ai riverberi dei raggi del sole della volontà divina perché la mia umanità sebbene santa pura nobile è unita ipostaticamente al verbo è la terra e Luigi più che fiore sbocciò dalla mia umanità puro santo nobile possedendo la radice del puro amore in modo che si può vedere in ogni figlia in ogni foglia del suo fiore scritto amore ma quello che lo rende più bello e sbagliante sono i raggi del mio volere ai quali era sempre sottoposto ai quali era sempre sottoposto i quali raggi davano tanto di sviluppo a questo fiore da renderlo singolare in terra e in cielo ora figlia mia se Luigi è tanto bello perché sbocciò dalla mia umanità che sarà di te Luisa e di tutti quelli che possederanno il regno della mia volontà questi fiori non sbocceranno dalla mia umanità ma terranno la loro radice nel sole della mia volontà in essa viene formato il fiore della loro vita crescono e sbocciano nello stesso sole del mio volere che gelosa di questi fiori li terrà eclissati nella sua stessa luce questi fiori in ogni foglio si vedrà scritto tutte le specialità delle qualità divine saranno l'incanto di tutto il cielo e tutti riconosceranno in loro l'opera completa del loro creatore opera completa del loro creatore ma mentre ciò diceva il mio dolce Gesù si apriva il suo petto e faceva vedere dentro un sole immenso nel quale doveva piantare tutti questi fiori ed era tanto il suo amore e gelosia verso di essi che non doveva farli sbocciare fuori della sua umanità ma di dentro di lui stesso quindi stare fuori dall'umanità di Gesù vuol dire vivere ai riflessi della sua umanità imitare la sua umanità però entrare dentro l'umanità di Gesù vuol dire operare come lui operava quindi compiere atti con la stessa volontà che animava l'umanità di Gesù che è volontà divina questa è l'enorme grande differenza allora san luigi e tanti altri santi tutti gli altri santi hanno imitato in modo bellissimo eroico l'umanità di Gesù come dei fiori dice Gesù sbocciati dalla sua umanità che sarà invece di te Luisa che ti ho messo dentro dentro della mia umanità a far parte del sole della mia divina volontà all'interno quindi lei entra nella fonte gli altri sono fuori e partecipano degli effetti questa è la differenza tra la gloria essenziale sostanziale quindi essere fonte di beatitudine di felicità di gloria divina e stare fuori quindi per riflesso partecipare degli effetti godere degli effetti e questa è la gloria accidentale allora possiamo ancora dire che tutti i santi che celebriamo oggi hanno partecipato e godono della gloria accidentale e chiedono a noi che entriamo nel vivimvolere di poterli inondare con atti fatti nella volontà di Dio affinché che la loro gloria aumenti entro nella divina volontà e prendo nel volere divino tutti i sacrifici le preghiere e gli atti buoni infatti da tutti i santi e gli atti di Maria Santissima della Vecina di tutti i santi gli atti del Santissimo nostro Reddettore Gesù e gli offriamo a te come miei come nostri o Maestà Suprema in omaggio di gloria per glorificare maggiormente l'Eternore che è primo attore di ogni atto buono per raddoppiare la gloria dei santi e duplicare il bene ad beneficio di tutte le creature e che gli offro con lo scopo di entrare il regno della divina volontà sulla terra e nella tua volontà tendiamo a offrire i santi la santa comunione e tutti i beni che sono nella volontà divina per loro gloria occidentale volume 29 2 marzo del 31 titoletto l'offrire il sacrificio dei santi che è ciò che abbiamo fatto adesso pagina 4 giù in fondo offrire il sacrificio dei santi raddoppia la gloria e ci chiamo con la gloria occidentale per queste parole sono lì la divina volontà tiene la virtù risorgentiva chi fa la divina volontà acquiste i diritti e il vero divino stavo seguendo i miei atti nella divina volontà di Luisa e andavo offrendo andavo offrendo i sacrifici che fecero i santi dell'antico testamento quelli della mia mamma celeste tutti i sacrifici del mio amato Gesù e così via via di tutto il resto il divinvolere mi metteva me li metteva tutti in ordine innanzi alla mia mente e io li andavo offrendo come il più bello mangio al mio creatore ma mentre ciò facevo il mio dolce Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia non li è cosa sofferta ed offerta da tutti i santi della storia del mondo che la mia volontà non abbia avuto la sua parte facendosi attore e concorrente di forza di aiuto di sostegno di sacrificio o opera che hanno fatto ora l'anima offrendoli a Dio come maggio di gloria richiama la memoria di quel sacrificio e opera e la mia divina volontà riconosce ciò che ha messo di suo in tali atti e dà la virtù di raddoppiare la gloria di quel sacrificio per Dio raddoppiare la gloria per Dio e per chi ha avuto il bene di sacrificarsi ed operare per compiere la mia divina volontà il vero bene non cessa mai né in cielo né in terra basta una creatura che lo ricorda e lo offra che si rinnova la gloria in cielo e scendono gli effetti di quel bene in terra pro delle creature perciò la vita del vero bene non è soggetta a morire di fatti chi è la vita della mia chiesa chi l'alimenta e le fa da maestro se non il breve corso della mia vita qua giù posso dire che sono le mie pene che la sostengono sono le mie dottrine che la maestrano sicché tutto il bene che io feci non morì ma rimase con la pienezza della vita e vita che vivifica conserva alimenta e cresce continuamente e si dà a chiunque la vuole e come la creatura si ricorda di quel bene già si sente già si mette in rapporto con i miei beni e come li va offrendo così i miei beni si raddoppiano per darsi ad essa ed io mi sento raddoppiare la gloria di quello che feci per amore delle creature quando dobbiamo fermarci per capire meglio ce lo diciamo non voglio interrompere la lettura però ci sono due punti magari che si possono toccare il primo Gesù parla del ricordare e non è una cosa da nulla ricordare per esempio il santo del giorno Gesù dice nella memoria la memoria è il principio di ogni bene abbiamo letto mi pare nel volume 16 dire che la memoria lo dice in occasione del fatto che Luisa vede un suo confessore defunto e lo vede pieno di queste gocce di luce e Gesù dice vedi questo è il premio che lui ha ricevuto perché cercava sempre di ricordarsi quello che tu avevi quello che tu avevi scritto la memoria è il principio di ogni bene e quindi utilizzare questa potenza dell'anima per ricordare Dio e tutto ciò che appartiene a Dio è un atto santo e serve a mettere in bell'ordine nell'anima nostra tutte le cose che ci fanno fare la volontà di Dio gli atti gli insegnamenti le verità e il baccello quindi mettere come dire come ricordo e come prendere questo atto e metterlo in ordine in una casellina all'interno dell'anima pronto per essere utilizzato lo stesso ricordare il santo e tutti gli atti e i beni che ha fatto già dà al santo questa gloria perché lui si vede chiamato dal cielo dice wow c'è una creatura sulla terra che sta prendendo i miei atti siccome in cielo e nella divina volontà c'è completa comunione gli atti suoi sono anche atti miei se io vivo nella divina volontà posso prendere come miei gli atti del santo i sacrifici le preghiere le penitenze tutte le sue opere vuote e il santo ne riceve gloria accidentale sente la sua felicità raddoppiata in particolare che cosa avviene nel rifare i suoi atti avviene che anche se il santo non ha ricevuto la volontà di Dio come vita nel fare quegli atti ma è stato un effetto un'opera della divina volontà per lui il fatto che un'anima nella divina volontà adesso in terra ricorda e prende i suoi atti quest'atto del santo è utilizzato come opportunità come causa per fare un nuovo atto nella divina volontà e questa è la dinamica del rifare gli atti dei santi io prendo un effetto della divina volontà che è l'opera del santo e lo utilizzo come causa per fare un nuovo atto nella divina volontà è chiaro Carla questo che succede quindi è come dire il santo riceve la gloria come se avesse fatto i suoi atti nella divina volontà perché i suoi atti opere diventano vita perché un'anima in terra nella divina volontà ha preso queste opere e le ha utilizzate come causa per fare un nuovo atto nella divina volontà questo è il rifare che è importante perché oltre a ridare la gloria al santo raddoppia la gloria al santo e glorificare maggiormente Dio per la professione si si raddoppia la gloria al santo proprio perché lui vede tutti gli atti che ha fatto come fonte utilizzati come fonte di nuovi atti di volontà divina e quindi secondo la sua capacità la disponibilità che aveva di fare la divina volontà sicuramente superiore alla mia riceve la gloria come se lui avesse lui stesso o lei stessa avesse fatto questi atti nella divina volontà per questo i santi in cielo lungi dall'essere gelosi invidiosi ma guarda questi sono il fondo del barile se ne vengono e adesso questa santità è disponibile per loro e non era per noi no lungi da avere questa mentalità tutta secolare e terrena fanno il tifo per noi perché attraverso di noi possono ricevere la gloria piena della divina volontà tutti i santi tutti gli altri tutti i santi e li mettiamo lì assolutamente sì in cielo e terra per questo oggi li prendiamo tutti oggi li prendiamo tutti in un abbraccio immagina questi santi 144 tutti i santi tutti i santi vestiti di bianco con le palme tutta la popolazione del cielo che si fionda ogni volta che c'è un atto nella divina volontà fatto sulla terra per nessuna ragione un santo in cielo sgomitano santamente e si fiondano negli atti di Maria Grazia negli atti nostri in questo cenacolo in ogni preghiera perché la divina volontà in terra fa nuove conquiste fa nuovi atti è fonte di nuova felicità è fonte di nuova gloria mentre in cielo Big Ben ha detto stop come dire santità vuol dire sancire fissare la loro prova in cielo è fissata quindi non può né aumentare né diminuire per loro però tramite la chiesa militante tramite gli atti della divina volontà che formano nuove creazioni spirituali in terra loro possono ricevere nuova gloria nuova felicità quindi dipende da noi allora nel momento in cui per questo non vedono l'ora dal nostro primo padre Adamo tutti i padri nostri dell'antico testamento tutti i santi ogni volta che noi facciamo un piccolo atto nella divina volontà volano dentro questo atto per partecipare a questo atto per riceverne il nuovo contento e la nuova gloria che viene prodotta ogni volta che la divina volontà si muove per operare alza un po' la voce Rossana che ha detto che mi ha colpito ha detto tanta gente dice con tant'amore il rosario noi prendiamo lo mettiamo nella divina volontà che tutti i rosari sono di volere ha detto se ho capito bene si può fare no ha detto tutti che Rossana un giorno ha detto che anche tutti i rosari che sono detti in modo umano come in modo umano senza il conoscenza appunto della divina volontà se noi li raccogliamo tutti e li mettiamo nella divina volontà li mettiamo tutti nella divina volontà come se tutti come se tutti avessero preghiato il rosario nella divina volontà assolutamente perché ogni preghiera cristiana ogni preghiera cristiana e anche il santo rosario non è altro che un'opportunità per girare nella divina volontà nella divina volontà il nostro pregare il rosario non è più non può essere non ha ragione di essere come pia devozione ma è un giro negli atti del divino volere pertanto nel momento in cui noi per questo è importante prima ancora di iniziare a sgranare il rosario fondersi nella divina volontà è l'atto più importante non avere fretta di entrare nel rosario fondersi nella divina volontà nel momento in cui ci fondiamo nella divina volontà è come se la nostra mamma ci dà una piccola catenella perché negli atti noi ci perdiamo invece lei ci dà una catena con cui pian pianino passo dopo passo ci conduce per farci mettere la compagnia il ti amo il ti ringrazio in ogni piccolo atto che siano gli atti gioiosi gli atti dolorosi gli atti luminosi gli atti gloriosi il santo rosario è un giro nella divina volontà adesso la chiesa per tanto tempo non lo ha conosciuto lo abbiamo utilizzato come devozione ma la nostra santa madre sapeva quando l'ha dato ai dominicani a san domenico dove voleva arrivare e quindi adesso così come dice Luisa nel volume 25 e dice la catena del santo rosario sia quella che serva a tirare giù il regno della divina volontà sulla terra che aggrappiamo a questa catena atto dopo atto per questo è bello pregarlo lentamente e magari non in modo vocale ma utilizzando le potenze dell'anima grano dopo grano ripercorrere una particolarità dell'agonia di Gesù nell'oro una particolarità per esempio abbiamo tanti atti che sappiamo nella flagellazione quando preghiamo il secondo mistero doloroso a me piace dire il secondo atto doloroso allora nel pregare il santo rosario abbiamo dieci opportunità che si moltiplicano all'infinito di mettere di fare un atto di tenere compagnia a Gesù con i primi flagelli e poi le catene uncinate i bastoni spinosi e poi la pelle che gli cade e poi il suo sangue e poi tutto prima ancora che ce ne accorgiamo già arriviamo al gloria e dobbiamo muoverci ad un altro atto e quindi pregare il santo rosario nella divina volontà è una grande facilitazione per noi e grazie a nostra madre santissima che sa quanto ne abbiamo bisogno quanto siamo bambini per girare nella divina volontà e allora giustamente Rossana dice nel pregare il santo rosario nella divina volontà facciamo un atto universale di necessità noi andiamo ad abbracciare tutti i rosari possibili e immaginabili e li mettiamo nella divina volontà così come nel pregare la preghiera del padre nostro nel partecipare nel fare alla santa messa noi lo facciamo per tutti in nome di tutti quando la divina volontà si muove come vita necessariamente la divina volontà per sua natura si muove con un atto universale onnipotente onnivegente infinito immenso che abbraccia tutti non possiamo escludere nessuno e quindi che bello che bello avere per esempio il gloria patria ogni atto ogni preghiera cristiana è un giro nella divina volontà che abbraccia tutte queste preghiere e anche tutte le volte che le abbiamo pregate senza questa conoscenza le possiamo abbracciare in modo retroattivo per metterle tutte nella divina volontà affinché in ogni creatura noi ci mettiamo a chiedere il regno wow che potenza passiamo al barame all'8 ottobre del 31 volume 29 continuo lo stesso argomento la divina volontà è la depositaria di tutti gli atti di tutti i santi la mia povera mente gira intorno al sole del fiat supremo così gira il quale paramo adesso e lo trovo circondato da tutte le opere sacrifici eroismi che hanno fatto tutti i santi antichi e nuovi quelli della regina del cielo come pure quello che ha fatto per amore nostro il benedetto Gesù il volere divino tutto conserva essendo stato lui il primo attore di tutti gli altri buoni delle creature gelosamente li custodisce li tiene in deposito in se stesso e se ne serve per glorificarsi per glorificarsi e per glorificare coloro che le hanno fatti e Dio dice Luisa vedendo che tutto era della volontà di Dio essendo essa anche mia tutto era mio e girando in ciascun atto le offrivo come miei per glorificare maggiormente l'eterno volere ed impettrare che venga il regno il suo regno sul terra ma mentre ciò facevo il mio sempre amabile Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia ascolta i mirabili segreti del mio volere se la creatura vuole trovare tutto ciò che è stato fatto di bello di buono di santo in tutta la storia del mondo fatto da me dalla mamma celeste e da tutti i santi deve entrare nella divina volontà in essa tutto si trova in atto come tu Luisa facevi attenzione a ciascun atto lo ricordavi lo offrivi così il santo che aveva fatto quell'atto quel sacrificio si sentiva chiamare dall'anima diatrice e vedeva di nuovo il suo atto palpitante sulla terra quindi vedeva duplicata la gloria al suo creatore a lui stesso e tu che offrivi venivi coperta della rugiana celeste del bene di quell'atto santo ed a seconda lo scopo nobile ed alto con cui viene offerto così più intensa e grande la gloria e il bene che produce a seconda lo scopo nobile e alto con cui viene offerto così più intensa e grande la gloria e il bene che produce quante ricchezze possiede la mia volontà vi sono tutti gli atti miei di Gesù quelli della regina sodrana che stanno tutti in aspettativa di essere chiamati ricordati offerti dalla creatura per duplicare il bene a pro delle creature e per darci doppia gloria duplicare il bene a pro delle creature e darci doppia gloria questi atti vogliono essere ricordati chiamati per palpitare come nuova vita in mezzo alle creature ma per mancanza di attenzione vi è chi muore chi stenta per debolezza chi intristisce per il freddo chi non ha di che sfamarsi i nostri beni atti e sacrifici non si partono se non sono chiamati perché con ricordarli ed offrirli le creature si dispongono a riconoscerli e a ricevere il bene che i nostri atti contengono poi non vi è onore più grande che puoi dare a tutto il cielo che offrire i loro atti che fecero in terra per lo scopo nobile altissimo che sublime che venga il regno della divina volontà sulla terra è quello che abbiamo detto l'offrire gli atti dei santi nella divina volontà raddoppia la loro croce e quindi così il santo che aveva fatto quell'atto quel sacrificio quel santo l'aveva fatto diciamo con la sua volontà rassegnata disposta abbandonata confermata unita la volontà di Dio però era sempre la volontà di Dio che opera come abbiamo letto prima quando qualsiasi bene solo Dio è buono qualsiasi bene qualsiasi cosa santa è sempre la divina volontà che opera ma come riceve la creatura la divina volontà la riceve come opera come effetto o come vita ora i santi del passato aperti disposti abbandonati unificati alla divina volontà con attitudine santissima nei confronti della divina volontà hanno fatto delle opere sante ma sempre opere umane sono adesso però dice Gesù con come offrivi così il santo che aveva fatto quell'atto quel sacrificio si sentiva chiamare dall'anima viatrice quindi l'anima che sta sulla terra e vedeva di nuovo il suo atto palpitante sulla terra quindi vedeva duplicata la sua gloria al creatore e quindi come dicevamo prima vede questo atto che ritorna a farsi e viene utilizzato per fare un nuovo atto nella divina volontà e questo raddoppia moltiplica la gloria al suo creatore ma anche la gloria per se stesso discende sulle creature sulla terra il beneficio di quell'atto che lui aveva fatto di quell'atto che lui aveva fatto e quindi anche come dire la divina volontà come vita nella creatura ricicla tutto è un riciclaggio divino in cui anche tutte le opere per carità questo è un riciclaggio di opere sani di opere sani ma addirittura la divina volontà ricicla pure le opere omesse ricicla pure le opere cattive perché tutto si può fare tutto si può riparare tutto si può compensare tutto si può sostituire tutto si può e si deve rifare perché la gloria di Dio sia completa sulla terra e tutta sia compiuto nella divina volontà altrimenti il regno non si può stabilire sulla terra e quindi mentre i santi nel cielo sono quelli che godono di più perché sono quelli che proprio per stare nel cielo sono coloro che se avessero avuto queste conoscenze al tempo in cui sono vissuti o sarebbero stati i primi a vivere nella divina volontà molto più di me molto più diciamo di chi come me faccio un esempio magari una disposizione minore allora siccome Dio è giustissimo lui fa partecipare tutti alla gloria alla felicità del re e quindi quando la divina volontà opera sulla terra come vita i primi a goderne sono i santi nel cielo e il primo e il primo fra tutti è il nostro padre Adamo che dice a Luisa finalmente finalmente dopo secoli e secoli e secoli e millenni il Signore ha messo dato sulla terra ha riposto sulla terra ad una creatura comune comune quel dono che io ha per detti col fare la mia volontà è giusto Luisa che la corona che io mi tolsi col fare la mia volontà venga posta sul tuo capo perché lì dove io mi fermai tu continui non c'è più discontinuità allora Gesù continua a dare lezioni di divina volontà nel giardino terrestre dell'anima l'anima Eden terrestre si trova nei volumi dove si è dovuto interrompere con Adamo continua con Luisa e vuole continuare con ciascuno di noi e quindi è normale che il primo a gioire sia lo stesso Adamo è un mio onore più grande che puoi dare a tutto il cielo per offrire i loro atti con lo scopo più alto che appunto è chiedere rendere il fia sulla terra come c'è sì perché noi non offriamo questi atti per dire ai voglio dire i santi si fiondano nella comunione ci danno tutto quello che possono ma non stiamo pregando per questa o per quest'altra intenzione per trovare un oggetto smarrito per fare questo un lavoro per questa guarigione o quest'altro tutte le petizioni sono incluse ma offriamo la petizione delle petizioni la preghiera delle preghiere che la tua volontà Dio sia fatta sulla terra in noi come è fatta in cielo in te e quindi questa il Padre Nostro come dice Gesù a Maria Valtorta il Padre Nostro è la preghiera di tutte le petizioni e di tutte le consolazioni perché pregare sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra vuol dire pregare tutto allora noi quando quando siamo alla Mesa diciamo per tutti i santi per tutti i santi diciamo la preghiera per tutti i santi non è necessario dire il nome e dire i santi in generale va bene o forse dobbiamo dire il nome di ogni santo ogni santo no no non è in generale tu parliamo di oggi però in generale tutti i giorni sì sì non dobbiamo necessariamente dire il nome però se diciamo il nome meglio voglio dire la divina volontà opera ma nella misura in cui noi esercitiamo senza ansia senza pressione le facoltà della nostra anima intelletto memoria volontà quanto più ingaggiamo le potenze della nostra anima tanto più la vita della prima volontà si espande in noi per cui menzionare il nome perché no voglio dire è una gloria in più che diamo a quel santo ma questo non vuol dire che gliela togliamo se non lo menzioniamo non dobbiamo ecco la cosa importante che non dobbiamo vivere gli atti nella divina volontà con pressione con ansia come obbligo queste cose qui non esistono diciamo nella divina volontà ma sempre come opportunità come libertà come dono e quindi è chiaro che a volte non c'è il tempo a volte non ci ricordiamo ma il Signore lo sa però se nel giorno del tuo nomastico vuoi onorare la tua santa offrendo tutti i suoi atti nella divina volontà come ha fatto Luisa con San Luigi Gonzaga è un atto bellissimo che la tua santa lo può ricevere solo da te e quindi perché non darglielo Luisa magari non aveva il tempo la possibilità di farlo tutti i giorni per ogni santo però Luisa girava sempre nella divina volontà allora quello che dobbiamo tenere presente è che non importa tanto quale atto facciamo ma nella misura in cui noi stiamo sempre nella divina volontà se facciamo un atto nella divina volontà facciamo tutti gli altri e quindi l'importante è che facciamo qualcosa nella divina volontà perché in quell'atto nella divina volontà già troviamo tutti gli atti presenti e quindi se noi stiamo glorificando l'incarnazione del verbo adesso che ci approcciamo all'avvento ci possiamo stare sicura che in quell'atto ci vengono tutti i sani che a quell'atto beneficano tutte le creature perché tutti siamo stati concepiti Gesù che nostra madre santissima è la prima a essere glorificata perché è lei la depositaria dell'incarnazione quindi nella misura in cui noi stiamo nella divina volontà a fare un atto nella divina volontà già stiamo facendo tutti gli altri l'importante è continuare a girare sempre è come se la divina volontà è un mare noi entriamo in una piccola gocciolina di quel mare e sorpresa delle sorprese in questa gocciolina ci troviamo tutto il mare come dire stando nella divina volontà noi stiamo nel tutto il parziale la limitazione esiste fuori della divina volontà all'interno della divina volontà c'è l'unità della luce che cosa vuol dire unità dice Gesù vuol dire tutto centralizzazione accentramento di tutti gli atti delle creature passate presenti e future non so se vorrei subito grazie leggo soltanto in fondo pagina 13 un pezzetto della pagina 12 ho il bel vivere nel mio volere dice Gesù a Luisa mi piace tanto che farò scomparire tutte le altre santità sotto qualunque aspetto di virtù nelle future generazioni e farò ricomparire la santità del vivere nella mia volontà che sono e saranno non le santità umane dei santi fino adesso fu santi santissimi ma divine e la loro santità sarà tanto alta che come soli e chi saranno le stelle più belle dei santi delle passate generazioni perciò voglio purgare la terra perché indegna di questi portenti di santità certo non può venire a regnare la volontà divina col moccolo che c'è la politica nel volume 13 parla delle santità minori dei santi come preparativi alla santità del vivere nel corredo divino che è una santità tutta divina non più umana tutta divina mi sentivo tutta dubbiosa nel fondo 14 nel volume 13 il 3 dicembre del 21 volume 13 mi sentivo tutta dubbiosa ed annichilita per tutto ciò che il mio Gesù dice del suo divino volere pensavo tra me possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divino volere e che non abbia letto fra tanti santi uno dove dar principio a questa santità tutta divina eppure ci furono gli apostoli e tanti altri grandi santi che hanno fatto stupire tutto il mondo ora mentre ciò pensavo non dandomi tempo interroppendo il mio pensiero è venuto il mio Gesù e mi ha detto la piccola figlia del mio volere non vuole persuadersi perché ne dubiti ancora perché mi vedo cattiva e quanto più dici tanto più mi sento annientata e Gesù questo io voglio il tuo annientamento e quanto più ti parlo del mio volere essendo creatrice la mia parola crea il mio volere nel tuo e il tuo innanzi alla presenza del mio resta annientato e sperduto sappi che il tuo volere deve disfarsi nel mio come viene disfatta la neve e i raggi di un sole coccente ora tu devi sapere che quanto più grande è l'opera che voglio fare tanti preparativi in più ci vogliono quante profezie quanti preparativi quanti secoli non precedettero la mia redenzione quanti simboli e figure non prevennero il concepimento della mia celeste mamma onde dopo compiuta la redenzione dovevo raffermare l'uomo nei beni della redenzione ed in questi scelsi gli apostoli come raffermatori dei frutti della redenzione dove coi sacramenti dovevano cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo sicché la redenzione è salvezza e salvare l'uomo da qualunque precipizio perciò ti dissi un'altra volta che il far vivere l'anima nel mio volere è più grande della redenzione perché salvarsi fare una vita di mezzo ora cadere e ora alzarsi non è poi tanto difficile questo lo impettrò la mia redenzione perché volevo salvare l'uomo a qualunque costo e questo lo affidai agli apostoli come depositari dei frutti della redenzione or dovendo fare il meno il meno ancora lasciai per allora il più riservandomi altre epoche per il compimento degli altri miei disegni ora il vivere nel mio volere non è solo salvezza ma è santità che si deve innalzare su tutte le altre santità e deve portare l'impronta della santità del suo creatore ripeto il vivere nel mio volere non è solo salvezza ma è santità che si deve innalzare su tutte le altre santità dei santi e deve portare e deve portare l'impronta della santità del suo creatore perciò si dovevano eseguire prima le santità di noi come corteggio forieri messaggeri preparativi di questa santità tutta divina e come la redenzione nella redenzione scelsi la mia impareggiabile mamma come anello di congiunzione dal quale dovevano discendere i frutti della redenzione così scelsi te come anello di congiunzione dal quale doveva per principio la santità del vivere nel mio volere che essendo uscita dalla mia volontà per portarmi la gloria completa dello stesso scopo per cui fu creato l'uomo doveva ritornare sullo stesso passo del mio volere per fare ritorno al suo creatore la santità del vivere nel mio volere essendo uscita dalla mia volontà per portarmi la gloria completa dello stesso scopo per cui fu creato l'uomo doveva ritornare sullo stesso passo del mio volere per far ritorno al suo creatore qual è dunque la meraviglia queste sono cose stabilite ad eterno e nessuno me le potrà spostare e siccome la cosa è grande cioè lo stabilire il mio regno nell'anima anche in terra o fatto come un re quando deve prendere possesso di un regno lui non va per primo ma prima si fa preparare la reggia poi manda i suoi sudditi a preparare il regno e a disporre i popoli alla sua sudditanza onde seguono le guande d'onore i ministri e l'ultimo è il re cioè decoroso per un re così ho fatto io ho fatto preparare la mia reggia qual è la chiesa i soldati sono stati i santi per farmi conoscere dai popoli poi hanno preceduto i santi hanno preceduto i santi che hanno seminato miracoli con i più intimi ministri ora come re vengo io per regnare quindi dovevo scegliere un'anima dove fare la mia prima dimora e dove fondare questo regno della mia volontà l'anima scelta Luisa perciò fammi regnare e darmi piena libertà si vede qui la logica divina il modo di operare divino che fa le cose minori in preparazione per le cose maggiori questo è il modo in cui opera Dio nella sua sapienza nel suo ordine perfetto e le opere maggiori contengono le opere minori e sono il compimento e la gloria anche delle opere minori non le escludono quindi le santità delle virtù che la Chiesa ha coltivato e ci ha donato per tutti questi duemila anni e tutti i nostri fratelli e sorelle santi che ci hanno dato tanti esempi di virtù nel copiare chi quest'aspetto dell'umanità di Gesù chi quest'altra parte dell'umanità di Gesù hanno vissuto come dire quasi nel porto della mia umanità ma non hanno potuto entrare dentro la mia umanità quindi come dire non hanno passato il mar rosso non sono passati attraverso il mar rosso non sono entrati dentro all'interno della terra promessa dove scorre la temmiele la terra promessa è l'umanità di Gesù la temmiele sono la sua pace e la sua dolcezza allora è come se le santità umane stavano lì sulla costa dell'Egitto prima di entrare nella terra promessa e desideravano entrare e fare questo passaggio entrare nella terra promessa adesso il Signore apre le acque quindi apre la sua umanità e ci fa entrare dentro la sua umanità per incontrare come la sua divina volontà operava nella sua umanità e questo è il compimento di tutte le santità del passato per cui dice Gesù non ti preoccupare le conosco io le mie priorità voglio andare qual è il mio scopo finale lasciami regnano il primo scopo della sua venuta ha dovuto prima manifestare la salvezza prima ha dovuto darci i mezzi della redenzione adesso che i mezzi della redenzione più o meno ancora più o meno sono conosciuti ci vuole far conoscere e darci la possibilità di entrare dentro la sua umanità per poter regnare completamente come vita nella creazione fino a che lui non ha fatto questo completamente e noi non l'abbiamo ricevuto e come dire la sua opera non è ancora completa quindi se qualcuno ci dice ah domani finisce il mondo impossibile c'è ancora tanto da fare noi siamo nella preistoria del regno della divina volontà quante centinaia di migliaia di anni mi azzardo a dire ci vorrà perché la divina volontà regni completamente mi sa che il signore avrà tutto il diritto di godersi il regno della divina volontà quello che a noi sembra ritardo millenni secoli per lui è un punto è un punto però la divina volontà si manifesta con un ordine è una sapienza divina e non siamo noi a dover dire ah perché luisa ha corato e allora potremmo fare la stessa domanda perché Maria Santissima ha Nazareth perché duemila anni fa a Bethlehem di Ephrata tu la più piccola dei villaggi sei eletta perché tu dia la luce al salvatore allora tutte queste domande di tipo umano si ripetono nel tempo nella storia affinché la sapienza divina splenda sopra la stoltezza umana è sempre stato così ciò che è stolto agli occhi umani è sapienza divina e viceversa però la luce non tarda poi a splendere e per farla splendere in noi le condizioni dice Gesù per conoscere la verità sono l'umiltà la fede e il desiderio di conoscere questa verità mi ricorda così come è stato per il regno della redenzione quando è nato Gesù Chiechia che ha riconosciuto Gesù Chiechia che ha riconosciuto il Messia in questo bambinello in una grotta con le ragnatele con i topi e con le lucertole i pastori umili e poi chi è che l'ha riconosciuta nel tempio chi è che il ministro che ha fatto la cerimonia no lui aveva fretta di andare via era il era il vecchio ricordatemi il nome Simone la fede e poi anche tra gli eruditi tra gli scienziati chi è che l'ha riconosciuto coloro che sinceramente cercavano la verità i remaci allora queste tre condizioni che Gesù ci ripone ci utopone adesso nel volume 28 lo leggevo proprio due giorni fa per conoscere la verità le vediamo già nel regno della redenzione chi è che ha potuto riconoscere l'atteso in quel bambinello i pastori il vecchio che passava il tempo a pregare per la redenzione nel tempio pur non essendo lui ufficialmente un sacerdote e i remaci che cercavano la verità e che si sono sottoposti a fatiche a calugne al ridicolo pur di andare e di seguire la stella la verità lo stesso dobbiamo fare noi succede anche adesso questa cosa qua perché qualche persona arriva su su certo probabilmente la prende la porta lì poi di ti 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 la porta lì io ho visto il fido santo e tutti i gruppi di preghiera che hanno sono di qua quelli già proprio rinordinati pronti per entrare entrare nella rinontà anche se siamo giubbidanti giubbidanti c'è questa gradualità ho visto c'è questa gradualità importante per noi l'umiltà la fede e il desiderio di conoscere si magari chiudiamo perché poi tu devi andare nel nostro cuoco tra un po' ci stai e no ma perché non chiudiamo subito o magari sentimento volentemente nella prima volta entro e la prima volta la volontà prendo nel volere ultimo tutti i sacrifici e preghiera e gli atti buoni fatti da tutti i santi che oggi ricordiamo gli atti di Maria Santissima gli atti del nostro Santissimo Redentore Gesù li offriamo a te come nostri o Maestà Suprema in omaggio di gloria per glorificare maggiormente l'eterno volere che è il primo attore di ogni atto buono per raddoppiare la gloria dei santi e duplicare il bene a beneficio di tutte le creature e te le offriamo con lo scopo di impetrare il regno della divina volontà sulla terra e nella tua volontà intendiamo offrire a tutti i santi la santa comunione e tutti i beni che sono nella volontà divina per loro gloria accidentale 238 238 la benedizione della madre santissima la regina di tutti i santi 238 padre Maria vieni a grazie di tutti i santi di tutti i santi che i santi materna, sia fegno di eterna salvezza a tutte le anime. Nella divina volontà, Maria Santissima ci verifica, ci preservi da ogni male e pronunci in noi il suo fiat. Regina del divino volere, prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina. Dio Gesù, entro nel tuo volere e faccio mio un amore e le preghiere della mamma Santissima, di Luisa e di tutti i santi, per poter chiamare e pregare il mio dolce Gesù con lo stesso amore e le stesse preghiere della mamma Santissima e con l'amore e preghiere di tutto il cielo. Maria, madre e regina del divino volere, prego per noi. Luisa, piccola figlia della divina volontà, prego per noi. Sant'Amico e Maria di Francia, prego per noi. Appello del re divino nel regno della divina volontà. Cari ed amati figli miei, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere e della mia stessa morte. Guardatemi, ogni goccia del mio sangue, ogni pena, tutte le mie opere, i miei passi, fanno a gara che voglio darvi la mia divina volontà. Fin la mia morte vuol darvi il risorgimento della vita emessa. Nella mia umanità tutto vi ho preparato e impetrato, grazie, aiuti, luce, forza, per ricevere un dono sì grande. Da parte mia tutto ho fatto, ora aspetto la parte vostra. Chi è grato non vorrà ricevere me e il dono che gli porto? Sappiate che è tanto il mio amore che metterò da parte la vostra vita passata, le stesse vostre colpe, tutti i vostri mali. Vi seppellirò nel mare del mio amore affinché siano tutti bruciati e incominceremo insieme la novella vita tutta di volontà mia. Chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita tutta paterna? E se mi accetterete, io rimarrò con voi come padre in mezzo ai figli miei, ma dobbiamo stare con sommo accordo e vivere con una sola volontà. Oh, quanto lo sospiro, gemo e deliro, e giungo fino a piangere che voglio che i miei cari figli stiano insieme con me e vivano della mia stessa volontà. Sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e di lacrime amare della mia santa umanità che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per renderli felici e santi. Giungo a chiamarli piangendo. Chissà se si muovono a compassione delle mie lacrime, del mio amore che giunge fino a soffocarmi e a farmi spasimare. E tra i singhiozzi e gli spasimi, vuo ripetendo Figli miei, figli miei, dove siete? Perché non venite al padre vostro? Perché andate lontani da me, raminghi, poveri, pieni di tutte le miserie? I vostri mali sono ferite al mio cuore. Sono già stanco di aspettarvi e già che non venite, non potendo più contenere il mio amore che mi brucia, vengo io a cercarvi e vi porto il gran dono della mia volontà. Devi, vi prego, vi supplico, vi scongiuro, ascoltatemi, muovetevi a compassione delle mie lacrime, dei miei sospiri ardenti. E non solo vengo come padre, ma vengo come maestro in mezzo ai discepoli. Ma voglio essere ascoltato. Vi insegnerò cose sorprendenti, lezioni di cielo, le quali vi porteranno luce che mai si spegne, amore che sempre arde. Le mie lezioni vi daranno forza divina, coraggio intrepido, santità che sempre cresce. Vi straderanno la via ad ogni passo, saranno le conducenti alla patria celeste. Vengo come re in mezzo ai popoli, ma non per esigere imposte e tributi, no, no, vengo che voglio la vostra volontà, le vostre miserie, le vostre debolezze, tutti i vostri mali. La mia sovranità è proprio questa. Voglio tutto ciò che vi rende infelici, inquieti, tormentati, per nasconderlo e bruciarlo tutto col mio amore. E dare benefico, pacifico, magnanimo qual sono, ricambiarvi con la mia volontà, col mio amore più tenero, con le mie ricchezze e felicità, con la pace e gioia più pura. Se mi darete la vostra volontà, tutto è fatto, mi renderete felici e sarete felici. Non altro sospiro che la mia volontà regni in mezzo a voi. Il cielo e la terra mi sorrideranno. La mia mamma celeste vi farà da madre e da regina. Già essa, conoscendo il gran bene che vi riporterà il regno del mio volere, per appagare i miei desideri ardenti e per farmi cessare di piangere ed amandovi d'avere i suoi figli, va girando in mezzo ai popoli, nelle nazioni, per disporli e prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà. Fu lei che mi preparò i popoli a farmi scendere dal cielo in terra e da lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime, i popoli, per ricevere un dono si grande. Perciò ascoltatemi e vi prego, figli miei, di leggere con attenzione queste pagine che vi metto sott'occhio e sentirete il bisogno di vivere della mia volontà. Io mi metterò vicino quando leggerete, vi toccherò la mente, il cuore, affinché comprendiate e risolviate di voler il dono del mio Fiat Divino. Non so se qualcuno di voi ha visto vuole condividere qualcosa. Mentre leggevi l'appello mi è venuta in mente, dato che adesso comincia anche l'avvento, e dalle parole di Gesù mi ricordavano il suo desiderio di compagnia, di voler operare, di voler essere libero di operare, quasi il suo atteggiamento da mendicante che ce lo vuole dare, la sua agonia che vuole venire a regnare come maestro, come padre, come re, mi ricorda proprio l'attitudine di Gesù e le sue stesse parole nei nove eccessi nell'incarnazione. Quindi veo questo appello come il parallelo, così come prima dell'incarnazione che porta la redenzione, la salvezza, c'è un'agonia, un'agonia del verbo incarnato di Gesù, con questi eccessi d'amore che è l'amore trinitano, l'amore costretto, l'amore che vuole divorare, l'amore che vuole operare, l'amore che vuole la compagnia, l'amore che sente imprigionato, l'amore che non è corrisposto, l'amore che è mendicante, e addirittura quello agonizzante, addirittura Gesù, pensiamo, prima di nascere, l'ultimo eccesso d'amore che ci dà, prima di nascere, è la sua agonia, così pure prima di morire sulla croce, dove lui partorisce finalmente la redenzione, agonizza, allo stesso modo, prima di dare il regno della divina volontà, agonizza di nuovo, è la bellezza del modo di operare di Dio, e si vede proprio il suo amore materno, perché l'amore materno è l'amore che ha questa vita dentro, e si sente morire se non la dà, e quindi l'amore materno è amore divino, è nascosto nell'amore paterno, perché l'amore paterno, che è quello di Dio padre, per definizione, è quello che domina, che istruisce, che provvede, però le caratteristiche dell'amore materno all'interno dell'amore paterno, restano per definizione nascoste, per questo lui, per farcele conoscere, le ha messe in Maria Santissima, ma in Gesù, prima che si incarica, prima che muoia sulla croce, dove addirittura parla delle sue ferite come i seni, le mammelle a cui ci dobbiamo attattare, e prima che vuole dare il regno della divina volontà, manifesta proprio, nelle parole e nei fatti, proprio l'agonia di quest'amore materno, che vuole un po' le partorite, e se non lo fa, agonizza, e vuole alimentare il suo parto con se stesso, infatti dice, vengo come re, come padre, non per darvi i tributi, per darvi i confitini, o per darvi qualcosa, ma per darvi, per alimentarvi con la mia stessa vita, e quindi, mentre lo leggevi, mi sentivo proprio di adorare il verbo incarnato, nei suoi eccessi d'amore, nella sua agonia, prima di incarnarsi, prima di ispirare l'ultimo respiro, e prima di partorirci il regno della divina volontà, i tre parti di Gesù. Difatti il regno del Fiat sta tutto preparato nell'umanità santissima di Gesù. Il regno del Fiat sta tutto preparato nell'umanità santissima di Gesù, solo che ci vogliono quelli che lo abitano. L'inguaggio che Gesù teme nella redenzione e quello che tiene per il regno della divina volontà sono differenti l'uno dall'altro. Figlia mia, il regno della mia volontà sta tutto preparato nella mia umanità. Io sono pronto a metterlo fuori per darlo alle creature. Si può dire che ho formato le fondamenta, ho innalzato le fabbriche, le stanze sono innumerevoli e tutte addobbate, illuminate, non di piccole luci, ma di tanti soli per quante verità ho manifestato su il mio Fiat divino. Non ci vuole altro che quelli che lo abitano. Ci sarà luogo e stanza per tutti, perché è vasto più di tutto il mondo. Con il regno della mia volontà tutto sarà rinnovato nella creazione. Le cose si metteranno al loro stato primiero. perciò è necessario perciò è necessario e succederanno molti fragelli per fare che la divina volontà si mette in equilibrio con tutti i miei attributi, affinché, equilibrandosi, lasci il regno del mio volere nella sua pace e la felicità. Quindi non vi meravigliate se ad un tanto bene che sto preparando e che voglio dare precedono molti flagelli. È la mia giustizia che reclama i suoi diritti affinché, equilibrata, si mette in pace con le creature senza dare loro più molestia. Molto più che i figli del regno del mio fio divino non più l'offenderanno e la mia giustizia divina si cambierà per loro tutta in amore e misericordia. Figlia mia, il mio linguaggio fu ben differente nella redenzione da quello che ho tenuto per il regno della mia divina volontà perché nella redenzione il mio linguaggio doveva adattarsi a persone incapaci, deboli, malati, sordi, muti, ciechi e molti sull'orlo della tomba. Quindi per parlare me ne servì di parabole e similitudini del basso mondo che loro stessi potevano toccare con mano. Perciò ora parlavo loro da medico e pongevo loro le medicine per guarirle. Ora da padre che aspettavo il loro ritorno ancorché fossero figli discoli. or da pastore che andavo in cerca della pecorella smarrita or da giudice che non potendo attirarli per via d'amore cercavo di attirarli almeno con le minacce o col timore e tante altre similitudini. Questo mio linguaggio dice che coloro a cui parlavo non mi conoscevano non mi amavano molto meno facevano la mia volontà anzi erano lontano da me e che io con le mie parabole facevo le ricerche e stendevo la rete per pescarli e dare a ciascuno il rimedio per guarirli. Ma quante me ne sfuggivano ed io aumentavo le ricerche e gli insegnamenti per dare luce a tanti ciechi affinché uscissero dalla loro ostinata cecità. Ora vedi com'è differente il linguaggio che ho tenuto nel manifestare le verità sulla mia divina volontà che devono servire per i figli del regno di essa. Il mio linguaggio sul Fiat è stato come un padre in mezzo ai suoi cari amati figli tutti sani e che possedendo ciascuno la mia stessa vita in loro in virtù del mio volere saranno capaci di intendere le mie azioni più alte le mie lezioni più alte e perciò sono passato più oltre mettendo loro avanti le belle similitudini del sole delle sfere del cielo dello stesso modo di operare divino che si estende fino all'infinito perché tenendo in loro il mio Fiat divino terranno in loro colui che ha creato il cielo le sfere il sole darà loro virtù di far copiare in essi tutto ciò che ha creato ed i suoi stessi modi che tiene nel suo operare divino questi saranno i copiatori del loro creatore ed io perciò sono stato così lungo nel manifestare le verità sul mio Fiat ciò che non feci nella redenzione perché erano parabole che contenevano modi umani finiti quindi non potevo non tenevo tanta materia di potermi dilungare tanto invece le similitudini che riguardano la mia volontà sono di modi divini e quindi c'è tanta materia da dire che si rendono inesauribili chi può misurare la vastità della luce del sole e l'intensità del suo calore nessuno chi mai può dare un termine al cielo e alle molteplici mie opere divine o se tu sapessi quanta sapienza amore grazia luce ho messo nel manifestare le mie verità sul mio Fiat divino tu resteresti affogata di gioia da non poter più vivere ed ameresti che il lavoro del tuo Gesù fosse conosciuto per fare che un lavoro sia esuberante che costa prezzo incalcolabile abbia la sua gloria e comunichi i suoi benefici e effetti alle altre creature mi è venuto un pensiero poi magari quando Gesù dice dopo che la terra dice anche qui mi ricordo il punto i flagelli la necessità dei flagelli prima che io ve lo dici per questo passo adesso si si pensa molto a questa cosa e si si parla anche molto e c'è un po' la tendenza a vedere l'aspetto dei flagelli come una questione esterna allora dice cos'è il flagello il flagello sarà il terrorismo islamico il flagello è la postasi nella chiesa allora giù con il sinodo giù con il papa giù con questo giù con quest'altro è come se i flagelli fossero qualcosa di esterno no il regno della divina volontà è un regno interiore quindi nel regno nella costruzione del regno della divina volontà ognuno di noi segue e deve passare attraverso una purificazione e necessariamente passare attraverso un giusto flagello a seconda delle nostre disposizioni delle nostre necessità Gesù dice nel volume 16 quando si sta dentro la sfera della divina volontà bisogna guardare dentro guardare dentro e abbiamo letto nella fusione in Gesù che prendeva spunto da quel passo c'era anche la noticina del volume 18 primo ottobre del 25 vive nella divina volontà vive nell'umanità di Gesù perché Gesù è il centro della divina e quindi guardare verso il centro vuol dire stare fusi dentro Gesù siccome noi però nel palazzo nella sfera della divina siamo abituati ai nostri modi umani dice un altro passo dice siamo sempre abituati a guardare fuori alla finestra fuori al balcone già vediamo qui cosa c'è e dice prima o poi senza che manco se ne accorge l'anima si troverà fuori perché è talmente abituata alle cose di fuori all'odore di fuori a quello che succede fuori che non cammina in punta di piedi all'interno del palazzo per vedere quando viene fuori il re che le dà due doni anziché guardare all'interno si mette a guardare fuori senza che se ne accorge come una sunnambola si trova fuori al portone ed è fuori la divina c'è quindi questo rischio che per me per l'anima per l'anima il flagello non sia tanto il fatto di dire guarda il flagello il fatto medesimo che l'anima si mette a guardare fuori e pensa che il flagello sia quello che dice o non dice il santo padre o quello che succede questo è il suo flagello perché la distrae le dà la cecità e ci sono tante anime che vogliono vivere nella divina volontà che passano la maggior parte del loro tempo a parlare del di fuori a giudicare a definire cosa sono i flagelli a dire quello che si sta facendo o quello che non si sta facendo nella chiesa quello che si dovrebbe fare questo costituisce il proprio flagello perché è una colossale distrazione una colossale tentazione una colossale perdita di tempo e ci dà la cecità quindi è chiaro che uno vede però è quello che noi possiamo fare nel regno della divina volontà è fare a è fonderci in Gesù è voglio dire farci purificare però voglio dire la misura in cui guardiamo fuori e non guardiamo dentro ci flagelliamo quando in realtà stiamo pensando ai flagelli altrui mentre in realtà ci stiamo flagellando noi stessi con farci coinvolgere in cose che ci distraggono dalle verità non so se mi sono spiegato io lo dico a me stessa ma non so se ha senso e quindi il fatto di guardare soprattutto adesso quando Luisa dice in queste situazioni mi pare di aver letto Luisa che dice certe volte non si deve far altro che chiudere gli occhi lo re dice uno deve chiudere oppure quando ad esempio stavo leggendo il volume 28 il periodo della condanna delle calunnie anziché guardare fuori mettersi a guardare quello che ha detto lì quello che ha fatto lì lei si sprofonda dentro è lì che trova la pace questo non vuol dire che non gliene importi no per carità ma è lì che ripara è lì che trova le riparazioni è lì che trova la carità per conquistare i fratelli per pregare per il mondo e non è guardando giudica perché Gesù dice non è il volume 2 non è il volume 32 guardare pensare giudicare è la stessa cosa allora focalizzarsi no farsi rapire e diventare quasi sordomuti a tutto ciò che non è linguaggio di volontà divina verità di volontà divina operare nella volontà divina che è interiore e che non è disposta a condividere lo spazio e il linguaggio con altre cose un'altra cosa che mi colpiva questo regno sempre Gesù parla di costruzione e la costruzione la si vede parla degli scritti e sia nell'anima nostra come nella struttura degli scritti addirittura anche nell'astro questo ne abbiamo già parlato ma lui per costruire prima si fanno le fondamenti la purificazione i primi dieci volumi poi si raccolgono i materiali tante verità nuove nei primi diciannove ci sono tanti passi che parlano di argomenti nuovi i primi passi sull'immacolato i primi passi di come opera la divina volontà nell'umanità i primi passi di come opera la divina volontà nella creazione i primi diciannove volumi sono un abbombardamento di novità e poi dal volume e quindi dice Gesù fino al volume 20 raccolgo i materiali questo lo dice Gennaro del 27 verso la fine è il volume 20 poi che cosa fa inizia a ripetere le lezioni dice ma io questo l'ho già sentito però lo dice in modo diverso quindi li assembla li costruisce però costruisce con i mattoni con i materiali quindi con le singole comunità di ricardo lui aveva già raccolto li mette insieme li combina e questo lo fa fino al volume 25 però lo fa anche nell'anima nostra prima le fondamente ci scava eccetera poi ci riempie di nuove verità poi ce le mette insieme ordinate nella memoria nella mente e poi inizia a decorare dal 25 in poi e lui ritorna sulle stesse verità e i passi sono come sono delle cascate diventano lunghi anche uno stesso periodo sono 5, 10, 6 righe le virgole cominciano a diminuire tutte le virgole cominciano a sparire non ce la fa più e quindi inizia a decorare mi sembra quasi questi mitici artisti grechi con figlia queste cose qua che ho letto ma non immagino manco che sembrano quasi delle deità che decorano con questo talento divino quasi e alla fine viene fuori questa non il patenone ma qualcosa di molto più bello di più glorioso dove le verità sono stampate sono impresse a caratteri d'oro e di luce sulle mura della Gerusalemme e quindi questa è la struttura degli scritti e la struttura della Gerusalemme celeste è anche la struttura che Gesù vuole formare cascate di luce abitua l'anima queste cascate di luce perché poi nella vita eterna sarà quello il lavoro dell'anima di Luisa di prendere e assorbire queste verità e poi darle ai fratelli questo è il compito di Luisa prende anche i nostri atti e li porta davanti al trono dell'eterno quindi questo ha voluto Gesù come coppia finché non ci sarà il numero sufficiente di atti per dare questo regno perché l'ha chiesto è richiesto con la sua volontà e non con la nostra con la sua volontà deve riempire il vuoto il precedente esatto il vuoto tanto è bellissimo questa cosa di cioè il regno dice Gesù leggeo coppia soltanto dentro la divina volontà si ha il diritto di chiedere il regno della divina se io mi metto a chiedere il regno della divina volontà però lo chiedo leggendo i giornali e guardandolo e dico ah signore che guai ma venga il tuo regno no ah questo regno che guarda che stanno combinando ma venga sto regno che ci mette tutti a me li mette a posto no lì io non ho né diritto né ci sto dentro e né ho il diritto e né ho l'efficacia di chiederlo per tanto e quindi bisogna sprofondarsi dentro e acquistare le proprietà del male di nostra madre santissima facevo come il male e fuori non si vede niente e dentro c'era mormorio continuo di preghiera di preparazione profondità di sapienza conoscenza pace e anche giustizia nel senso che anche se le tormente stanno fuori può darsi che sopra la superficie del mare ci sta una tempesta uno va a 30 metri zero come se niente si immerge un attimino dentro fuori sembra che il Titanic sta affondando vai giù non si sente infatti Luisa ha vissuto durante due guerre mondiali però lei faceva solo atti di volontà che davano gloria a Dio e di riparazione per i fratelli e impedrava questa luce a tutti i fratelli non stava a giudicare o a vedere le cose politiche dell'evoca o militare ecco neanche la stessa chiesa non ha giudicato ha sempre dato questa luce ma è stessa quanto è importante Luisa è immersa in questo mare immenso volume 25 primo gennaio del 29 decisione da parte di Dio e aspetta la decisione da parte delle creature che accolgano il regno della divina volontà sulla terra e la facciano regnare volume 25 primo gennaio 1929 figlia da che fu concepito e dai primi giorni del mio nascere io mi occupavo del regno della mia divina volontà e come metterlo in salvo in mezzo alle creature erano questi i miei sospiri le mie lacrime i miei singhiozzi ripetuti le mie pene dirette tutto per ristabilire il regno del mio Fia sulla terra perché sapevo che per quanti beni avrei dato l'uomo l'uomo non sarebbe stato mai felice ne avrebbe posseduto pienezza di bene e di santità né con la divisa della sua creazione che lo costituisce re e dominatore è sempre l'uomo serbo debole miserabile invece con la mia volontà e col farla regnare in mezzo a loro gli avrei dato in un sol colpo di fortuna tutti i beni la sua rezza e il suo dominio perduto sono passati circa venti secoli e non ho smesso i miei sospiri durano ancora e se tante conoscenze della mia divina volontà ti ho manifestato non sono altro che le mie lacrime parlanti e carattere incancellabile delle mie pene e sospiri che formandosi parole si manifestano a te per farti vergare sulla carta coi modi più tenere e convincenti ciò che riguarda il mio volere divino e come vuole regnare come in cielo così in terra quindi la nostra parte divina ha deciso con decreti incancellabili e removibili che la nostra divina volontà venga a regnare sulla terra e non c'è chi ci sposta e come segno di ciò abbiamo spedito dal cielo l'esercito delle sue conoscenze se ciò non fosse non valeva la pena di mettere a repentaglio i tanti valori di una volontà divina come per tanti secoli sono stati nascosti all'uomo così potevano continuare ora aspettiamo la parte delle creature che temporeggiano ancora a decidersi specie quelli che temporeggiano di occuparsi di far conoscere i segreti del mio volere divino e il gran bene delle sue conoscenze volontà umana quanto mi sei ingrata aspetto la tua decisione per darti il bacio e il regno che ti ho preparato e tu temporeggi ancora figlia mia prega e da parte tua non mettere nessun ostacolo ad uno tanto bene che sarà lo sfoggio più grande del nostro amore sì infatti Luisa no prima di vedere sulla carta tutte queste verità non c'è se le ha vissute ha voluto prima imprimere dell'anima e poi ha potuto entrare sulla carta questo immergisi come diceva lì in questo questo in mezzo per questo Luisa si distingue da tutti gli altri non è semplicemente una metà dei messaggi ma Luisa è l'opera del il prototipo dell'anima che vive nella divina quindi lei stessa è il prototipo della celeste di Gerusalemme lei è diciamo è l'anima di prima fattura la prima sedia dice poi vuole le copie ma vuole poi le copie la prima si fa a mano e a tu per tu nell'officina reale e poi una volta fatta la prima le altre li fanno con più facilità basta che si decide a farsi fare c'è un'altra quando parla delle conoscenze nel corso degli scritti giusto come spunto perché di spunti ce ne sono tanti qui nel vettici per esempio dice le conoscenze sono l'esercito in un altro punto parla delle conoscenze come le lettere d'amore in un altro punto sono le conoscenze come i messaggeri qui sono l'esercito l'esercito e le armi dell'esercito sono i nostri atti mi piace questa questa verità dove in realtà c'è questo esercito dove in realtà l'esercito è forte però bisogna armarlo l'arma è l'atto della creatura che utilizza il soldato della conoscenza per moltiplicare la sua potenza con l'ara e questo lo si fa ricevendo la conoscenza e trasformandola in atto in questo attualizzare la conoscenza ricevuta si mette la lancia in mano al soldativo si fa scoccare la freccia che si può molti e poi anche l'altra verità che abbiamo sentito è quella del temporeggiare purtroppo il temporeggiare da parte nostra perché le verità non vogliono temporeggiare però siamo diciamo sono le creature che temporeggiano ad occuparsi a interessarsi e a conoscere e a far conoscenza e se guardiamo la storia di questi primi non lo so questa pre-storia del regno della divina volontà andiamoci come sono soltanto 25 anni che gli scritti più o meno stanno fuori non so forse di più però di fatto gli archivi li hanno aperti nel 94 quando stanno i primi 19 erano già in giro dagli anni 70 le copie fatte dalle suore del divino di sedo o quello che sia siamo veramente nell'era della clava del regno della divina volontà eppure non sanno neanche chi era più carita questo è il problema eh sì quindi sa quanto quanto ancora però la propulsione proprio dipende da questo regno perché Gesù dice che gli atti fatti nella divina volontà e anche le prime creature sono il lievito il lievito attraverso il quale poi questo si molti e quindi basta un interessamento in più un atto in più e chissà quale effetto propulsivo questo produce a beneficio di milioni di creature e anche nel tempo e nello spazio per le generazioni il tempo e il tempo reggiare è interessante vedere queste dinamiche da una parte la chiesa con i suoi modi la sua prudenza il suo andare piano diciamo storicamente piano soltanto apparente perché lo spirito santo opera potenzialmente dall'altro canto invece Gesù che spinge spinge dell'underground le creature e quindi la chiesa madre da una parte che abbraccia che attarezza e che da una parte spinge e da una parte protegge e poi ci sono invece questi messaggeri questi soldatini imprudenti che stanno dentro la chiesa è un'armonia bellissima perché è il modo di operare divino dove magari le autorità della chiesa parlano con il linguaggio della chiesa che deve proteggere e d'altra parte però non dicono perché vogliono è bellissimo per esempio non sono stata nella filippina come si fa e per la prima volta perché i vescovi delle filippine avevano invitato personalmente il vescovo Bicchieri ad andare lui non poteva andare perché aveva delle ordinazioni sacerdotali da fare in settembre ha mandato Don Sergio Pellegrini che è non lo so un assistente ecclesiastico quello che sia della causa di benificazione dell'associazione eccetera però è andato ufficialmente è stata la prima volta no che è corato diciamo come chiesa è andata fuori ufficialmente in un'altra comunità di piccoli figli della divina volontà non in Belgio neanche in Inghilterra ma nelle filippine voglio dire è un'immersione in una cultura diversa completamente diversa in un linguaggio diverso e c'erano lì per esempio Michele Colonna dell'associazione Don Sergio con gli occhi sgarrati aperti nel senso perché è una cultura completamente diversa eppure dice mamma mia siamo così lontani nella lingua nel cibo nel senso dell'umorismo nella cultura nel modo di vestire nel modo di portacchi nel modo di parlare eppure abbiamo tutto in comune il linguaggio della divina volontà è stata un'esperienza favolosa per dire loro dicendo guarda Don Sergio diceva prima di prendere l'aereo la mattina sono andata alla tomba di Luisa e dice allora viene con me Luisa lui lo predicava ha detto questo vieni con me Luisa aiutami portiamo il regno della divina volontà sono venuto qua e ho sentito la risata di Luisa diceva Luisa l'ho detto con una con una semplicità con un'umiltà ho sentito la risata di Luisa che mi diceva Don Sergio io ti aspettavo ti aspettavo qui ti aspettavo con questi fratellini che è stata una festa contigna e lui diceva e allora ha visto qui migliaia di persone seminaristi seminari della ciungla che abbiamo fatto due ore con il camion per andare in queste zone con la pioggia torreziale poi questi seminari altro che non lo so banchi eccetera seduti per terra i seminaristi i gazebo con le piogge tropicali con le scine e così no e questi conoscevano Luisa no con i libri di Luisa dice Luisa e Don Sergio così con gli occhi e addirittura i grilli hanno fatto una festa una festa hanno fatto un concerto cric 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 poi si sono fermati ma bellissimo e allora lui diceva e vedi si pensava no tutta questa cosa di non pubblicare attenzione gli scritti le traduzioni dico ma questi qui a 10.000 20.000 km 40.000 km ma come hanno fatto a conoscere gli scritti con l'infusione con la scienza infusa con il raggio del sole o perché qualcuno gli ha passato con internet o qualcuno ha tradotto qualcuno gli ha detto qualcuno ha sgattaiolato qualcuno ha fatto e allora dico come si muove bene la chiesa allora anche l'autorità dice figli miei che bello e allora padre Sergio diceva gli scritti si possono si devono leggere si devono far passare si devono copiare la moratoria non è mai esistita quello che in realtà non non si deve fare è appunto dire questa è una pubblicazione ufficiale questo è quello che di no però le pubblicazioni diciamo quelle amatoriali quelle che passano attraverso la copisteria quelle che passano attraverso il ciclo stile se ancora esistesse è chiaro e quindi chi ancora addirittura aveva i dubbi tra i piccoli figli dicevano ma possiamo ma possiamo dare i volumi adesso addirittura Picchieri tramite Don Sergio è passato oltre è stato catapultato dai piccoli figli operanti dal passo dice no figli miei fateli moltiplicare questi scritti si non esistono le traduzioni ufficiali ma ci vuole la fiducia fatele circolare è come la luce del sole che non si può fermare e non si può fermare allora hanno visto che i raggi del sole il sole all'inizio c'era come questa idea del controllo no immaginiamoci nel 1600 quando è stato istituito l'indice è stato istituito l'indice perché si pubblicavano forse 30 libri all'anno in Europa allora c'erano quelli del santa ufficio che è una santa pazienza si andavano a leggere questo libro no per carità ci sono concetti di botanica molto pericolosi nel senso che non so oppure non so le teorie copernicana Galileo Galilei ah no non è il sole ma la terra allora quando poi si iniziano a pubblicare con la stampa 300 400 500 e come si fa a controllare adesso ci vorrebbe l'indice delle telenovela l'indice dell'inter l'indice dei siti l'indice del whatsapp l'indice del text l'indice di facebook l'indice di twitter l'indice di quello che sia allora giustamente no paolo VI nel 1960 65 quello che sia l'indice non ha più ragione di esistere perché ha fatto nel senso la chiesa ha messo i suoi paletti però non è possibile il controllo dell'informazione e c'è anche l'indice lui si è stata messa nell'indice nel 38 quello che sia l'indice ma nell'indice c'è stato messo pure San Luis c'è stato messo pure San Alberto Magno per parlare di qualche dottore della chiesa eccetera fa parte proprio della chiesa che le santità vanno quasi compresse vanno passate attraverso la trafila quasi delle persecuzioni perché questa è l'imitazione della vita di Gesù e poi la chiesa stessa si fa strumento di questo e lei stessa resta umiliata però glorifica poi l'igroditica Santa Faustina San Luigi Maria de Monfort San Alberto Magno poi Gloria delle Altari Trionfo degli Scritti lo stesso pure di Luisa e quindi la chiesa si fa in un certo senso protettrice attraverso quasi strumenti che sembrano primere però questi servono soltanto a fare non dobbiamo giudicare la chiesa perché lo stesso Spirito Santo che utilizza questi strumenti utilizza gli archivi del Vaticano e lì e quello e quello di là perché poi la verità più gloriosa all'interno della chiesa venga fuori immaginiamo se gli archivi se gli scritti Luisa non fossero stati confiscati e messi negli archivi del Vaticano immaginiamo chi già ci sono diritti perché io ho il diritto di stampa perché io sono la nipote della nipote di Luisa quindi il volume 8 è mio perché una volta io l'ho toccato mi apro un nipote l'ha tenuto in mano perché io sono amica del nipote di Federico Abres e quindi è il mio il 12 è il mio sarebbe stato un macello allora povero Gesù ha dovuto permettere che qualcuno diciamo non che si giustifica la talunnia però ha permesso che qualcuno ha queste voci così perché fossero stati confiscati fossero stati al sicuro negli archivi del Vaticano e chissà quando i difficili si decideranno a metterci anche il 35 e il 36 perché sono un patrimonio della Chiesa non sono delle deline comunque dire queste mie questioni possono e allora benvengano queste prudenze queste apparenti lentezze queste apparenti oppressioni della Chiesa perché il Signore se ne serve perché siano delle propulsioni che poi al momento qualcuno servono per propagare il Regno con ancora più velocità quindi in realtà non ci siamo più e è bello è stato bello vedere appunto nelle filettine come la Chiesa di più della diocesi di Corato che sembra quella di salvi a dire attenzione potete non potete sono venuti quelli che saltavano come dei gritti contenti felici e dire sì non solo potete ma dovete bellissimo no? parte fatta che però il 35 36 non è che non si hanno saranno in mano proprio il pezzo di carta scritto sarà in mano ad una comunità però assolutamente ce l'abbiamo tutti ormai ce l'abbiamo tutti sì sì no voglio dire io se fossi cioè se ce l'avessi in mano dico non è che il pezzo di carta serve a qualcosa però dico mettiamoli tutti insieme proprio come segno di unità perché dire no mettiamoli tutti insieme voglio dire se se uno ha sette denti di Luisa e io ho l'ottavo dico prende pure questi mettiamoli tutti insieme che me lo tengo a falterti grazie a tutti questi condanni sono stati a te a me 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 e però adesso il Spirito Santo è operato lui a me e allora benvengano benvenga la tua condanna car grazie che sono io di sopra gestire ecco proprio in questo spirito di dire siamo tutti nella stessa famiglia e ognuno ha il suo copito ognuno deve fare il birichino a destra e a sinistra però poi il papà e la mamma dicono venite qui tutti siete stati bravi ognuno doveva fare il suo copito e e e e niente questo questo è Gesù che c'ha lui è lui è la chiesa e lui spinge spinge da sotto e protegge da sopra e quindi tesse le fila di questo regno in modo così diciamo imperscutato i primi che vivranno nel fio divino saranno come lievito del regno della divina volontà volume 25 4 aprile 1929 figlia mia i primi che faranno la mia divina volontà e vivranno in essa saranno come lievito del suo regno le tante conoscenze che ti ho manifestato sopra del mio fio divino saranno come la farina al pane la quale trovando il lievito resta fermentata quanta farina si metta ma non basta la farina ma ci vuole il lievito e l'acqua per formare il vero pane per nutrire le umane generazioni così mi è necessario il lievito dei pochi che vivono nel mio volere divino e la molteplicità delle sue conoscenze che serviranno come massa di luce che daranno tutti i beni che ci vogliono per alimentare e felicitare tutti quelli che vogliono vivere nel regno della mia divina volontà perciò non ti impensierire se sei sola e pochi sono quelli che conoscono in parte ciò che riguarda la mia divina volontà purché si formi la piccola porzione del lievito unito alle sue conoscenze il resto verrà da per sé quello che e quindi abbiamo visto le conoscenze sono l'esercito gli atti sono le arti le conoscenze sono la farina gli atti e i figli della divina volontà sono i lieviti la gente moltiplicatore la gente propulsiva sono gli atti e le creature e la massa sono le cose la certezza della venuta del regno della divina volontà sulla terra è decreto nostro il regno della divina volontà sulla terra tutte le difficoltà ci scioglieranno come neve innanzi a un sole ardente volume 30 3 gennaio del 32 il mio abbandono continua nel fio divino ma mi sentivo preoccupata dal pensiero come mai potrà venire questo regno della divina volontà il peccato abbonda i mali peggiorano le creature mi sembrano indisposte a ricevere un sì gran bene tanto che non c'è anima per quante buone fossero che veramente vogliono occuparsi di far conoscere ciò che riguarda la divina volontà se Dio non opera un prodigio della sua onnipotenza il regno del fio divino potrà stare nel cielo ma per la terra è inutile pensarci ma mentre ciò e altro pensavo il mio amato Gesù facendo la sua solita visita all'anima mia mi ha detto figlia mia tutto a noi è possibile le impossibilità le difficoltà gli scogli insormontabili delle creature si sciolgono innanzi alla nostra maestà suprema come neve di rimpetto ad un sole ardente il tutto sta se noi vogliamo tutto il resto è nulla non successe così nella redenzione il peccato abbondava più che mai appena un piccolo nucleo di gente sospiravano il Messia ed in mezzo a questo nucleo quante ipocrisie quanti peccati di tutte le specie spesso idolatravano ma era decretato che io dovevo venire sulla terra innanzi ai nostri decreti tutti i mali non possono impedire quello che vogliamo fare un atto solo di nostra volontà ci glorifica più che non ci offendano tutti i mali e peccati che si commettono dalle creature perché il nostro atto di volontà è divino è immenso e nella sua immensità abbraccia tutta l'eternità tutti i secoli si stende a tutti quindi non è della nostra infinita sapienza non dare vita a un atto solo della nostra volontà per i mali delle creature noi ci mettiamo dal nostro lato divino e facciamo quello che dobbiamo fare e le creature le lasciamo nel loro lato umano e facendo da sovrani signoreggiamo tutto e tutti anche sul male e mettiamo fuori i nostri decreti ora come fu decreto nostro la mia venuta sulla terra così è decreto nostro il regno della nostra volontà sulla terra anzi si può dire che l'uno e l'altro è un solo decreto e che avendo compiuto il primo atto di questo decreto ci resta da compiere il secondo è vero che ci teniamo alle buone disposizioni delle creature per dare il gran bene che può produrre un atto di nostra volontà e perciò al più prendiamo tempi e ci facciamo via in mezzo ai loro mali per disporli è vero che i tempi sono tristi gli stessi popoli sono stanchi si vedono chiuse tutte le vie non trovano via di uscita anche per i necessari mezzi naturali le oppressioni le esigenze dei capi sono insopportabili giusta pena che hanno eletti per capi uomini senza dio di malavita senza giusto diritto di essere capi che meritavano più una carcere che il diritto delle regime molti troni e imperi sono stati rovesciati e quei pochi che sono rimasti sono tutti vacillanti in atto di rovesciarsi sicché la terra rimarrà quasi senza re in mano a uomini iniqui poveri popoli poveri figli miei sotto il regime di uomini senza chietà senza cuore e senza grazie di poter fare da guida i loro dipendenti già si ripete l'epoca del popolo ebreo che quando ero vicino a venire io sulla terra rimase senza re e stava sotto il dominio di un impero straniero uomini barbari e idolatri che neppure conoscevano il loro creatore eppure era questo il segno della mia prossima venuta in mezzo a loro tra quell'epoca e questa in molte cose si danno la mano e la scomparsa dei troni e degli imperi e l'annuncio che il regno della mia divina volontà non è lontano dovendo essere un regno universale pacifico non ci sarà bisogno di re che lo dominano ognuno sarà re a se stesso la mia volontà sarà per loro legge guida sostegno vita e re assoluto di tutti e di ciascuno e tutti i capi arbitrari e senza diritto andranno in frantumi come polvere al vento già le nazioni continueranno a dibattersi tra loro chi per guerra chi per rivoluzione tra loro e contro la mia chiesa hanno un fuoco che li divore in mezzo a loro che non dà loro pace non sanno dar pace è il fuoco del peccato è il fuoco del fare senza Dio che non dà loro pace e non fanno mai pace se non chiamano Dio in mezzo a loro come regime e vincolo di unione e di pace ed io li lascio fare e farò toccare con mano che significa fare senza Dio ma ciò non impedisce che venga il regno del mio Fio Supremo questa è tutta la roba di creatura del basso mondo che la mia potenza quando vuole a terra disperde e fa sorgere dalla tempesta è il cielo più sereno e il sole più fulgido invece il regno della mia divina volontà è dell'alto del cielo formato e decretato in mezzo alle divine persone nessuno ce lo può toccare né disperdere prima la tratteremo con una sola creatura formando il primo regno in essa poi con pochi e poi facendo uso della nostra onnipotenza lo divulgheremo dappertutto sì certa non ti preoccupare che i mali peggiorano la nostra potenza il nostro amore vincitore che tiene virtù di sempre vincere la nostra volontà che tutto può e che con pazienza invita sa aspettare anche secoli ma quello che vuole deve fare vale più di tutti i mali delle creature davanti davanti alla sua potenza invincibile e il suo valore valore infinito saranno come goccioline d'acqua i mali di esse come tanti non nulli che serviranno al trionfo del nostro amore e alla maggior gloria della nostra volontà compiuta e poi quando avremo la grande gloria di formare questo regno dentro di una sola creatura essa sarà come sole che tutti hanno diritto di godere e possedere la sua luce più che sole darà il diritto a tutte le creature di far possedere un regno sì santo e noi con sapienza infinita abbonderemo di grazie di luce di aiuti di mezzi sorprendenti perché facessero regnare il regno della mia volontà in mezzo a loro perciò lasciami fare quando te l'ha detto Gesù basta è come già fatto tutti i male e tutte le creature insieme non hanno potere né diritto sulla nostra volontà né possono impedire un atto solo della nostra volontà voluta con decreti della nostra sapienza ma non mi aiuto 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 viene il volere supremo a regnare la sua terra e il best di tutte le generazioni di unice e con la sua salute questo ultimo passo che hai letto anche se ho perso un pezzo però è bellissimo perché raccogge tutto tutta tutta la dottrina del regno tutto quello che ci stiamo anche detti fino adesso dove in realtà tutto quello che può passare dice Gesù adesso queste guerre queste cose non impediscono niente e tutte queste cose qui si trovano nell'ambito della volontà permissiva dove Dio permette delle cose per la sua maggiore gloria anche se adesso sono delle cose perché si trovano nell'ambito della volontà umana che vuole agire separatamente alla volontà di Dio però chi vive nella divina volontà vive nel regno della volontà voluta Gesù fa questa distinzione la volontà permissiva e la volontà voluta la volontà permissiva è quando la volontà umana vuole fare qualcosa e Dio non può andare contro la libertà che lui stesso ha dato alla creatura e la lascia fare la lascia fare però ovviamente questa creatura lo deve fare da sola quindi non c'è né aiuto di grazia né aiuto di sapienza né aiuto di illuminazione né aiuto di incoraggiamento da parte di Dio dice vabbè tu lo puoi fare e alla fine poi ti accorgerai lo devo fare e quindi già questo già il fatto che l'anima da sola si mette nella volontà permissiva questo è l'autocastigo che si dà non ha mai pace quindi se lui non ha mai pace non ha mai pace soltanto questo a livello individuale a livello di popoli a livello di nazioni soltanto quando vi faranno regnare soltanto quando chiameranno Dio ad essere re allora troveranno la pace per esempio quando biblicamente che era quel Samuele e dice Signore Dio qui vogliono un re ma gliel'hai detto dice si vogliono un re come le altre nazioni ma io voglio essere il vostro re no lo vogliono perché vogliono andare in guerra vogliono essere potenti ma gliel'hai detto poi che succede le tasse le guerre le morti le oppressioni no il popolo dice vogliamo un re vogliamo un re allora Dio alza le mani e dice volontà permissiva volontà permissiva ok vogliono un re fagliela avere allora in realtà è lui che vuole essere il re non il re degli schiavi ma il re dei re quindi tutto diciamo lo stato delle nazioni lo stato dei popoli è frutto di quell'atto che lo si vede chiarissimo già nel profeta nel libro del profeta quando i popoli il popolo eletto che rappresenta tutti i popoli dicono vogliamo il nostro re lo volete insistete prendete ma noi ritorneremo a Dio perché soltanto quando avremo il fracasso completo diciamo la distruzione completa e l'insuccesso completo diciamo i nostri re non funzionano abbiamo bisogno del re del re di Dio e ritorneremo nella volontà politica lo stesso succede individualmente quando vogliamo fare qualcosa per conto nostro ci mettiamo nell'ambito della volontà permissiva quando poi ci rendiamo conto che troviamo l'assoluto insuccesso allora vogliamo rientrare nella volontà politica chi vive questa è una cosa importante se noi ci fondiamo nella divina volontà abbiamo fatto l'atto di fusione di Gesù chiamato la divina volontà nei nostri ati allora ci dobbiamo convincere che niente dentro e fuori di noi è volontà permissiva tutto è volontà voluta perché se io mi fondo nell'umanità di Gesù e poi dico ah a questo perché mi succede così cosa no se io sto nel regno della volontà di Dio tutto è volontà voluta questo lo è nella misura in cui io ci credo e quindi dico Gesù dalle tue stesse mani prendo questa mortificazione Gesù questo che mi succede dentro e fuori di me è questo che tu vuoi tu lo vuoi per la mia santificazione io non devo pensare Gesù tu lo ho per me no tu lo vuoi e quindi nella misura in cui io mi convinco e guardo dentro e so che sto nel regno della divina volontà che è il regno di volontà voluta perché la Santissima Trinità vive nella sua volontà voluta non nella volontà permissiva allora se io sto in questo regno sto nel regno della volontà voluta guardare fuori è esattamente guardare nella volontà permissiva e andarmi a mettere nella volontà permissiva che automaticamente vuol dire uscire fuori dal regno della divina volontà che è il regno di volontà voluta e in questo regno di volontà è un diritto starvi è un diritto nostro e quindi tutti i mali tutte le cose che possono succedere fuori non intaccano di una iota il diritto dell'anima di starsi di immergersi e di vivere nel regno della divina volontà voluta anche perché no incidentalmente nella volontà permissiva non c'è soltanto il peccato nella volontà permissiva c'è anche il bene il bene umano questa è la cosa più difficile da diciamo da distinire perché se io dico vabbè no il peccato no il male no la guerra no però quanto bene umano quante cose diciamo umane però volute dalla mia umana volontà io magari vorrei fare però mi metto fuori dal regno della divina volontà perché il Signore le permette permette questo piccolo bene umano che io voglio fare dice ma tu potresti fare un bene divino che si moltiplica all'infinito e vuoi stare in questo regno della volontà permissiva mia dove tu hai il permesso di fare quello che vuoi ma quello che vuoi per quanto sia buono o apparentemente buono non avrà la forza propulsiva di moltiplicarsi all'infinito per il bene il problema è che a volte la volontà umana preferisce fare il suo piccolo bene e Dio lo permette anziché mettersi rinunciare al piccolo bene e mettersi nel bene infinito della volontà voluta c'è anche tutta la filantropia a volte si fa per un bisogno nostro personale tutta la filantropia e anche sì tutto il bene che uno vuole fare quante opere grandi buone dice Gesù più per disonorarmi che onorare ma io lo permette quindi la festa di oggi la festa di Cristo Re è preludio del regno della divina volontà il primo brano volume 25 ottobre 28 del 1928 sto pensando alla festa di oggi cioè la festa di Cristo Re oggi no e nel oggi Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la chiesa non fa altro che intuire ciò che deve conoscere sulla mia divina volontà e come deve venire il suo regno perciò questa festa è il preludio del regno del mio fiat divino quindi la chiesa non sta facendo altro che onorare la mia umanità con quei titoli che di giustizia mi sono dovuti e quando mi avrà dato tutti gli onori che mi convengono passerà ad onorare a istituire la festa del regno della mia divina volontà della quale la mia umanità era animata la chiesa va passo passo e ora istituisce la festa del mio cuore ora consacra con tutta solennità il secolo al Cristo Redentore ora passa con più solennità a istituire la festa del Cristo al Cristo Re Cristo Re significa che deve tenere il suo regno deve tenere popoli degni di un tal Re e chi mai può traformarmi questo regno se non la mia volontà allora si può dire tengo il mio popolo il mio fiat me l'ha formato oh se i capi della chiesa conoscessero ciò che ti ho manifestato sulla mia divina volontà quello che voglio fare i suoi grandi prodigi le mie ansie i miei palpiti dolenti i miei sospiri angosciosi che voglio che la mia volontà regni che felici di tutti ripristini tutta l'umana ripristini l'umana famiglia in questa festa di Cristo Re sentirebbero non essere altro che l'eco segreto del mio cuore che facendo eco nel loro senza saperlo mi istituiscono la festa di Cristo Re per richiamare la loro attenzione e riflessione Cristo Re e il suo vero popolo dov'è? e direbbero affrettiamoci a far conoscere la sua volontà divina facciamolo regnare affinché diamo il popolo al Cristo Re che abbiamo chiamato altrimenti lo abbiamo onorato col nome ma non con i fatti io penso si possa fare una riflessione come Gesù nel Vangelo ha detto sappiate che il regno è già in mezzo a voi era lui la sua madre è certissima però noi come uomini abbiamo sempre bisogno delle cose esteriori delle grandi cose quindi io ho la certezza che ci sono già anime che vivono nelle realtà questo è il disegno del Padre anche se sono nascoste perché gli atti sono luce sono questi eserciti che poi chiameranno il regno per tutti però adesso sono fa più clamore il male ne parlano tutti delle giornate però l'atto nascosto del luce infinito eterno quello si può intuire ma solo Dio sarà portato di quest'atto quindi noi siamo sempre abituati ad avere le cose esteriori palpabili questo è un atto infinito eterno immenso che solo Dio può valutare è quasi invisibile però esiste più quello di una realtà che poi muta quindi forse bisogna anche statare da questo fatto di avere tutto sotto controllo perché Dio chissà a quel punto sarà anche male a livello esterno che ho fatto sì tant'è vero che la propagazione nelle conoscenze che sono aumentate aumentano sempre di più con i piccoli è chiaro che gli atti vengono fatti esatto con i piccoli di cui nessuno parla segreto ci sono altri interiori quindi nessuno se ne accorge solo Dio può valutare però aumenta il vento ce ne rendiamo conto sono fatto delle serifine senza che sacerdoti è un'attività è felice di poter fare gli altri è una cosa che è una cosa che sta arrivando stanno a te forse stanno a te a questo famoso c'è la fila i pipì sì è terzo se lo facciamo con questa persona sì grazie ancora un brano oppure chi chiama con la consacrazione Gesù del universo sì se l'altro questa bella di qui ha la consacrazione per incelestri anche allora quella è la fine sì aspettiamo ancora un brano oppure una volta se c'è un altro pagina 7 volume 15 luglio 5 1923 Gesù dice il mio regno sono i miei dolori il mio sangue le mie virtù volume 15 5 luglio del 23 scrive Luisa stavo accompagnando il mio penante Gesù nelle ore della sua marissima passione specie quando Gesù fu presentato dai giudei a Pilato e accusato e Pilato non contente delle semplici accuse che gli facevano gli facevano ritornava alle interrogazioni per trovare o causa sufficiente per condannarlo o per liberarlo e Gesù prendendo il suo dire nel mio interno mi ha detto figlia mia tutto è mistero profondo nella mia vita e insegnamenti sublime in cui l'uomo deve specchiarsi per imitarmi tu devi sapere che era tanta la superbia dei giudei specie per la finta santità che professavano per cui erano tenuti per uomini retti coscienziosi che credevano che solo con l'essere loro a presentarmi e dire che mi avevano trovato colpevole il reo di morte Pilato doveva crederli e senza farli subire farli subire nessun interrogatorio doveva condannarli molto più che avevano a che fare con un giudice gentile pagano che non aveva né conoscenza di Dio né coscienza ma il Dio dispose diversamente per confonderli e per insegnare ai superiori che quanto buoni e santi compaiano le persone che accusano un povero reo non devono credere loro facilmente ma quasi impacciarle con tante interrogazioni per vedere se c'è la verità oppure sotto quell'abito di bontà c'è qualche gelosia rancore o i perstrappare dai superiori facendosi strade nei loro cuori qualche posto o dignità ambita lo scrutinio fa conoscere le persone piccola parentesi lo scrutinio fa conoscere le persone le confonde e si mostra come non si ha fiducia di loro e non vedendosi apprezzati si tolgono il pensiero di ambire posti o di accusare altri quanto male fanno quei superiori quando ad occhi chiusi fidandosi di una finta bontà non di una virtù provata li mettono in posto o danno ascolto a chi accusa di qualche reita quanto non restarono umiliati i giudei nel non essere creduti facilmente da Pilato nel subire tante interrogazioni e che se cedette a condannarmi non fu perché credette loro ma forzato e per non perdere il posto questo li confuse in modo che restò come marchio sulla loro fronte un'estrema confusione e un'umiliazione profonda molto più che scorgevano in un giudice gentile più rettitudine e più coscienza che in loro quanto è necessario e giusto lo scrutinio getta luce luce calma nei veri buoni e confusione nei cattoli e quando volendo scrutinare anche me Pilato mi domandò re sei tu e dov'è il tuo regno io voglio dare un'altra sublime lezione col dire re io sono e volevo dire ma sei tu qual è il mio regno il mio regno sono i miei dolori il mio sangue le mie virtù questo è il vero regno che non fuori di me ma dentro di me possedgo ciò che si possiede di fuori non è vero regno né sicuro dominio perché ciò che non sta dentro dell'uomo può essere tolto usurpato e sarà costretto a lasciarlo invece ciò che c'è dentro nessuno potrà tolgerlo il dominio sarà eterno dentro di lui le caratteristiche del mio regno sono le mie piaghe le spine la croce dove non faccio come gli altri re che fanno vivere i popoli fuori di loro mal sicuri se occorre digiuni io no chiamo i miei popoli ad abitare nelle stanze delle mie piaghe fortificate e difesi dai miei dolori dissetati dal mio sangue sfamati dalle mie carni e solo questo è il vero regnare tutti gli altri regni sono regni di schiavitù di pericoli e di morte nel mio regno c'è la vera vita quanti insegnamenti sublimi quanti misteri profondi nelle mie parole ogni anima dovrebbe dire se stessa nelle pene e dolori nelle umiliazioni e abbandoni da tutti nel praticare le vere virtù questo è il mio regno non soggetto a patire nessuno me lo può togliere né toccare non soggetto a perire nessuno me lo può togliere né toccare anzi il mio regno è eterno e divino simile a quello del mio dolce Gesù i miei dolori e pene me lo certificano e rendono il regno più fortificato ed agguerrito che nessuno potrà muovermi battaglia in vista della mia grande fortezza questo è il regno di pace che dovrebbero ambire tutti i figli e il regno e il regno è il regno sicuro e il regno è 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 il regno di regno è il regno che significa chiamo i miei popoli ad abitare nelle stanze delle mie piaghe fortificate difese dei miei dolori dissettate dal mio sangue sfamate dalla mia carne il regno è il regno sono i miei dolori il mio sangue e le mie virtù c'è il regno della passione c'è qui c'è grazie ai suoi dolori lui ha potuto ridarci il regno quindi noi possiamo fare di altri nella rinunca per i suoi me non è meritata in questo punto si è sempre spaccato non è che vivere in questo regno suo vivere nel regno delle sue piaghe delle sue stime del suo sangue lui nelle ore della passione dice che chiede al padre di trovare tante stanze nella sua umanità per poter accogliere tutte le persone che ci devono entrare quindi salvarsi dice io ho fatto tutto per tutti le stanze hanno diritto di essere ospitati nelle stanze della mia umanità da parte sua sì da parte nostra che dobbiamo fare rifugiarsi in queste pene per poter non solo salvarsi ma anche vivere la figlia quindi fare gatti e la volontà magari avere la vita grazie grazie è una cosa esteriore però lui ti permette anche il scopo della redizione di evitare il prego si è sofferto tanto per evitare il regno delle volontà la passione dice anche che queste stanze non sono solo quelle della mia umanità io voglio aprire quelle della mia volontà no e poi ci sono la mia umanità o la mia divinità perché prima la mia umanità era soltanto c'è già quella redenzione però la mia divinità era anche per il premio quindi che stanze sono che sia nella mia umanità e poi dalla mia umanità poterli far passare nel premio della mia divinità questo dice la mia umanità della passione il mio piano di Gesù non lo voglio sentire e dice chiamo i popoli ad entrare a fare dimora nelle mie piame perché per poter dare il regno della divina volontà lui ha dovuto prima redimere ha dovuto fare il lavoro duro quindi per poter farci rientrare nella sua divinità quindi per usarla come con linguaggio biblico per poter riaprire l'accesso all'albero della vita che si è perso nella Genesi e che si recupera alla fine del libro dell'Apocalisse che è l'umanità di Gesù per poter rientrare in questo albero della vita dentro la sua umanità per vivere della sua divinità ha dovuto farsi squarciare e quindi è soltanto attraverso le sue piaghe ci ha dovuto regire attraverso le sue piaghe che noi passando attraverso la sua umanità possiamo entrare nella sua divina lo stesso pure come nel linguaggio biblico così come gli ebrei hanno dovuto passare attraverso il mar rosso le piaghe dell'umanità di Gesù per entrare dove? nella terra promessa la terra promessa è il regno dove si incontra il regnare voglio dire si incontra la divina volontà si incontra la divinità di Gesù perché la terra promessa è Gesù Cristo però si passa attraverso il mar rosso si passa attraverso le piaghe di Gesù senza ricevere i frutti della redenzione completa della redenzione che ci salva non posso ricevere il frutto completo della redenzione che ci divinì e quindi Gesù ci invita a passare come dice nel volume 14 le mie piaghe le mie sofferenze esterne sono richiami e invitano le creature ad immergersi dentro la mia volontà passando attraverso i forami diciamo delle mie piaghe e dice nei secoli passati tutti i santi del passato sono rimasti diciamo nella baia delle mie piaghe fuori adesso io chiamo ad entrare ad entrare dentro e quindi a trovare come la mia divinità operava nella mia vita vogliamo fare anche usare anche la formula della consacrazione proprio questo nostro re divino è l'ultima l'ultima pagina 18 consacrazione Gesù re dell'universo è la divina questa è la scritta Luisa non lo so non lo so io ma in questo istante non saprei non saprei neanche io perché c'era anche nel libro delle preghiere di quelli su di a parte di coraggio ma quelli di Andrea Magnifico non quelli assolutamente sì c'era nel loro libro anche quelli dell'associazione di Milano quindi non so questo punto sì io credo di sì è bellissimo va bene usatevi in te nella mia volontà abbracciamo loro tutte le creatore mettiamo tutto nel cuore di Giole consacriamo tutti nel cuore Santissimo Gesù re dell'universo Dio di Bontà Dio di Bontà Dio di Amore e di Misericordia io adoro amo ringrazio glorifico la tua volontà Santissima emanata dalla tua onnipotenza guidata dalla tua sapienza accompagnata dalla tua bontà ed amore ovunque ed in ogni tempo sia nella gioia che nel dolore la tua santissima volontà il tuo divino amore sia la stella che rimiro la legge che mi governa l'aria che respiro il palpito del mio cuore la sostanza o meglio la vita della mia vita a tal fine unisco a tutte le mie preghiere ed azioni le tue tutta la mia vita alla tua nonché a quella della Vergine Santissima madre tua e madre mia di San Giuseppe e di tutti i diretti che sono stati sono e saranno con tutto il bene passato e futuro che è reale possibile in cielo e in terra io consacro e dono tutta me stessa quanto ho quanto sono quanto mi appartiene quanti mi sono cari la mia vita la mia morte la mia eternità tutto ciò che hai creato e creerai al tuo supremo volere al tuo infinito amore e ti prego o sapienza infinita di scrivermi a caratteri indelebili nel tuo adorabile cuore qualfino ardente e zelante del tuo divino volere e del puro amore tuo io compio questa offerta e donazione nella potenza del padre nella sapienza del figlio nella virtù dello spirito santo in nome mio ed in nome di tutte le creature e per ottenere l'avvento e l'espansione della divina volontà e del divino tuo amore sull'errore deve fa o mio signore che da ogni labbro e da ogni cuore come la sacra altare si innalzi continuamente al cielo la preghiera che tu stesso per primo rivolgesti al padre venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così terra chiediamo la benedizione alla mamma santissima pure la regina la regina la regina la regina 238 santissima la regina del cuore di Gesù della preghiera 238 mettiamo tutto nel cuore di Maria padre Maria chiedi grazie al Signore e al Ponte tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre mia prega per noi peccatori adesso è l'onore della nostra morte amico sovrana regina vivendo nella divina volontà ti chiedo per me e per tutti la tua santa benedizione scelta essa come celeste ruggiata sui peccatori e li converta sopra gli afflitti e li consoni sopra il mondo intero e lo trasformi nel bene sulle anime purganti e smorzi l'oro il fuoco che le brucia la tua benedizione materna sia degno di eterna salvezza a tutte le anime nella divina volontà Maria Santissima ci benedica ci presenti da ogni mare e pronunci in noi il suo fiat regina del divino volere prendimi sulle tue ginocchia materne e insegnami a vivere solo di volontà divina mio Gesù entro nel tuo volere e faccio mio l'amore e le preghiere della mamma Santissima di Luisa e di tutti i santi per poterti amare e pregare mio dolce Gesù con lo stesso amore e le stesse preghiere della mamma sovrana e con amore e preghiere di tutto il cielo Maria madre regina del divino volere prega per noi Luisa piccola figlia della divina volontà prega per noi Sant'Anipo di Maria di Francia prega per noi vieni o volere supremo a regnare sulla terra investi tutte le generazioni vinci e conquista tutti amén